Quindi benvenuti, grazie della vostra presenza, partiamo adesso con questa che vuole essere anche un po' una festa della ricerca e del progetto Le Voci della Scienza, di cui parleremo e ospitando però anche molte altre testimonianze di altre persone che si sono cimentate in questi anni nel fare divulgazione, soprattutto tra i podcast, ma non solo. Le Voci della Scienza, vi dico subito, è un programma, un progetto che Scienze in Rete con Zadig insieme al gruppo 2003 per la ricerca scientifica si è giudicato da un bando Moore l'anno scorso per la diffusione della cultura scientifica. Ogni tot anni viene fatto questo bando, proprio per spingere la diffusione e la divulgazione della scienza e cose di cui sentiamo particolarmente la necessità. Noi abbiamo presentato un progetto che si chiama Le Voci della Scienza e abbiamo puntato sul cimentarci anche noi di Scienze in Rete insieme al gruppo 2003 nei podcast, nelle testimonianze sonore, nella divulgazione attraverso il sonoro, non solo attraverso i podcast, anche attraverso i filmati, attraverso i webinar e altre rubriche che andremo a raccontare. La cosa interessante di questo progetto è che prevede anche una parte di formazione, abbiamo fatto un bando a cui hanno aderito una trentina di ricercatori e ricercatrici, se ne sono stati selezionati sei, che poi hanno fatto un percorso di formazione per produrre questi podcast. Quindi questo molto nell'ottica e nella filosofia di Scienze in Rete che ormai da quasi una quindicina d'anni è un giornale online di scienza che ha la caratteristica di fare scienza critica, ha un suo modo di concepire il giornalismo scientifico, cioè non il giornalismo di scienza, ma un approccio scientifico, giornalistico a qualsiasi argomento, anche non necessariamente scientifico, ma con gli strumenti della scienza. Però un'altra caratteristica di Scienze in Rete è quella dove è possibile di far intervenire direttamente i ricercatori, farli scrivere, in questo caso farli parlare e farli fare questi podcast, perché abbiamo notato soprattutto nell'esperienza della pandemia che ancora ci sta, anche se meno drammaticamente che il primo anno, accompagnando quanto sia stato importante il contributo diretto dei ricercatori, quindi degli scienziati, degli epidemiologi che hanno fatto balzare peraltro Scienze in Rete dalle 2-3 mila letture quotidiane alle 40-50 mila letture quotidiane nei periodi più duri della pandemia, proprio perché la gente ha alla fine, nonostante la figura non sempre ottima degli esperti in televisione, una naturale fiducia nei confronti di chi deve sapere, sa queste cose e le sa raccontare, però ovviamente, quindi da qui l'importanza anche di un sostegno e di una mediazione di tipo redazionale giornalistico. La voce della scienza ha preso il via nel settembre scorso, si concluderà quindi il 31 agosto, ma non prevedo che in agosto ci sia un particolare attivismo, quindi abbiamo voluto anticipare un po' la riunione conclusiva, anche per rendere conto di questa esperienza, i limiti, le potenzialità, il futuro anche che ha questa modalità per Scienze in Rete e il significato che ha queste forme di divulgazione, appunto per rendere più diffusa, più conosciuta e più apprezzata la scienza. Qui con noi abbiamo alcune delle persone che hanno fatto questo percorso formativo, le persone che hanno fatto il progetto e alcuni anche ospiti esterni, più ne arriveranno ulteriormente durante la giornata e abbiamo anche delle persone collegate, sia che seguono in streaming il nostro convegno, il nostro incontro, ma anche persone che a un certo punto interverranno, ed era qui il motivo tecnico del ritardo di cui ci scusiamo, che interverranno proprio perché sono parte di questo programma. Bene, io do subito quindi la parola alle due persone che ci danno un po' il loro saluto, le loro considerazioni, che sono Maria Pia Bracchio che oltre a essere prolettrice della statale di Milano, è anche presidente farmacologa, neurofarmacologa o farmacologa, neurofarmacologa e presidentessa, presidenta, presidente, poi parleremo anche del linguaggio inclusivo che ci mette tutti molto in difficoltà, del gruppo 2003 per la ricerca scientifica, gruppo 2003 che è un'associazione di scienziati highly cited, ma poi ve lo racconteranno anche loro, e Patrizia Caraveo, astrofisica INAF, a sua volta facente parte del direttivo del gruppo 2003 che ha seguito in modo particolare, fa parte anche della giuria, proprio il progetto Le voci della scienza. Quindi io darei subito la parola a Maria Pia per un suo intervento, saluto, come vuoi se vuoi stare lì o qui. Grazie Luca, mi sentite? Sì. Bene, grazie a Luca, a Carra, a Paolo Recalcati e a Sergio Cima e a tutti i loro collaboratori che hanno di fatto organizzato e promosso questo progetto e l'hanno attuato proprio nella pratica. Il mio ringraziamento viene anche dal direttivo di gruppo 2003 per la ricerca e da tutta l'assemblea. Ora Luca ha già introdotto l'argomento, oggi si parla moltissimo di come comunicare la scienza e di come trovare anche un bilancio adeguato fra la necessità di rispondere al bisogno di sapere del pubblico, dei cittadini e la responsabilità di chi invece trasferisce l'informazione di trasferirla in una maniera corretta, una maniera semplice che quindi sia comprensibile, però al tempo stesso anche senza approssimazioni, in maniera non banale e il più possibile aderente ai fatti. Ora, che la scienza debba parlare ce lo chiedono tutti. Innanzitutto ce lo chiede la Commissione Europea quando parla di Responsible Research, cioè di ricerca responsabile, vale a dire della responsabilità che ha la scienza e i ricercatori in particolare la scienza in generale, di trasferire queste conoscenze al territorio perché qualcun altro le possa utilizzare per il progresso, cioè quindi per migliorare le condizioni di vita dell'uomo, dell'animale, del suo ambiente. Quindi quando si parla di Responsible Research si parla proprio di una ricerca che non solo è naiva, cioè spinta dal bisogno di conoscere e di spingere più in là il confine dell'ignoto, ma è anche una ricerca che si pone in contatto continuo col territorio, ricepisce anche dal territorio i suoi bisogni e cerca di finalizzare, trasformare la ricerca pura, la ricerca di base, quella che direva proprio dalla curiosità in qualcosa che poi può essere anche applicato, anche da altri. L'importante è trasferire l'informazione e renderla disponibile tutti. E la Commissione Europea come anche ormai tutti i media, anche i governi parlano di knowledge based society, cioè quindi una società ideale verso la quale vogliamo aspirare, una società che tutti vorremmo, dove il progresso continuo è proprio basato sulla disponibilità e l'accessibilità continua alla conoscenza. Quindi non solo, nel senso che ogni scoperta fatta al banco di laboratorio venga resa nota, perché possa poi essere traslata, trasformata. Ma soprattutto nel senso di rendere accessibili naturalmente in modo etico, in modo regolamentato e diciamo in modo certificato, tutte le informazioni, centinaia di migliaia di informazioni che oggi vengono prodotte da tutti i device che monitorano quello che succede nell'ambiente e che vanno, tutte queste informazioni vanno a finire nelle banche dati a cui tutti, tutti dovrebbero poter avere un accesso certificato e regolamentato. Quindi una società partecipativa, quindi questa è la prima conseguenza di una knowledge based e una società in cui la conoscenza è disponibile in maniera democratica per tutti e dove soprattutto si dà a tutti, con ruoli e modalità diverse, la possibilità di contribuire al progresso della società, di sfruttare la grande ricchezza che deriva dalla conoscenza e dall'applicazione di tutti i dati che abbiamo a disposizione. Poi ce lo chiede naturalmente che la scienza parli, ce lo chiede ai ministeri, ce lo chiede il Moore in modo molto banale per quello che riguarda tutti i progetti di ricerca pubblica che sono finanziati dal governo e che si svolgono negli enti di ricerca e nelle accademie. Oggi si parla sempre di più di terza missione, di divulgazione scientifica e naturalmente ce lo chiedono anche tutti i portatori di interesse, per esempio le fondazioni, le fondazioni No Profit che a loro volta finanziano la ricerca, anche se sono enti privati e non sono enti pubblici, ma finanziano la ricerca e usano per finanziare la ricerca, il denaro, le offerte, le donazioni che vengono dai cittadini, quindi ce lo chiedono anche i cittadini che donano queste fondazioni affinché le conoscenze possano progredire e perché si possano trovare delle soluzioni ai problemi che ci affliggono dal cambiamento climatico alle nuove forme di energie, di cui oggi anche sentiremo parlare, alla protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dei suoi animali. però i problemi sono ancora molti, i problemi da risolvere sono ancora molti perché innanzitutto c'è necessità di dare informazioni corrette che non vengano travisate, c'è la necessità di evitare nel modo assoluto sensazionalismi e conclusioni affrettate che poi creano aspettative e delusioni e soprattutto c'è un grandissimo bisogno di dare a tutti gli strumenti per muoversi in quel mondo enorme di informazioni che oggi ci bersagliano e questo è il punto fondamentale fin da piccoli, fin dalle scuole elementari, riuscire con l'istruzione e con l'educazione, sapete che questo è anche uno dei grandi obiettivi che si pone questo PMRR per la missione M4-C1, quindi M4 è il mistero dell'istruzione e della ricerca, C1 è proprio l'educazione, quindi riuscire a istruire tutti conferendo a tutti il senso critico per discriminare l'informazione dalle fake news. In questo non solo i media, non solo i giornalisti che a cui spesso diamo la colpa dell'informazione sbagliata, ma anche noi educatori a tutti i livelli, dalle università le scuole medie, alle scuole elementari e perfino all'asilo hanno una responsabilità enorme. Ed infine l'ultima cosa, poi mi taccio, la cosa più difficile è quella di far capire che la conoscenza progredisce a piccoli e grandi passi, che la scienza non è perfetta, che spesso progredisce per errori, che spesso progredisce rompendo dogmi, quindi rompendo dogmi che si tenevano insuperabili fino a quel momento, quindi ogni nuova conoscenza deriva da un modo nuovo di guardare al dato, di guardare alla verità e deriva dalla capacità di liberarsi di tutti i bias e di tutti i preconcetti che ci avvicinano all'innoto, quindi veramente una mancanza, un'ingenuità in un certo senso dello scienziato, del ricercatore, ma anche di chi analizza le informazioni fatte da altri, di guardare a queste informazioni con l'occhio di un bambino che non è condizionato da preconcetti. Questa è una delle cose più difficili da trasferire perché ci dice che la scienza in realtà è in continua evoluzione, la scienza non può dare garanzie, la scienza non può sostituire la responsabilità dei politici e dei decisori, ma la scienza deve affiancarsi alla politica e ai decisori per guidarli, per orientarli in un rapporto sano in cui ciascuno faccia la propria parte. Quindi benvengono le iniziative come oggi che sono fondamentali secondo me proprio per aiutarci a crescere personalmente, a trasferire poi a tutti quelli che ci circondano questi concetti. Grazie molte. Grazie. Bene, grazie Maria Pia Bracchio, peraltro questa caratterizzazione dell'atteggiamento del ricercatore e la sua ingenuità, ma anche la presa d'atto dell'incertezza della ricerca scientifica è quanto mai attuale. Proprio qualche giorno fa si è svolto a Padova il convegno dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che è stata molto segnata e protagonista della pandemia, era tutta dedicata proprio all'incertezza con degli interventi che hanno fatto, costruttiva certo, però così si muove la scienza e la grande sfida della comunicazione è anche quella di comunicare l'incertezza, sia statistica ma non è solo statistica, l'incertezza nella ricerca quando affronta temi come la crisi climatica, la pandemia è d'altro, ma diventa una incertezza che pervade un po' anche la sfera sociale, il conflitto sociale che si genera su molte cose e quindi è grande l'impegno che la scienza deve mettere in questo ed è assolutamente giusto il fatto che proprio perché non può dare soluzioni vere per sempre, questo non solleva coloro che devono decidere da prendere le proprie responsabilità nelle decisioni e di questo parleremo poi nel primo pomeriggio, scienza e decisioni, ricerca e decisioni in politica con altri nostri ospiti che poi man mano ci raggiungeranno. Bene, allora passo la parola a Patrizia Caraveo. Grazie, allora parlando di cercare di comunicare bene la scienza, io conosco in modo approfondito diciamo così tutta la problematica collegata all'astrofisica, io faccio l'astrofisica di mestiere e scrivo anche per giornali e riviste, blog, ogni tanto scrivo anche su Scienza in Rete e la decisione di dedicare parte del mio tempo a questa attività è derivata dal fatto che mi ero stufata di vedere delle notizie completamente stravolte dai giornalisti, giornalisti che disperatamente cercano di sensazionalizzare tutto quello che hanno davanti, devo dire che in questo sono a volte anche aiutati o fuorviati dai comunicati stampa delle grandi agenzie, tanto per non fare nomi la NASA è straordinaria a lanciare dei comunicati stampa, ma in particolare è straordinaria a creare l'aspettativa. 15 giorni prima, se non un mese prima ti dicono il giorno tot, allora tot, vi daremo delle notizie straordinarie. alla faccia che cosa ci devono dire, voglio dire qualche mese fa avevano creato una grande aspettativa, grandi notizie, nuove scoperte nel campo dei pianeti extrasolari. Chiaramente è uno dei campi che interessa di più il pubblico, è quello dalla quale la gente aspetta E.T., quindi la NASA dice vi daremo grandissime notizie, poi viene fuori che hanno scoperto un'altra manciata di pianeti che sono fatti così e non cosa. E allora dice va bene, grazie, ma dov'è la sensazionalità di questa scoperta? Di pianeti extrasolari ne abbiamo già 5 mila, voi ne avete aggiunti 25, siamo tutti molto contenti, ma non è per questo che stanotte non dormiremo. Dopodiché però il povero giornalista o maschio o femmina che sia, viene richiesto dal comitato di redazione di scrivere qualcosa e allora disperatamente questi telefonano dicendo ma secondo lei quando è la grande notizia? E uno deve dire forse la grande notizia non c'è, la grande notizia a volte è il fatto, signori, noi stiamo continuando il lavoro perché le scoperte non è che si fanno dalla sera alla mattina, per carità può succedere che uno abbia l'idea straordinaria, però è molto raro. Le scoperte avvengono con, come diceva la Presidente, con una continua sequenza di passetti incrementali. Io aggiungo un pezzettino, tu aggiungi un altro pezzettino, un terzo critica uno dei due pezzettini e propone di metterli insieme in un modo diverso e in questo modo piano piano si va avanti. Quindi il concetto che è sempre difficile da fare passare molto spesso ai giornalisti che però devono rispondere ai loro direttori, che devono rispondere alle richieste della politica molto spesso, diciamo non tanto nel caso dell'astronomia ma nel caso di gestioni della salute pubblica ovviamente sì, sono disperatamente la ricerca della ricetta che metterà fine ai nostri problemi sanitari, ci permetterà di non ammalarci e tutto ciò è assolutamente irrealistico perché quello che la scelta la scienza può dire è noi raccogliamo i dati, cerchiamo di analizzarli e di sintetizzarli in modo critico per arrivare alle conclusioni che come dicevano prima sia Luca che Mapi hanno un loro margine di incertezza, l'incertezza fa parte della scienza così come fa parte della vita. Quindi quello che la scienza, il messaggio che la scienza può dare, qualsiasi tipo di scienza è che il lettore, bisogna aiutare il lettore o elettrice di qualsiasi età a prima di tutto a non sentirsi inadeguato, quindi parlare sempre in modo il più chiaro possibile senza dare per scontato che la gente abbia delle importanti conoscenze pregresse, sappia interpretare quel gergo scientifico al quale noi siamo abituati, ma mentre bisogna essere chiari bisogna anche cercare di mantenere accesa la scintilla della curiosità, quindi cercare di ispirare le persone. Io credo che uno dei nostri compiti sia sempre quello che noi facciamo gli scienziati fondamentalmente perché è il mestiere più bello del mondo e quindi è il mestiere che veramente ti permette di crescere in continuazione perché sei sempre davanti alla tua ignoranza fondamentalmente. Ti rendi sempre conto che non sai moltissime cose e hai sempre voglia di cercare di scoprire qualcosa di più. Quindi dal punto di vista dell'ispirazione nulla è meglio dell'astronomia. Su questo voglio dire i virus, ma che schifo ragazzi, vogliamo parlare di stelle, le galassie, la gente si è innamorata delle immagini dello Hubble Space Telescope, talmente innamorata che si sono completamente dimenticati tutte le traversie di questo strumento, il fatto che è costato uno zigliardo, che sono stati fatti tutta una serie di interventi per riuscire a correggere degli errori strutturali, ma a questo punto le immagini dello Hubble Space Telescope vanno addirittura nei musei d'arte perché sono delle interpretazioni artistiche degli oggetti celesti, sono talmente artistiche che poi quando la gente guarda attraverso un telescopio dice tutto qui perché quando uno guarda attraverso un telescopio non vede gli effetti speciali, non vede le galassie colorate per l'ottimo motivo che quelle sono state ottenute mettendo insieme dei filtri eccetera. ma la dimensione di ispirare le persone, di spingerli a farsi domande, di avere voglia di imparare credo che sia una dimensione fondamentale della divulgazione scientifica. quindi io sono stata introdotta all'arte dei podcast recentemente, sono molto ammirata dalla capacità dei nostri concorrenti di cercare di dare un ritmo, perché quando uno sente un podcast non solo è interessato a quello che si dice ma anche a come si dice, al fatto che ci siano degli intermezzi musicali, che si crei un certo pathos e effettivamente questa è una nuova dimensione della divulgazione, che non è la divulgazione video, non è Piero Angela non sono i video su Instagram o su TikTok, sono tutti modi diversi per arrivare al pubblico ma sono molto contenta che Scienze in Rete e il gruppo 2003 si siano cimentati con questa nuova dimensione della divulgazione e spero che in qualche modo continueremo a farlo, perché mi sembra che sia un modo molto efficace per arrivare al pubblico di credo abbastanza tutte le età, perché la scienza deve essere inclusiva bisogna affascinare i bambini della scuola materna ma anche i loro nonni perché tutti i bambini della scuola materna devono essere affascinati perché devono iniziare ad amare la scienza e a considerare poi quando andranno avanti nei loro studi che la scienza è un modo di ottenere un lavoro estremamente interessante, magari anche molto soddisfacente, quindi studiare materie scientifiche sapete che è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite aumentare il numero di persone che studiano le materie scientifiche perché sono le materie scientifiche che ci permetteranno di arrivare agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e quindi aiutare a non deteriorare troppo il nostro pianeta da un lato, ma dall'altro i genitori e i nonni dei bambini sono quelli che pagano le tasse e la ricerca pubblica è sostenuta dalle tasse dei cittadini. Quindi i cittadini hanno diritto di sapere quello che gli scienziati fanno con i loro soldi non tantissimi, bisogna dire, ma in ogni caso per uno scienziato comunicare la scienza che fa è un dovere ed è un dovere perché è pagato con i soldi delle tasse dei cittadini. Bene, grazie anche a Patrizia Caraveo che ci ricorda questo dovere che non è diffusissimo in Italia ma si sta un po' sicuramente rispetto al passato ampliando, rispetto a una tradizione anglosassone dove nascono già un po' con questa capacità probabilmente anche per il loro percorso formativo. Entriamo un po' nel merito del progetto delle voci della scienza e dei podcast e a questo proposito c'è tutto un panel di persone, compresi coloro che hanno partecipato a questo percorso formativo che ci racconteranno vari aspetti dei podcast. Io fino a che non ho fatto questo progetto non ho mai sentito neanche un podcast. Odio i podcast, dopo due minuti proprio mi saltano i nervi sono una persona meno adatta, però ci sono invece delle persone che amano i podcast e una di queste, la più preclara che abbiamo qua è sicuramente Giuliano Greco che qui io ho qualificato come scientificast perché questa è una grande esperienza storica dei podcast scientifici italiani, lui poi lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia nella parte della comunicazione, tutti peraltro adesso stanno facendo i podcast, ha cominciato a farle anche all'università degli studi, tutti e avremo anche alcune testimonianze più tardi anche il museo stesso di storia naturale, è una bella carrellata di esperienze. Quindi chiederei subito però a Giuliano un po' di darci un suo inquadramento di che cosa sono i podcast e la sua esperienza perché lui in realtà i podcast li fa da molto tempo. Mettiti pure qua, guarda, seduto in piedi come vuoi. Grazie Luca, buongiorno a tutti, non ho portato slider, non ho portato niente per fare una chiacchierata ma ho portato due appunti così per le prossime 5 ore durante le quali mi ascolterete non perderò il filo. Ovviamente far parlare di podcasting una persona che è appassionata di podcast da più di dieci anni è molto pericoloso, soprattutto quando si dice 5-10 minuti al massimo. Sono noto per essere logorroico ma cercherò di non esserlo troppo e di raccontarvi qualcosa sul podcasting in generale. Intanto faccio una piccola premessa che ovviamente è stata introdotta da voci anche molto più autorevoli chiaramente della mia, l'importanza di comunicare la scienza. Io nasco ricercatore, quindi il mio background è quello del ricercatore nel campo della biologia marina ho fatto un dottorato all'estero, sono rientrato, ho fatto anche un po' di postdoc poi mi sono ravveduto e in realtà poi ho iniziato a preferire quella che era una mia attività collaterale che era la comunicazione della scienza e poi piano piano negli anni è diventato poi un lavoro e mi ha portato a lavorare alla comunicazione dell'Istituto di Anticologia dove adesso sono responsabile della struttura di comunicazione e devo dire che il problema di comunicare la scienza è un problema che ha tantissime sfaccettature. Il primo, che forse abbiamo già citato in precedenza, è che della scienza fondamentalmente frega pochissimo soprattutto i grandi media e le grandi voci nel panorama italiano, mi sto riferendo in Italia non è che sia diversissima la situazione in altri paesi ma sicuramente in alcuni paesi può essere un po' meglio della situazione in Italia e io faccio sempre una riflessione, ovviamente per il mio lavoro tutte le mattine inizia con la rassegna stampa quindi mi leggo 3, 4, 5 quotidiani ovviamente per vedere com'è la situazione e devo dire che in questi ormai più di 10 anni che mi occupo di comunicazione mi rendo conto che ho dovuto per capire quello che c'è scritto in un quotidiano ma nella cronaca o anche nelle sezioni di politica o nell'economia ho dovuto studiare delle cose perché non le capivo, perché il linguaggio dei giornalisti era troppo complesso per le mie nozioni di economia per le mie nozioni di politica, del meccanismo legislativo, sapere cos'è un emendamento quando si propone tutte queste, oppure i bond, lo spread, tutti questi aspetti dell'economia che sinceramente da ricercatore non conoscevo devo dire, quindi ho dovuto studiare molto su queste cose però mi sono anche chiesto ma perché io adesso che sono la comunicazione dell'istituto di ricerca e parlo con un giornalista, gli dico di usare il termine, non so, cellula e già su quello scricchiola, mi dicevo non si può dire una roba che tutti capiscono oppure altre parole leggermente più tecniche, cose che dovrebbero essere di conoscenza di tutti e beneficio comune non si possono usare sui media perché troppo scientifiche non vale però lo stesso discorso per le discipline economiche o per la politica secondo me c'è proprio uno shift, è importantissimo l'economia e la politica probabilmente porta anche più soldi a chi la fa ma la scienza abbiamo visto anche in questi anni e in questi ultimissimi anni è fondamentale per la nostra vita, per tutto il sistema se forse i nostri politici ma anche la popolazione generale avesse avuto un background almeno pari a quello che si ha in economia e in politica forse, dico forse, durante la pandemia ce la saremmo passata lievemente meglio poi magari questa è una mia idea però è una considerazione che mi piaceva condividere con un pubblico che comunque tiene a temi scientifici e di comunicazione detto questo i podcast per me sono un mezzo meraviglioso per comunicare in generale l'audio è un mezzo veramente efficace se usato bene e direi che poi, non so se sentirà qualcosa ma comunque sarà disponibile è disponibile già online, insomma anche le cose fatte in questo progetto le voci della scienza dimostrano come si possa spiegare in modo anche molto originale la scienza ed efficace mi hanno chiesto di parlare un po' di cos'era e cos'è e cosa sarà magari il podcast scientifico in Italia che non è una sfida banalissima perché intanto il podcast scientifico in Italia non c'era fino al 2007 vi direi se non ovviamente quello che proveniva dalle radio o da altri mezzi beh era principalmente radio in realtà all'epoca qualche web radio forse incominciava ad esserci però comunque erano contenuti pensati radiofonici e trasformati in questo podcast che in realtà all'epoca aveva semplicemente significato di essere un modo per distribuire del materiale multimediale fosse materiale audio o video esistevano video e audio podcast come esistono anche adesso però mentre adesso il podcast comunque viene inteso più come audio una volta era semplicemente il metodo di distribuzione e Radio 3 Scienza che molti di voi immagino conoscano è sempre stata un'autorevolissima voce ed è stato forse il primo la prima trasmissione da una radio che parlasse di scienza in podcast e poi dopo Radio 3 Scienza è nato Scientificast che è il podcast di cui io sono tra i fondatori che è nato la prima volta nel 2007 e poi è rinato nel 2011 e infatti è il primo podcast indipendente scientifico italiano nel senso che quando ci siamo voluti anche caratterizzare come podcast indipendente per differenziarci appunto da una realtà sicuramente autorevole con cui abbiamo avuto anche contatti e collaborazioni in passato che è appunto Radio 3 Scienza che però comunque proveniva da una radio, da un network, dalla RAI Scientificast è nato nel 2007 da due persone uno è Paolo Bianchi e l'altro è Simone Angioni che in realtà all'epoca era più dietro le quinte e hanno fatto tre episodi noiosissimi ed è morto il successo di pubblico è stato sfavillante aveva avuto 30-40 ascolti più o meno è stata questa la prima esperienza di Scientificast dopo quel 2007 ci sono stati un po' di anni in cui il podcast in Italia era timidamente partito e probabilmente la maggior parte di voi non aveva mai sentito parlare di podcast ancora in quegli anni nel 2011 io ero appena rientrato dalla mia esperienza di ricerca all'estero mi sono risentito con le persone che avevano fondato la prima versione di Scientificast e abbiamo detto riproviamo a fare il Scientificast così ci siamo ributtati in questa avventura con un taglio diverso, un taglio ironico abbiamo deciso di parlare di scienza in modo leggero all'epoca adesso sembra una cosa scontata ma all'epoca non era scontatissimo non erano tanti che ironizzassero sulla scienza e parlassero di ricerca ma non parliamo dell'ultima notizia che è uscita in modo radiofonico no, prendiamo un paper e lo raccontiamo e questo è stato il nostro primo approccio del 2011 erano Paolo Bianchi e Simona Gioni hanno tirato dentro me quindi sono entrato il terzo poi ne abbiamo tirati altri due, tre, quattro, cinque e adesso siamo circa una ventina di persone che lavorano attivamente a Scientificast che è diventato un'associazione di promozione sociale è diventato un sito quindi ha una produzione di articoli e ho un podcast settimanale quindi ogni settimana portiamo circa un'oretta di scienza che copre un po' tutta la scienza nel senso che all'interno nostro abbiamo diverse competenze quindi Scientificast è stato pensato proprio da come un mezzo per raccontare la scienza ma in qualche modo un po' come scienza in rete far parlare anche chi la scienza la fa quindi molte volte eravamo noi anche attivi ricercatori attivi alcuni di noi ancora lo sono che raccontavano di qualcosa che si stava facendo in quel momento o di qualcosa che faceva un collega comunque la scienza direttamente raccontata dal ricercatore ovviamente questa piccola parentesi non tutti i ricercatori riescono a comunicare la scienza anche se sono d'accordo dovrebbe essere un dovere secondo me dovrebbe esserci un programma di formazione anche universitario ma forse anche pre-universitario sul public communication public engagement e tutti questi aspetti comunque abbiamo ovviamente i ricercatori che collaborano con noi collaboravano con noi hanno sempre tutti avuto un po' un senso di la passione per comunicare la scienza e così ci siamo configurati come una realtà che da un po' a chilometri zero dal ricercatore all'utente senza avere troppi intermediari e questo l'abbiamo cercato sempre di mantenere negli anni ovviamente molti di noi hanno smesso di fare ricerca come spesso accade e lavoriamo tutti più o meno in ambito scientifico qualcuno in ambito di comunicazione comunque sempre tangente a materie e ambiti scientifici e ci siamo un po' espansi in qualche modo quindi spesso spettiamo esperti un po' più diciamo giornalisticamente ma questo l'abbiamo tenuto molto rigido e io questa è una cosa a cui tengo molto come Scientificast abbiamo deciso di parlare di argomenti solo che rientrano nelle nostre competenze quindi non mi sentirete mai parlare su Scientificast di fisica delle particelle o di astrofisica che è bellissima ma io non ci capisco niente non ho le competenze per parlarne ma neanche per intervistare una persona che ne sa preferisco che sia il collega che si occupa di astrofisica che lo abbiamo che può intervistare una persona con più cognizione di causa questo è un nostro un po' marchio di fabbrica con alcuna eccezione però di solito cerchiamo sempre di fare così e questo è Scientificast e all'epoca diciamo che come quando abbiamo iniziato a fare podcast a fare podcast noi eravamo il primo e l'unico podcast scientifico in Italia quindi questo era un po' quello che c'era una volta non esistevano grandi mezzi neanche per fruire ecco questa è una questione l'hardware ha fatto la differenza l'hardware sia per registrare il prodotto perché ha permesso adesso a persone anche con un budget scarso di produrre qualcosa di sensato ma anche agli ascoltatori di fruire i contenuti cioè il podcast nasce anche sull'onda dei lettori MP3 dell'iPod da cui poi si dice che è una delle teorie sulla derivazione della parola podcast e la fruizione del materiale e poi successivamente anche la più attuale quella in streaming comunque influenza in modo molto consistente anche la diffusione dei podcast quindi oggi cosa sono i podcast? com'è la scena scientifica dei podcast in Italia oggi? è molto ricca esistono tantissimi podcast di scienza abbiamo anche stiamo anche osservando un movimento commerciale dei podcast scientifica se stesso ha avuto un paio di spin off più commerciali dove noi abbiamo fatto dei prodotti scientifica è gratuito e lo sarà sempre però alcuni di noi hanno fatto dei prodotti collaterali a scientifica su audible ad esempio ma anche per altre piattaforme adesso uno di scientifica sta producendo una cosa per spotify ci sono i grandi marchi si stanno interessando alla scienza anche un po' qualche testata giornalistica il post sta facendo un podcast scientifico interessante lo stanno facendo anche Radio 24 ad esempio è sempre molto attenta a questi temi non solo all'interno del palinsesto ma sta producendo i giornalisti Radio 24 stanno producendo dei podcast di scienza e tecnologia collaterali alle loro trasmissioni che sono anche molto interessanti distribuiti su diversi canali audible o spotify o altro abbiamo anche più canali di distribuzione oggi un tempo spotify ovviamente non c'era lo streaming dell'audio non esisteva quindi abbiamo spotify abbiamo audible abbiamo story tell abbiamo iTunes era l'unico canale quello che adesso è insomma Apple podcast era l'unico canale all'epoca quando siamo nati noi per essere distribuiti in Italia adesso anche in Italia ci sono molti canali e motori di ricerca Google podcast non è mai andato troppo avanti ma comunque anche quello è un canale dove si possono trovare dei podcast quindi sta crescendo siamo in una fase sicuramente espansiva ma secondo me siamo nella fase in cui si sta definendo un nuovo linguaggio nella prima fase il linguaggio in cui siamo nati noi era quello radiofonico perché quello conoscevamo quindi infatti scientifica se lo ascoltate o lo ascolterete è un free talk cioè una una chiacchierata tra persone appassionate di scienza su temi scientifici adesso ci sono diversi format e le voci della scienza ve lo dimostrano all'interno delle voci della scienza sentirete se non l'avete già sentito una una varietà di di metodi di 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 è come se stessero mettendo insieme adesso le prime frasi diciamo se il passato era abbiamo fatto una frase il presente è stiamo raccontando stiamo scrivendo dei racconti penso che il futuro sarà scrivere un'antologia di racconti o un libro siamo in una fase quindi secondo me di transizione evolutiva verso il futuro e il futuro dei podcast scientifici cosa potrebbe essere? allora personalissimo pronostico che come come solito i pronostici non funzionano mai perché noi ragioniamo con con gli elementi che abbiamo oggi e dovremmo ragionare con gli elementi di domani cosa che è impossibile fare però se facciamo questo sforzo secondo me si andrà sempre di più verso un meccanismo seriale che ricorda quello delle serie tv esatto diciamo netflix o comunque le piattaforme video avrà l'evoluzione del mezzo podcast probabilmente sta andando si sta allineando a quella che è stata del video della televisione che sta cambiando anche il podcast in qualche modo seguirà secondo me questa strada il podcast scientifico in particolare potrebbe e secondo me dovrebbe staccarsi dai format usuali e andare verso format che vadano più in quel senso vadano più nel senso delle serie tv dello spettacolo della fiction probabilmente qualcosa sta già nascendo però i contenuti branded anche delle aziende con format magari innovativi che parlino di scienza potrebbero davvero essere il futuro anche economicamente e un po' di aziende si stanno muovendo ci sono delle aziende grosse che hanno messo in campo molti soldi sui podcast per adesso se guardate le classifiche dei podcast il primo podcast scientifico su spotify è il posto 28 quindi insomma parliamo di prima di arrivare ai primi posti in assoluto dei primi 10 posti secondo me c'è tanta strada da fare e il problema un po' che c'è sempre stato nell'ambito scientifico ma questo è legato non solamente ai podcast ma in generale è un po' il problema della scienza che a volte c'è un po' di snobismo nell'abbracciare diciamo ambiti non completamente scientifici che magari si giudicano troppo pop ci sono dei compromessi ci sono dei compromessi delle vie ancora nuove da percorrere da inventarsi come ad esempio delle serie davvero audio magari quelli che una volta erano i radiodrammi che stanno tornando ovviamente come podcast adesso che abbiano dei contenuti scientifici che però intrattengano con molto lavoro alla base in questo senso il presente ma anche il futuro si vede che lì la strada è tracciata è quella di un nuovo tipo di sound design una volta i podcast accendevi il microfono parlavi ci mettevi una base è una sigla finale adesso invece il sound design l'utilizzo del suono l'utilizzo di inserti l'utilizzo di atmosfera il comunicare le emozioni col suono è quello che fa nei prodotti diciamo di alto livello e farà ancora di più la differenza in futuro io vedo nel futuro un podcast che dando informazioni anche scientifiche riesca comunque ad emozionare le persone grazie al suono e basta e alla voce delle persone e ai contenuti che si danno e il suono se i contenuti magari fanno più fatica ad emozionare dovrebbe fare la parte del leone da questo punto di vista voi quindi vi siete arricchiti col podcast siamo diventati arricchissimi sono venuto in Tesla io non so se hai visto che l'ho parcheggiata fuori così a sfregio dei vigili urbani ovviamente scientificast non è a scopo di lucro e quindi è completamente gratuito noi funzioniamo copriamo le spese con le donazioni dei nostri ascoltatori che fortunatamente sono tantissime milioni l'anno che fortunatamente ci coprono le spese quindi noi effettivamente andiamo più o meno a bilancio zero quindi che è buono ogni tanto ce ne mettiamo ma di più delle volte riusciamo ad andare a bilancio zero e a permetterci anche di fare un raduno in presenza pagato per pensare quindi insomma pagandoci le spese non tutte perché ad esempio io volontariamente mi sono accollato le spese però questi sono meccanismi perché è una cosa che diventa è una nostra creatura e quindi è una passione ovviamente non vuole essere però devo dire che scientificast è stata una palestra per molte persone io ad esempio lavoro adesso il mio lavoro ovviamente è quello della comunicazione nel campo scientifico ma un'altra Ilaria Zanardi ad esempio anche lei tra i primissimi speaker del podcast anche lei lavora nella comunicazione scientifica Simone Angioni uno dei fondatori ad esempio ha scritto due libri recenti negli ultimi due anni è uscito con due libri sulla chimica quindi abbiamo tutti acquisito delle skills che ci hanno permesso anche ecco io poi insieme a loro due abbiamo fatto il progetto con Audible che ovviamente è stato pagato in quel caso anche lì non è stato pagato da diventare milionari però ci ha professionalizzato in qualche senso quindi scientificast sicuramente è stato quello io direi che potrei anche finire non so se Luca voglio chiederti qual è il podcast che ti piace di più questa è una domanda ma non non di scienze in rete che vabbè ma dico neanche di scienza proprio in generale l'autore allora il podcast che mi è piaciuto di più in assoluto quindi non nel settore scientifico che ovviamente scientificast scherzi a parte è un podcast di Matteo Caccia che è un ottimo autore di podcast mi piace molto è un giornalista speaker di Radio 2 e lui ha quello in particolare che mi è piaciuto di più è La Piena che trovate tra l'altro su Audible direi non so se l'hanno distribuito anche forse alcune puntate gratis su Spotify si trovano se no dovete avere l'abbonamento su Audible e racconta una storia di narcotraffico ed è molto molto bello fatto molto bene dal punto di vista giornalistico la storia la serialità lì si sente molto il sound design lì è portato a livelli piuttosto alti e anche la gestione del rapporto con l'ascoltatore quindi se vuoi ascoltare un bel podcast ma anche recentemente invece ne ho ascoltato un altro su Rai Play Sound che non mi ha dispiaciuto perché l'ho trovato originale tratta da un libro di caro figlio tra l'altro coinvolgeva anche Jonathan Zenti che è una persona molto in gamba nel campo del podcasting in questi ultimi anni ma anche insomma di grande esperienza che adesso mi sfugge di Penelope comunque esatto esatto che è su Rai Play Sound quello accessibile gratuitamente e quello è proprio un un radiodramma in senso originale però ad esempio lì fa un uso e questo potrebbe essere parte del futuro del podcasting fa un uso di alcune tecnologie come la tecnologia binaurale che se a sua tecnologia binaurale i microfoni binaurali praticamente sono microfoni che registrano e poi l'audio ti arriva in modo differenziato dall'orecchio destro all'orecchio sinistro proprio come se tu cioè è più immersivo riesci a direzionare la fonte sonora all'interno di una storia e quindi in questa in questa in questa storia ci si trova a un certo punto all'interno del traffico di Milano e si sentono le macchine che passano dietro o di fianco e le persone che parlano davanti a te una a sinistra e una a destra e tutto questo con le cuffie e questo ovviamente se usato bene è un po' come il 3D del cinema che se usato male dà fastidio ma se usato con discrezione può essere un elemento in più un fattore in più per immergere l'ascoltatore nel racconto e io perché no l'avevo anche proposto tra l'altro scientifica facciamo una puntata con 6 speaker che parlano tutto intorno alle persone poi mi hanno detto che era una cosa uno degli incubi più più tremendi per qualsiasi ascoltatore quindi non l'abbiamo mai fatto però bene grazie intanto Giuliano per la sua testimonianza sì dai facciamo domande sì sì domanda aspetta aspetta che arriva adesso il gelato bineurale no adesso beh sì come vuoi comunque vediamo se la montagna va maometto maometto no no va bene va bene giusto ecco ma forse lo deve accendere dal fondo da alzare volume due domande la relazione tra il podcast e l'audio di fronte ah una bella domanda number two c'è secondo la vostra esperienza una durata ottimale del podcast quando è troppo breve quando è da un colucco perché è una cosa che io che come Luca non è che 20-30 secondi non ha pastiglio no il podcast ero molto più abituata al punto giornalistica di intervista mi dicono due minuti tre minuti così quindi uno è abituato a fare così sintesi e invece trova le robe 40 minuti e lo dice anche di più allora sono due ottime domande tra l'altro io sono anche un vorace ascoltatore di audiolibri e devo dire che l'audiolibro paradossalmente secondo me fa tornare a leggere e questa è una cosa io personalmente ho sempre almeno un audiolibro in corso e parallelamente un libro e da quando ascolto audiolibri leggo molto di più ma il tipo il doppio quindi questo è consiglio a tutti l'audiolibro perché ho mezzo che mi piace tantissimo allora tra l'audiolibro e il podcast la differenza è sottile ma anche grande nel senso che se guardate non so se ne avete parlato in qualche parte nel workshop se guardate su web si trovano le 11 golden rules sul podcasting fatti dalla BBC e ci sono in queste golden rules si cerca di definire anche cos'è un podcast e poi in realtà una delle regole quali sono le regole che definiscono un podcast poi una delle regole è vabbè ma non valgono non valgono sì alla fine è un concetto molto liquido quello del podcast però per quello che si intende adesso l'audiolibro è innanzitutto nasce libro cioè c'è prima un libro quindi non nasce audio cioè nasce scritto e poi viene letto di solito e lì ci sono diversi format può essere letto da un autore ad esempio non so Harry Potter letto da pannofino è una cosa da sentire secondo me perché è bellissimo anche per a chi non piace troppo Harry Potter secondo me un'interpretazione incredibile e in quel caso è un autore un attore che legge che è anche un doppiatore che però legge con la sua voce interpreta ma non troppo un libro se no può essere fatto anche a più voci i libri possono essere anche adattati con diversi autori a quel punto a volte si assomigliano un po' a un podcast ma di fatto secondo me la differenza principale è che è più facile l'audiolibro nasce libro e poi può diventare audio è anche vero che può essere il contrario il podcast nasce podcast e può diventare libro e questi ci sono stati dei casi ad esempio sempre su audible ad esempio hanno distribuito un podcast di barba scura che secondo me prima è stato podcast giusto e poi è diventato libro quindi qual è l'audiolibro quello quello che viene prima quello che viene dopo formalmente l'audiolibro è quello che viene dopo il libro scritto quindi la lettura di un libro e poi ecco durata e ci colleghiamo l'audiolibro dura magari sette ore dodici ore un podcast per quanto possa essere lungo a parte qualche americano che fa anche durare tre ore un podcast per quanto possa essere esteso non dura mai più di un paio d'ore in Italia un'ora e mezza credo di aver sentito il podcast più lunghi un audiolibro invece magari possono essere anche venti ore di ascolto che uno ascolta se fai guerra e pace voglio dire no ma anche giusto adesso che non è tanto tempo che lo hai letti ma la saga di Harry Potter in tutto sono sette libri e sono circa nove ore tra le nove le dodici ore l'uno quindi sono diversi giorni uno ci mette anche qualche mese magari a sentirli però ovviamente i podcast la dinamica è diversa per la durata dei podcast è un argomento di battuta ne abbiamo parlato anche durante il workshop esistono podcast di tutte le durate dai due tre minuti fino a più o meno appunto l'ora e mezza diciamo che questo è il range in cui si muovono i principali podcast in Italia non esiste una durata giusta esiste il contenuto giusto secondo me nel senso che se il contenuto può essere fruito in un tempo che è di due di tre di dieci di venti di quaranta di sessanta di settanta di ottanta minuti è il contenuto che guida quindi se se io dico qualcosa di molto noioso per due minuti due minuti è troppo se io dico qualcosa di molto di intrattenimento molto interessante per novanta minuti potrei arrivare alla fine dei novanta minuti ascoltati su più giorni ovviamente che però ne voglio ancora quindi in realtà è una questione molto legata al format e a come viene proposto il contenuto la serialità in questo senso aiuta perché se si andrà verso una serialità anche dei podcast più diciamo divulgativi scientifici si potrebbe creare magari un episodio di mezz'ora che poi crei aspettativa per quello successivo cioè questi meccanismi mutuati dalle serie tv Scientificast noi ci siamo imposti perché siamo tutti dei grandissimi logoroici come potrete apprezzare dal sottoscritto che non andremo oltre l'ora in realtà qualche volta sforiamo abbiamo un format abbastanza rigido esatto con una trasmissione radiofonica esatto e abbiamo un format pseudo radiofonico quindi una parte l'introduzione una parte l'intervista esterna una parte l'intervista dell'intervento interno e ci siamo imposti più o meno delle durate i nostri ascoltatori ne abbiamo chiesto più volte sì ogni tanto dicono forse quando supera i 45 minuti è lungo perché come ne parliamo noi effettivamente dopo 45 minuti anche basta però secondo me non esiste una regola poi personalmente penso che la durata dovrebbe essere tra i 20 e i 60 minuti perché mi permette di sentirli più o meno quando vado al lavoro ci metto circa 20 minuti 25 minuti mezz'ora se c'è traffico e a Genova c'è spesso traffico e quindi 30 minuti mi permette di sentire un episodio o al massimo metà di uno e quindi al ritorno me lo finisco e quindi anche legato ai tempi a quando uno poi li fruisce se hai tanti piatti da lavare anche perché li ascolto anche mentre lavo i piatti o rifai la cucina o fai le pulizie se hai una casa molto grande probabilmente un podcast di due ore ti viene comodo perché così fai tutte le camere e passi anche la cera sui pavimenti va bene due domande allora intanto chiedo a Jacopo e anche a Sergio perché poi ci sarà Benjamin che racconta un po' tutto il progetto e poi i nostri ricercatori e ricercatrici che devono raccontare le loro esperienze e poi altre esperienze esterne a Scienze in Rete con una passerella un po' quindi intanto vogliamo magari raccogliere le domande e noi invece no perché se ce l'hai già falla eh sì si allaccia un po' anche i vari discorsi che sono stati fatti fino adesso allora considerando che io non arrivo dalla scienza anzi sto facendo il master in comunicazione della scienza dell'innovazione alla Bicocca però arrivando da 35 anni di comunicazione in un altro settore quindi sto facendo esattamente il contrario quando io sento queste cose però mi chiedo se mi faccio sempre una domanda ho come la sensazione che questo genere di podcast sia un po' come una parlarsi addosso tra di voi ok e anche gli ascoltatori quelli che li ascoltano alla fine siano sempre persone che hanno a che fare comunque con la scienza e già conoscono che esistono questi podcast la mia domanda è come arrivate alla casalinga di Voghera cioè mi spiace è un termine forse strausato però il concetto è oppure faccio invece la casalinga di Voghera faccio un esempio personale come arrivate a mio marito ingegnere che non gliene frega niente di tutto questo per farlo interessare cioè ci dovrebbe essere una sorta esiste una sorta di promozione al podcast se no è un gatto che si morde la cuore è un parlarsi addosso la seconda domanda è in questo caso cioè facendo anche sempre di riguardo a questo argomento sapete che tipo di pubblico avete? allora intanto noi il scientific stiamo con le persone hanno tutte lauree scientifiche ma da poco siamo visto che c'è l'atmosfera inclusiva abbiamo deciso di prendere anche ingegneri quindi di Voghera abbiamo anche due ingegneri dentro lo staff e li trattiamo uguali agli altri senza discriminazione senza troppe discriminazioni quindi questo cerchiamo quindi abbiamo anche per lavorare su quel target degli ingegneri abbiamo cercato di mettercene un pagno in casa però detto questo sì la prima risposta è sì nel senso che c'è il rischio che i podcast di scienza soprattutto ci si parli solo tra appassionati o comunque persone dell'ambito fortunatamente siamo cresciuti tanto ci sono tante persone appassionate ma non così tante paragonate a qualsiasi altro ambito non so lo sport ovviamente e questo è un po' anche legato al problema che dicevo all'inizio in premessa su quante importanze è data alla scienza e quindi insomma anche quanto investimento c'è nel promuovere la scienza la casalinga di Vogueira o l'operaio della Valbrevenna per fare una cosa più inclusiva è gender equal allora ovviamente scientificast non ce l'ha tanto come target in particolare parlo di scientificast nel senso che secondo me il target nostro è comunque di appassionati di scienza quindi non andiamo forse non siamo neanche nati col target così tanto generalista e questo è un male per certi versi e un bene in altri nei podcast spesso avere una nicchia come era anche all'inizio del web 2.0 dove sono nati anche i podcast generati dagli utenti il target non era 360 gradi era un po' più ristretto poi abbiamo cercato delle aperture però effettivamente c'è un pubblico a cui noi arriviamo conosciamo il nostro pubblico come scientificast perché è un pubblico che è molto attivo noi abbiamo una comunità su Telegram impossibile da stare dietro per me almeno perché sono centinaia di messaggi all'ora e quindi però qualcuno riesce a stare dietro a questa massa di persone sono più di mille persone che parlano su tanti argomenti li abbiamo incontrati abbiamo fatto eventi abbiamo diverse migliaia di persone che sappiamo che sono il nostro zoccolo duro e ci seguono e ci sostengono anche economicamente sono tendenzialmente studenti universitari i più giovani dai 20 a 20 anni in su fino a ingegneri abbiamo scoperto che abbiamo moltissimi ingegneri che ci seguono a raduno abbiamo fatto un raduno un'occasione di aperitivo insieme a Torino durante una nostra recente riunione in presenza e si sono presentati una decina di ascoltatori otto dei quali erano ingegneri quindi abbiamo capito che abbiamo c'è un certo seguito nell'ambito ingegneristico nonostante noi li discriminiamo costantemente ma non c'è niente da fare niente da fare sono forti e quindi più o meno il nostro pubblico è quello arriviamo fino a una fascia d'età diciamo di solito tra i 22 20 22 fino ai 50 anni questo è un po' il nostro pubblico principalmente uomini sbilanciati un po' verso i uomini siamo su 60 e 40 però comunque abbiamo anche un discreto seguito femminile bene bene scusate io voglio passare subito a Benjamin però Benjamin perché Jacopo lo sento dopo perché parliamo di un'altra cosa che non è strettamente il podcast o solo marginalmente quindi anche perché abbiamo ovviamente preso il nostro tempo grazie Giuliano grazie a voi molto per quello che ci hai detto e che ci hai illustrato quindi Benjamin Cucchi è un po' il protagonista della il protagonista di questa formazione che abbiamo fatto per per le voci della scienza e quindi gli do volentieri la parola per raccontare un po' il percorso che hai fatto Benjamin arriva peraltro da un'esperienza peraltro si laurea adesso per la magistrale per qualche giorno in filosofia scelta ottima che condivido e ha fatto una bella esperienza anche di podcasting con l'Università di Torino da Clima a Fondo che è un bellissimo podcast sul clima è venuto da noi a fare questo progetto che ci racconta un po' come è andata e anche per poi dar la parola a quelli che sono i protagonisti di questo progetto grazie grazie Luca grazie Giuliano che hai benissimo introdotto il tema dei podcast scientifici in Italia e allora ovviamente potrei partire raccontando com'è nata questa idea del premio e del workshop perché nel bando del progetto Le Voci della Scienza c'era l'intenzione di in qualche modo far interagire con la comunità scientifica e renderli protagonisti e ovviamente l'abbiamo fatto attraverso i podcast sia attraverso i podcast quelli più che abbiamo chiamato editoriali che sono delle semplici interviste dove appunto per la maggior parte del minutaggio parla lo scienziato o la scienziata ma anche nei podcast quelli più complessi che io e Jacopo abbiamo più che altro prodotto dove ci sono tanti diversi elementi e le interviste però rimangono il focus su cui attorno si viene a costruire tutto il resto dell'episodio però appunto volevamo interagire in modo ancora maggiore e volevamo soprattutto fare una operazione di empowerment cioè se appunto diciamo che sono gli scienziati e le scienziate i ricercatori e le ricercatrici a dover comunicare in prima persona la ricerca dobbiamo comunque dotarli e dotarle degli strumenti per farlo e questo lo si fa attraverso una formazione sia teorica ma soprattutto pratica e per questo abbiamo pensato questo premio nella forma di un workshop ci sono state due sessioni di webinar online e poi abbiamo fatto proprio realizzare ad ognuno delle persone che abbiamo selezionato il proprio episodio partendo dalla scrittura dello script fino al montaggio cercando nei limiti anche delle necessità pratiche di far fare le cose direttamente a loro in modo perché in questi ambiti credo dalla mia esperienza ho imparato che fare le cose è il modo attraverso cui si impara più facilmente certo la formazione teorica iniziale è essenziale ma se non si mette subito in pratica quello che si è imparato non si va da nessuna parte quindi tutto è iniziato con questo bando in cui abbiamo come diceva Luca prima ricevuto una trentina di candidature tutte buone candidature infatti è stato difficile per la giuria decidere giuria composta da principalmente membri di scienze in rete ma anche persone esterne come per esempio Giuliano oppure Patrizia Caraveo che avete sentito prima e niente alla fine abbiamo scelto secondo 4 5 criteri principalmente anzitutto il tipo di contenuto l'interesse che poteva generare e anche l'interesse in relazione a quello che scienze in rete le voci della scienza di solito tratta e poi anche la competenza specifica di chi andava a parlare dell'argomento quindi per esempio abbiamo punito in un certo senso chi voleva parlare di qualcosa di cui non era esperto magari persone che avevano una certa formazione erano ricercatori o ricercatrici nell'ambito X però volevano fare un podcast su un altro ambito invece no abbiamo cercato abbiamo dato preminenza a chi proponeva un podcast su un tema di cui era effettivamente esperto o esperta abbiamo poi anche giudicato l'originalità e l'efficacia del format che ci veniva proposto perché ad ognuno e ad ognuno abbiamo chiesto di darci di presentarci un'idea di un episodio raccontandoci sia il contenuto che il format e di raccontarcelo tramite l'audio questo ci ha permesso anche di giudicare la predisposizione al podcast perché già da un audio di due o tre minuti si capisce qual è l'attitudine a parlare in pubblico se c'è una qualche comunque se la voce era buona perché anche quello bisogna comunque tenerlo in conto e poi l'interesse del profilo in generale abbiamo valutato positivamente esperienze pregresse in divulgazione anche in altri ambiti non per forza podcast e da questa selezione è venuta credo una selezione abbastanza interessante perché abbiamo sia ricercatori che ricercatrici ma anche delle figure un po' più diverse quindi abbiamo per esempio una bibliotecaria un'infermiera quindi abbiamo voluto anche avere un po' di diversità di esperienze un bilancio di genere anche e quindi poi abbiamo iniziato con questa formazione teorica che abbiamo fatto due webinar sostanzialmente il primo era dedicato alla domanda che cosa sono i podcast quindi proprio quali sono le caratteristiche peculiari e in che modo possiamo usarli per la comunicazione della scienza giuliano ha raccontato l'esperienza di scientificas che è appunto un esempio molto interessante perché è molto longevo e poi un secondo incontro dedicato invece più proprio a capire praticamente concretamente come realizzare un podcast da come avere l'idea del format e del contenuto come scrivere per l'audio che è diversissimo da scrivere per il video oppure scrivere per lo scritto per essere letto poi anche come registrare come cercare i materiali sonori e un po' anche come montare ovviamente abbiamo cercato di essere il più pratici concreti possibili ma appunto la parte vera di formazione è venuta dopo magari giusto volevo giusto riprendere due concetti fondamentali di questi workshop che credo siano fondamentali anche per arricchire quello che è già stato detto cioè la domanda è perché i podcast per divulgare la scienza e non qualcos'altro cioè qual è la specificità che i podcast possono dare e io credo che la peculiarità dei podcast in questo senso sono diverse la prima è l'accessibilità sia in termini di fruizione cioè il fatto che i podcast hanno questo vantaggio rispetto a tutti gli altri medium e si possono ascoltare facendo altro come già diceva Giuliano io li ascolto mentre mi sposto mentre faccio le faccende di casa questa portabilità del podcast il fatto che si possano ascoltare facendo altro credo che li rendano molto fruibili e accessibili e per questo che tante persone sempre di più ascoltano i podcast perché si ascoltano non nei momenti liberi non nel tempo libero ma anche in altri momenti e questo diciamo moltiplica le possibilità di ascoltarli abbiamo poi anche un'accessibilità dal lato di chi produce cioè a parità di facciamo un esempio tra audio e video la forza comunicativa è abbastanza simile cioè è diverso però diciamo a parità di forza siamo sullo stesso piano però il podcast è molto più accessibile molto più semplice servono meno conoscenze tecniche oppure anche proprio conoscenze di come farlo è molto più semplice è molto più accessibile e lo dimostra il fatto che sei persone che alcune non avevano mai toccato né un microfono né un sistema di editing siano state capaci con la formazione adeguata di creare il proprio episodio da zero e questo nell'arco di un paio di due tre mesi questo dimostra quanto il podcast sia veramente accessibile e l'altro motivo per cui credo che i podcast siano un ottimo alleato per la comunicazione della scienza è quello che i podcast possono dar voce alla ricerca non sembra ma il fatto di aggiungere corpo alle parole attraverso la voce dei ricercatori e delle ricercatrici anche il fatto che ognuno abbia la propria cadenza abbia il proprio accento il proprio modo di parlare quello aiuta tantissimo a tenere l'attenzione e ad avvicinare le persone a quello di cui si sta parlando quindi poi diciamo è arrivato dopo la formazione teorica è arrivato il momento di mettere in pratica e devo dire che è stato un processo molto molto stancante perché immaginate seguire sei persone contemporaneamente che continuamente ti scrivono per capire se va bene continuamente come dire fare la revisione degli script una più volte poi organizzare le sessioni di registrazione avevamo persone sparse in tutta Italia le abbiamo dovute far venire qua a Milano e poi montare tutto quindi è stato molto stancante ma proprio per questo abbiamo scelto solo sei persone avremmo voluto farlo con tutte le candidature che potenzialmente che ci sono venute ma appunto non l'abbiamo potuto fare per questi motivi molto molto pratici però è stato molto molto bello io come sempre quando faccio progetti di educazione o di formazione alla fine chi educa a chi forma impara quasi quanto o di più di chi è stato educato e formato e devo dire che è stato molto bello interagire con persone che partendo da una competenza nel loro ambito molto ferrata si sono voluti cimentare in qualcosa di nuovo e l'hanno fatto con passione e con molta dedizione io credo che abbiano impiegato tantissimo non so quanto tempo ognuno di loro abbia impiegato ma credo tantissimo credo che ce lo diranno e volevo concludere raccontando un po' qual è stato il risultato quindi abbiamo fatto questa formazione e sono usciti sei podcast molto interessanti anche come varietà nella relazione tra di loro perché abbiamo per esempio due podcast che partono dalla vita da raccontare la vita di una persona per poi parlare delle sue ricerche o comunque di quello che questa persona ha portato in ambito scientifico quindi mi riferisco all'episodio di Daniela Berardinelli sull'evidence-based medicine che parte dalla storia di David Sackett per raccontare appunto che cos'è l'evidence-based medicine quali sono i suoi principi e l'episodio di Sharon Spizzichino dedicato invece alla vita e alle ricerche di Dorothy Crawford Hodgkin spero di averlo detto giusto che non ho capito ancora come si pronuncia sulla cristallografia per esempio ma anche sul suo attivismo politico in ambito di inclusione nella scienza del sesso femminile poi abbiamo invece dal lato questi sono podcast molto con una sola un po' narrativi che hanno cercato di essere narrativi e con anche un'intervista nel caso dell'episodio sull'evidence-based medicine abbiamo al lato opposto per esempio un format come quello di Jacopo De Luca che invece vuole essere molto fiction è un'operazione molto difficile quello di usare le tecniche appunto delle serie tv o della serializzazione della finzione quindi cercare di fare un radiodramma sulla scienza io credo che lui ci sia riuscito è stato molto complesso ovviamente cercare di mischiare narrazione e divulgazione in questo modo però è stato un bellissimo esperimento abbiamo poi invece due format per esempio che sono molto vari diciamo tantissimi elementi per esempio il podcast di Elena De Carolis che c'è all'interno una quantità di voci incredibile migliaia di interviste di interventi diversi su in questo caso le tavole parietali e a partire da quello la dimensione visiva della scienza della comunicazione della scienza per esempio l'importanza dei disegni molto interessante appunto il ritmo che viene dato dall'alternarsi delle voci oppure quello di Enrico Schlitzer sull'intelligenza artificiale in particolare le macchine che scrivono che anche qui c'è una parte maggiore della voce di Enrico che racconta un po' racconta un po' narra e un po' spiega e però anche degli inserti sonori infine l'episodio di Maria Carafalco anche questo molto interessante perché parla dello space weather e lo fa anche inserendo dei suoni che uno non potrebbe aver mai sentito quindi per esempio il suono dell'Aurore Porari il suono della pioggia di particelle che sono interessanti e mostrano proprio le potenzialità del podcast rispetto ad altri mezzi adesso noi faremo parlare di nuovo i sei ricercatori e ricercatrici che hanno fatto questo percorso per raccontarci un po' il perché cioè che cosa gli ha spinti e le ha spinte a partecipare perché quello è anche interessante potrebbe dare credo che crediamo che dia uno spaccato anche di vita da scienziato e scienziata ricercatore e ricercatrice poi gli chiederemo anche come è andata questa esperienza molto positiva per noi credo anche per loro ma anche per capire se c'era qualcosa che potevamo fare meglio cos'è che hanno apprezzato maggiormente e poi qual è il futuro perché l'obiettivo nostro era appunto era quella di renderli e renderle indipendenti quindi il fatto di da adesso in poi volendo voi potete proseguire col vostro podcast e farlo diventare una serie siete autonomi speriamo di esserci riusciti che da questo progetto nascono ulteriori altri podcast e speriamo che anche la formazione teorica che abbiamo reso disponibile un po' a tutti almeno il primo anche quello possa aiutare chi non è stato selezionato o selezionato o chi arriverà più tardi da noi avrà saputo dopo del workshop che questo possa essere d'aiuto per creare diffondere nuovi podcast di scienza bene grazie benjamin e facciamo partire questo è il breve filmato che ci fa vedere il backstage di questa formazione grazie 3, 2, 1 via vi siete spaventati sembrava una sorella di paura poluta vero? una di quelle che si mettono i ragazzini per spaventare gli amici in realtà la seconda è una cosa più interessante il suo autore è un programma di intelligenza artificiale e se pensate che un algoritmo del genere sia una realtà confinati nei laboratori di qualche centro di ricerca all'avanguardia vi state sbagliando il cinema e più in generale l'arte usa da decenni il concetto di intelligenza artificiale o la figura del robot per parlare di tante cose io sono Enrico Schlitzer e questa è le voci della scienza no come mi suona? e questo devi farlo più tipo io sono Enrico Schlitzer e questa è le voci della scienza vai io sono Enrico Schlitzer e questo è le voci della scienza perfetto sono un assegnista di ricerca presso l'INA osservatorio astrofisico di Catania e oggi parleremo di space weather ovvero di meteorologia spaziale apro le particelle di luce che si sono create si chiamano fotoni e viaggiano con altissime energie alla velocità della luce cioè a circa 300.000 km al secondo l'energia viene prodotta nel nucleo del sole cioè nella parte più interna della stella che non è osservabile direttamente con i telescopi il suo volume è pari a circa l'1,5% del totale ma contiene metà dell'intera massa solare anche il fatto che il volume del nucleo sia l'1% del totale è fichissimo cioè è assurdo quindi si cerca di mettere più enfasi la terra e tutti gli altri veneti sono costantemente immersi nel vento solare che cosa succede quando le particelle cariche emesse da un'espulsione di massa coronale colpiscono la terra? le restrazioni disegnare per documentare le specie e non perderne la memoria in questi due secoli a livello di paesaggio e diversità biologica che cosa ci fascina ancora ieri come oggi? ok allora magari vi chiamo in ordine di quando abbiamo pubblicato gli episodi quindi dal primo che è stato pubblicato fino all'ultimo a meno che non ci siano delle esigenze tra persone online e in presenza mi confermate? va bene così? ok allora Jacopo De Luca vieni prima parlo da qui? no vieni pure qua eccoci qua quindi appunto non da gelato quindi appunto la prima domanda è perché hai deciso di partecipare al workshop? allora innanzitutto grazie mille per la magnifica esperienza ecco sicuramente ci sarà una vagonata di ringraziamenti io li dico all'inizio quindi mi metto le mani davanti e il workshop è stata un'occasione appunto per fare quello che hai detto tu prima mi è piaciuto tantissimo un esperimento le voci aggiungo una cosa nuova sicuramente il fatto che le voci della scienza non è soltanto un modo per una palestra un modo per mettersi insomma in prova per un proprio progetto personale ma è anche un modo per sperimentare e quindi che cosa ho fatto? la prima cosa quando si fa un esperimento è studiare e quindi ho studiato e ho partecipato alle voci della scienza proprio perché il mio progetto di tesi nel master la scienza nella pratica giornalistica è stato proprio come si fa un podcast ho fatto uno studio ho raccolto tantissimo materiale e poi il podcast non l'ho fatto e quindi è stato bello poi vedere questa questa chiamata e dire ah vedi è perfetto è l'occasione perfetta per poter mettere in pratica quello che ho studiato fino adesso ed è stato è stato formativo tantissimo poi la pazienza che tu ci hai messo è stata evidente e in particolar modo io ho fatto appunto questo esperimento dove ho cercato di unire una mia passione sia scrivere storie quindi lo storytelling la serializzazione eccetera eccetera con il raccontare la scienza che non è facile sicuramente più che altro per bilanciare il contenuto scientifico con quello narrativo che quella è la grande sfida in realtà sfida che però le voci della scienza ha accettato quindi non solo io mi sono messo in gioco ma anche voi quindi complimenti anche per questo e ti faccio una domanda perché tu a parte questa cosa che c'è la tua particolarità rispetto agli altri che tu eri quello che arrivava già con un progetto che aspettava di essere concretizzato e siamo contenti di averti dato questa opportunità però tu sei anche quello che è arrivato con più competenze perché tu già arrivavi sapendo usare la voce sapendo montare eccetera quindi su questo lato ti abbiamo insegnato qualcosa ti abbiamo aiutato in questo senso allora dal punto di vista uno dei miei problemi principali quando io sono arrivato al insomma alle voci della scienza in questo progetto è il fatto che io per quanto per esempio ho fatto teatro per tantissimi anni per più di dieci anni ho scritto tantissime storie eccetera eccetera io di sound design concretamente che è comunque una parte fondamentale sia per il tipo di podcast sia in generale per i podcast appunto non sapevo praticamente quasi nulla semplicemente ho ascoltato tanti podcast e quindi la mia idea era ah lo voglio fare simile a quello vorrei fare simile a quello lì però chiaramente non c'era un vero e proprio mettersi in gioco che è poi quella che hai detto tu insomma mettersi lì a fare effettivamente il podcast a fianco una persona che ti può aiutare è fondamentale poi per imparare quelli che sono l'abc del sound designer quindi adesso non mi sento un sound designer eccezionale però almeno la qualità di questo podcast e di tutti gli altri poi che sentirete si vede ok con te abbiamo molto discusso sul fatto se fare il tuo podcast con un episodio unico stand alone oppure se farlo come se fosse il primo di una serie appunto in base a questo qual è il futuro di coincidenze o della tua esperienza nei podcast allora questo te lo dicevo anche prima in privato a me fare podcast piace tantissimo come piace tantissimo scrivere storie quindi in qualsiasi contesto lavorativo dove sarò dove andrò eccetera eccetera sia in quello attuale quello che farò è proporre podcast di qualsiasi genere poi in particolare io sono un biologo ambientale quindi parlare di animali in qualsiasi modo in qualsiasi maniera è una grande passione e coincidenze secondo me è una storia terminata serve interessante poi fare altro perché poi scrivere altre storie e apprendere soprattutto magari dagli errori fatti in questa precedente equilibri bilanciamenti eccetera eccetera è importante quindi sicuramente darò voce agli animali in qualche altra maniera perfetto grazie Jacopo grazie a te Enrico Enrico Schlitzer quindi magari ripeto ognuno che cosa ha fatto perché magari non tutti hanno ben chiaro come ce l'ho io quindi Jacopo ha fatto il podcast quello più narrativo su il canto degli uccelli Enrico invece ha fatto il podcast sull'intelligenza artificiale allora perché hai deciso di partecipare al workshop? allora io in realtà sono venuto a conoscenza del workshop in un momento un po' particolare in cui stavo abbandonando la carriera di ricerca che avevo perché di formazione sono un fisico ho fatto un dottorato in matematica poi ho capito che la scienza la matematica mi piacevano molto ma la ricerca non la faceva per me e chiedendomi cosa volessi conservare della scienza di queste cose che mi emozionavano la risposta è stata soprattutto il podcast che è una mia grande passione più in generale il giornalismo scientifico il science writing e sono venuto poi a conoscenza nello specifico di le voci della scienza perché Luca Carra era uno dei professori di un master che stavo facendo in comunicazione scientifica però è stato veramente un momento utile per me perché io volevo provare a fare qualcosa proprio quell'empowerment di cui tu ci parlavi ed è stata secondo me un'occasione bellissima per poter seguire una produzione di un podcast scientifico veramente dall'inizio alla fine che forse è stata la cosa che a me ha dato di più di questo workshop nel senso di poter mettere insieme tutti i pezzi produrre una cosa avere dei riscontri e come anche diceva Jacopo migliorare insomma quello che ci sentiva e fare insomma dei passi avanti in questo senso ok quindi com'è andata? allora stancante ma dopo che hai parlato tu mi sento in colpa a dirlo perché mi rendo conto che per te sarà stata dieci volte più stancante no no infatti anch'io ti rinnovo i ringraziamenti è stato molto bello perché anche il fatto secondo me questo ti inizio a dare un backup secondo me i tempi che avete avuti sono stati buoni perché quello è stato anche un confronto utile cioè uno ok vuole produrre un podcast però non ci può soprattutto visto che spesso l'aspetto finanziario è molto precario non è che possa metterci tre mesi quattro mesi cinque mesi insomma deve anche avere un'idea dei tempi e questa forza è anche un'altra grande cosa che mi ha dato questo workshop cioè capire che sforzo e quanto tempo ci voglia per fare quel risultato lì che è una cosa che ovviamente finché non fai non sei in grado di capire e per il resto forse la grande difficoltà che ho avuto io appunto ero esperto soprattutto di fisica e di matematica e stavo facendo un master in comunicazione della scienza è stato nel capire cosa io potessi dare ad un podcast che non parlava direttamente di una mia competenza di ricerca e diciamo la quadra che ho trovato è stato appunto parlare degli aspetti di comunicazione dell'intelligenza artificiale quindi problemi di come raccontiamo questa tecnologia di come la umanizziamo eccessivamente anche qualche racconto di storie di algoritmi che sono diventati impropriamente dei casi mediatici e questo effettivamente mi ha tranquillizzato nel fatto che i contenuti più personali di quel podcast fossero qualcosa di cui io mi sentivo in titolo diciamo di parlare e le prospettive culture quindi? ma allora io sono proprio innamorato della scrittura per l'audio e in generale dei contenuti multimediali e quindi sicuramente qualcosa che vorrei continuare a fare una delle cose utili proprio di Voci della Scienza è che io ho pensato questo podcast come il primo di una serie e facendolo ringrazio anche molto Giuliano che lavorando all'IT mi ha dato qualche consiglio nel parlare di intelligenza artificiale ho capito insomma che l'idea che avevo era un po' ingenua che non mi interessava portarla avanti in quel modo e ho virato su altri progetti e mi piacerebbe fare tra l'altro uno delle grandi secondo me anche cose belle di questo workshop sono stati i confronti con gli altri partecipanti e le altre partecipanti e soprattutto i formati di Jacopo e di Elena hanno dato degli spunti molto belli perché ovviamente è stato qualcosa che ho vissuto concretamente di fatto da persone vicine a me per come dire realizzare anche dei progetti con dei formati più ambiziosi adesso in realtà mi sto occupando di una cosa in un altro senso abbastanza noiosa perché è un podcast che racconta la ricerca di un gruppo del Politecnico di Milano del professor Quarteroni che sta sviluppando un cuore digitale diciamo la simulazione di un cuore artificiale e però proprio grazie all'input che mi ha dato questo workshop mi è venuta la grande voglia proprio perché si parla di cuore quindi di un organo che ha una sonorità un battito degli elementi sonori che noi riconosciamo di metterci dentro non soltanto la parte appunto di racconto della ricerca ma proprio una parte più più sonora più di sound design che si basi su quel poco che appunto è una ricerca che apparentemente non ha nulla di adatto al podcast come una ricerca di un gruppo di analisi numerica in realtà paradossalmente può avvicinare molto il pubblico perché visto che per esempio poi mi taccio molti dei problemi che questa ricerca vuole curare sono alterazioni del ritmo cardiaco l'alterazione del ritmo cardiaco è una cosa che si può restituire in modo sonoro piuttosto che intervistare un medico in modo molto standard e dirgli ma ci spieghi cos'è l'aritmia io ti dico mi spieghi che suono ha un'aritmia ti faccio sentire questi disturbi come si possono tradurre in modo sonoro e questi sono appunto anche input che mi sono venuti da questa esperienza io mi auguro ovviamente che la ripeterete per altri ricercatori e ricercatrici grazie Enrico grazie a te bello perché proprio si vede come ragionando per i podcast cioè si entra un po' qui in un'ottica ma come si come si ascolta questa cosa cioè su ogni cosa ci si chiede qual è l'elemento sonoro da cui si può partire e Maria Chiara che è online ok dobbiamo devo aspettare Sergio che arrivi a a salvarmi ah ma Maria Chiara adesso stiamo cercando di metterti nelle condizioni di parlare ma ok ok adesso ti vediamo e ti sentiamo ti sentite si aspetta un attimo posso ok vai pure anche per te che cosa ti ha spinto a cioè ci spiace innanzitutto che tu non possa essere qui ma sai sappiamo che gli impegni lavorativi e il covid che hai avuto non te l'hanno permesso quindi per te quali sono i motivi che ti hanno spinto a partecipare si intanto saluto tutti qui da remoto no io ho partecipato perché quando appunto mi è arrivata un'email di questo progetto subito mi si è accesa una lampadina nel senso che io sono una ricercatrice un'assimente di ricerca all'osservatorio astrofisico di Catania e mi occupo di fisica solare ma anche di divulgazione e sono sempre alla ricerca di metodi innovativi per fare divulgazione e quindi questo mi è sembrato subito un workshop che non potevo perdere e così è stato nel senso che sono stata molto molto contenta di aver partecipato e mi ha dato anche come dicevi prima tu gli strumenti pratici per poter poi provare facendo ancora altra esperienza ad andare avanti da sola nel senso a produrre magari altri podcast ok quindi come è stata la tua esperienza del workshop allora devo dire che è stato impegnativo sì ma come ha detto Enrico ti ringrazio perché sicuramente per te lo è stato molto di più e mi è piaciuto sono stati molto interessanti sia gli incontri online ma soprattutto poi la giornata che abbiamo passato lì da Zadig insieme perché come avevi già accennato dobbiamo io non ho una formazione appunto teatrale non sono padrone non riesco a padroneggiare bene la voce e lì provando e riprovando grazie alla tua pazienza diciamo che sono stata soddisfatta di questo mio primo podcast e di come sono riuscita un po' a modulare la voce che inizialmente era piatta e poi abbiamo dato un po' di ritmo al tutto quindi questo è stato fondamentale e poi anche alcuni consigli per quanto riguarda poi la produzione sono stati sicuramente utilissimi c'è ancora da lavorare sicuramente però ora ho gli strumenti per farlo ok appunto hai progetti futuri mi ricordo anche che c'era qualche tuo collega cioè c'era una tua collega che ha partecipato alla fine abbiamo non è stata selezionata ma magari hai intenzione anche di condividere quello che hai imparato sì 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 già glielo avevo accennato e ti hai detto dobbiamo comprare assolutamente dei microfoni dobbiamo portare avanti anche il progetto appunto della mia collega e poi noi lavoriamo molto con le scuole in particolare con i progetti PCTO con i ragazzi delle scuole superiori e sarebbe bello anche proporre questa come attività nel senso riuscire a realizzare un podcast con alcuni ragazzi che collaborano che lavorano con l'osservatorio ecco quindi vorrei appunto portare portare avanti sicuramente il progetto benissimo che bello che bello fantastico grazie Maria Chiara grazie un saluto a tutti buona ventilazione Daniela tocca a te come prima sono dimenticato Maria Chiara ha fatto l'episodio sullo space weather mentre Daniela Berardinelli ha fatto l'episodio sull'evidence based maestine non dobbiamo cambiare la cosa perché l'abbiamo fatto prima allora Daniela anche tu raccontaci cosa ti ha spinto a partecipare al nostro bando e poi a fare effettivamente tutto il percorso ok buongiorno a tutti innanzitutto quello che mi ha spinto è stata la la curiosità un po' anche la sfida una cosa fare una cosa nuova io ho un background un po' particolare perché nasco come infermiera e dopo diversi anni in corsia mi sono anche appassionata alla ricerca ho sempre collaborato nell'ambito della formazione e collaboravo soprattutto nell'ambito della ricerca applicata e quindi ho iniziato a leggere paper a dire ma questi paper però quanto arrivano ai ragazzi che vediamo tutti i giorni arrivano molto poco allora ho provato a tradurli cercare di avere un linguaggio un po' più inclusivo e da lì mi si è un po' aperta una scintilla e da lì si è aperta la via della comunicazione così anch'io come i nostri compagni di workshop ho fatto un master in comunicazione scientifica e quello che mi sono domandata era visto che mi occupo in università di evidence-based medicine come posso avvicinare questo mondo così complesso ai ragazzi universitari e ai studenti di oggi ho detto cavoli il podcast potrebbe essere assolutamente la soluzione proviamo qualcosa di nuovo qualcosa di diverso tant'è che ad esempio la copertina del podcast è stata disegnata da un nostro studente che ovviamente ho cooptato e ho detto ascoltate cosa dobbiamo fare e ho detto ci dei suggerimenti e quindi un po' è stata la curiosità la voglia di fare qualcosa di nuovo e di trasmettere un messaggio che apparentemente alle volte può essere noioso perché quando facciamo lezioni magari con i ragazzi è difficile coinvolgerli su degli aspetti così tecnici forse con un metodo diverso o uno strumento diverso questo potrebbe diventare più efficace e qual è stata la tua esperienza con noi? allora innanzitutto sono rimasta piacevolmente sorpresa della selezione poi ho avuto un momento di panico perché ho detto ok e adesso cosa faccio? e adesso come riesco come posso tradurre questo? tant'è che ho anche cambiato idea più di una volta perché mi focalizzo sul metodo però il metodo il metodo scientifico diventava troppo pesante a un certo punto ho detto no forse mi focalizzo di più sulla vita di chi ha pensato queste cose e anche lì c'era da scegliere perché non era mica solo una figura ce ne erano tante e quella di David Sackett che è poi quella che ho scelto mi sembrava quella più più inclusiva ma anche più umile come pensiero un grande pensiero ma di grande portata e secondo me questo poteva essere bello come messaggio da trasmettere e se non ricordo male tu nella tua proposta pensavi di fare con noi in realtà all'inizio il primo episodio di una serie di podcast più didattici in realtà che tu partivi dall'idea di fare un podcast da usare nell'insegnamento nelle scuole magari adesso poi con noi hai fatto appunto una cosa diversa ma magari per il futuro pensi di tornare su questa idea sì ci sto pensando ma anche lì il problema è sempre lo stesso l'obiettivo è raccontare il metodo ci sono degli elementi molto belli magari della ricerca che si potrebbero raccontare non so la randomizzazione la cecità tutte le parti che compongono un po' il metodo scientifico secondo me l'idea che mi sono fatta io proprio da questo podcast è legare questi aspetti a una storia a un racconto può avvicinare poi in qualche modo includere chi ti sta ascoltando altrimenti rimane solo più la parte asettica e allora lì diventa di nuovo un contesto molto di nicchia è chiaro che magari il podcast sull'evidence-based medicine non lo ascolteranno chiaramente tutti quindi un po' di nicchia secondo me il problema del pubblico ci sarà sempre però probabilmente più umanizziamo il podcast le voci le storie più riusciamo ad avvicinarci agli altri grazie mille Daniela ok adesso chiamo Elena De Carolis che ha fatto l'episodio su tavole parietali e comunicazione visiva della scienza allora anche per te Elena cosa ti ha spinto a dedicarti ai podcast grazie grazie al nostro percorso ma diciamo la call di scienza in rete che io seguo è arrivata nel momento giusto stavo infatti completando la mia tesi per master in diritto in nuove tecnologie per la tutela e valorizzazione dei beni culturali che e l'idea di questa tesi era proprio come creare comunità come creare una narrazione attorno a un oggetto culturale un po' sui generis che sono le tavole parietali didattiche e la tesi proprio arrivava a fare questa formulare quest'idea cioè di creare attorno a queste tavole parietali che sono in parte affisse e incorniciate nei corridoi nelle aule del nostro dipartimento creare delle narrazioni attorno a queste tavole e arrivare anche ancora non l'ho fatto ma lo farò a mettere dei QR code a fianco della tavola parietale in modo tale che appunto ci fosse proprio questa connessione digitale fisico mondo fisico e chiunque magari anche casualmente si trovasse a camminare diciamo per questi ambienti potesse attivare diciamo questa narrazione sonora quindi momento perfetto quindi ho fatto la mia proposta anche io sono rimasta molto colpita insomma dalla questa possibilità che mi è stata data e quindi mi rendo conto ora siamo riusciti a realizzare appunto questa cosa e diversamente sicuramente non ce l'avrei fatta perché la complessità proprio di creare un podcast finché non ci si mette le mani questa cosa è un po' difficile da capire il podcast che abbiamo realizzato è un podcast plurivocale e questa cosa era già appunto nell'idea della tesi perché io sono una bibliotecaria lavoro presso il dipartimento di biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza ho una formazione umanistica e in qualche modo l'idea di creare questi racconti per valorizzare queste tavole che sono bellissime perché appunto sono questi cartelloni molto grandi diciamo un metro per un metro e mezzo o quasi due con questi disegni incredibili realizzati diciamo tra 800 e 900 e la possibilità proprio di creare delle storie in cui le voci dovevano essere quelle di chi abitavano quegli spazi in cui le tavole sono comunque presenti ancora quindi studenti ricercatori docenti era proprio questa l'idea e infatti poi con l'aiuto di Benjamin veramente essenziale devo dire siamo arrivati proprio a costruire uno script che potesse in qualche modo dare voci voce a tutte queste voci e come è stato farlo? cioè proprio a parte come è andata il workshop anche come è andato questa parte di gestire tante persone esterne allora è stato una cavalcata perché comunque il tempo devo dire ecco il discorso del tempo due o tre mesi per realizzare un podcast è stato bello riuscirci però devo dire insomma che è stato molto impegnativo la cosa bella è stata che rispetto diciamo alla chiamata delle persone che hanno partecipato al podcast ho ricevuto grande entusiasmo e disponibilità a partecipare e quindi abbiamo poi tassello per tassello siamo riusciti ad arrivare comunque anche a avere la possibilità di registrare con dei microfoni le interviste con dei microfoni non con dei microfoni ecco a Radio Sapienza e questo attraverso un contatto attraverso il preside di scienze che è Riccardo Faccini che fa parte della redazione di Physicast che poi oggi verrà rappresentata quindi diciamo da una cosa all'altra siamo arrivati fino appunto a Radio Sapienza Andrea Pranovi che ci ha dato una serie di appuntamenti perché le persone erano tanti appunto e quindi siamo andati alla sede di Via Salaria a registrare i pezzi che poi hanno diciamo costituito i vari capitoli del percorso fino ad arrivare alla giornata a Milano che è stata molto bella mi dispiace appunto che ero sola non c'era Sharon con me però è stato comunque molto devo dire bello e interessante scoprire come in realtà l'uso della voce sia fondamentale avere di fianco qualcuno che magari proprio ti dice un po' nel video si vedeva Benjamin magari correggeva o comunque suggeriva un tono diverso proprio nell'ottica del mood che avevamo comunque concordato deciso e questo ha fatto la differenza come anche diciamo proprio la sapienza nel muoversi in un apparato tecnico il mixer eccetera e poi devo dire che è stato molto divertente per me che non avevo mai aperto Audacity passare notti weekend a pulire le tracce anche adesso un po' mi manca devo dire questa cosa infatti è molto impegnativo ma anche estremamente bello e divertente cioè è una cosa molto immersiva cioè ti butti dentro in realtà potresti passare giornate intere il tempo si dilata e tu sei lì che appunto metti i silenzi togli i sospironi togli i bruchi che è un soggigliano che ormai rimane questa cosa però effettivamente e devo dire è stato molto molto bello molto divertente anche ok e quindi avete intenzione effettivamente di portare il progetto di creare per ogni tavola parietale il QR code con i podcast sì l'idea sarebbe quella coinvolgendo sempre la comunità scientifica perché comunque questa cosa nasce prima di tutto anche come momento di consapevolezza e di senso di appartenenza della comunità scientifica rispetto a questo bene culturale un po' strano perché è un po' non si sa bene se è un oggetto museale se è una cosa di cui si devono occupare le biblioteche quindi alla fine rimane un po' nel limbo e come biblioteca questo da anni stiamo proprio cercando di portare avanti questo discorso di fare cose e creare spazi in cui possano accadere delle cose delle conversazioni mi piace citare soprattutto la collaborazione veramente molto fertile con l'associazione giovanile laboratori 11 ci sono le voci di Davide Marzi e di Luigi Suglia all'interno del podcast con cui stiamo continuando a fare cose anche diverse dal podcast eventi eccetera e da anni loro lavorano ormai da anni su proprio questo discorso della consapevolezza della comunicazione visuale nelle scienze e da giovani ricercatori proprio hanno questa spinta e non hanno paura ad andare verso un discorso di contaminazione anche con l'arte e comunque con tutto quello che può essere comunicazione anche al di là degli addetti ai lavori grazie grazie ok abbiamo la nostra ultima persona da sentire Sharon Spizzichino che è online ha fatto il podcast su Dorothy Croft e voglio fare una premessa su Sharon perché secondo me merita veramente un applauso aggiuntivo perché ha fatto tutto il percorso sia a partire dalla formazione che nella pratica diciamo in condizioni che le hanno reso più difficile portarlo avanti e comunque nonostante le difficoltà lo ha fatto Sharon se vuoi dirlo tu se no per la tua privacy non c'è no cosa sia esattamente ho qui la mia piccolina perché nel frattempo durante il percorso io ho partorito quindi non mi è stato possibile venire lì a registrare mi è districiuta veramente tanto quindi adesso la piccolina sta qui sta buona Scarolo non pianga mentre parlo però ci tenevo Benjamin a ringraziarti perché mi sei stato appresso e che mi hai messo a mio agio nonostante appunto le mie problematiche durante la registrazione tra un pianto e l'altro dovevamo andare in moto dovevamo stoppare e ricominciare però è stata una fantastica esperienza e di questo ti ringrazio veramente prego prego ok raccontaci anche tu cosa ti ha spinto a partecipare al workshop sì allora io innanzitutto sono una ricercatrice alla Sapienza di Roma e accanto al fatto di fare ricerca che è una delle mie più grandi passioni con altre ragazze e poi sentirete parlare più avanti nel prossimo intervento di questa iniziativa abbiamo fondato un canale di divulgazione scientifica che è Mad Advances e nell'aria noi ogni volta dicevamo vogliamo fare un podcast vogliamo fare un podcast ma non avevamo in realtà gli strumenti per farlo e quindi abbiamo visto questa call sia io che Carlotta abbiamo applicato Carlotta vi parlerà dopo del progetto Mad Advances e niente anche se le dentistiche veramente per me non erano le più ottimali ho pensato che comunque ci si poteva provare e mi sembra che comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato e quindi niente ho acquisito tantissime nuove conoscenze che sicuramente riutilizzeremo per creare un nostro podcast targato Mad Advances e niente è stato veramente molto formativo perché per me il podcast per noi era qualcosa di irraggiungibile invece ho capito grazie a questa formazione che in realtà si può fare non è nulla di impossibile ed è estremamente accessibile quindi di questo vi ringrazio ancora ok quindi tu sei l'unica che ha fatto la formazione solo online quindi com'è andata anche questo aspetto è stato un limite forse probabilmente il limite è stato non essere con voi in studio e vedere come funziona in realtà uno studio di registrazione però le conoscenze dovete averlo comunque acquisite e quindi è possibile farlo anche a distanza certo magari poi il risultato finale non è buono come quelli registrati in studio però questo è un messaggio che in realtà dalla propria camera da letto con un microfono che non costa molto acquistato su Amazon è possibile anche registrare un podcast come una bambina che piange accanto è comunque possibile giustissimo quindi già dicevi che con Madame Vansys volete continuare ma sempre volete mantenere l'idea di fare un podcast sulle donne nella scienza sempre quello allora il tema di donne nella scienza per noi è veramente prezioso ci siamo affezionate poi appunto sentirete parlare del nostro progetto e diciamo sì si chiama donne nella scienza ma la verità è che noi vogliamo dare voce e dare importanza alla vita di queste ricercatrici ma soprattutto alle ricerche di queste scienziate che appunto molte volte non sono state non è stata data la giusta importanza quindi sì sicuramente continueremo con questa rubrica che ci sta veramente a cuore ma nulla toglie che potremmo parlare anche di altro e sa tutte quante scienziate o ricercatrici magari dare voce anche alle nostre ricerche che sono anche queste importati grazie Sharon grazie mille grazie a voi ok visto che però questo comunque non è stato solo un workshop ma è stato un premio quindi uno dei sei podcast sarà premiato come il migliore e magari prima di annunciare qual è stato l'episodio premiato magari è giusto raccontare quali sono stati i criteri su cui la base della quale la giuria ha scelto il primo diciamo i due principali criteri sono ovviamente quello del contenuto e del format quindi da un lato se i contenuti alla fine erano effettivamente gli interessi raccontati bene con un'attenzione alla divulgazione scientifica come quella che quando si distingue le scelte in rete e in generale la comunicazione della scienza fatta bene e poi il format abbiamo premiato format che fossero o originali o comunque efficaci poi abbiamo anche valutato il percorso di crescita e di maturazione che ognuno di voi e ognuno ognuna di voi ha fatto premiando soprattutto chi effettivamente è riuscito a cioè chi esce di qui con una piena autonomia su ogni aspetto della produzione di podcast e infine anche abbiamo dato uno sguardo ai dati mi sembra sul completamento degli episodi che è il dato più oggettivo su proprio come qual è l'interesse effettivamente se le persone finiscono l'episodio o lo ascoltano dall'inizio alla fine è uno dei migliori indicatori se effettivamente il podcast è stato di qualità e poi abbiamo in altri casi visto anche un po' quante persone hanno ascoltato e altri indicatori di questo tipo come facciamo adesso per la premiazione dici tu Luca forse bisogna dire il premiato o la premiata allora mi sono molto piaciute queste testimonianze che veramente rivelano una passione e un'immersione nel mezzo e anche una fatica che non pensavo se fosse così fatica ecco perché io non faccio i pop ma devo dire che posso immaginare che per arrivare un prodotto così ascoltabile ci sia oltre che passione anche molta fatica e devo dire che sono state delle veramente delle testimonianze belle che hanno dato il senso proprio a tutto questo progetto delle voci della scienza che in realtà ha molti altri aspetti non riusciamo a raccontarli tutti siamo anche un po' in ritardo e quindi vado a dire chi è una persona che ha vinto tutti sono stati e hanno raggiunto secondo noi un buon livello ci sono state anche delle come dire non proprio delle discussioni però come spesso capita in questi casi sto scherzando di far crescere la tensione del momento c'erano probabilmente più di una persona che meritavano di essere premiati però insomma alla fine mettendo in fila tutti questi parametri abbiamo pensato la giuria ha pensato che il prodotto che meritava di più alla fine fosse quello che ha fatto Enrico Schlitzer e quindi chiamo qui a ricevere questa bellissima targa in bronzo in cellulosa ma sicuramente sicuramente poi faremo proprio anche la targhetta che però non potevamo fare nottetempo visto che ci siamo attardati poi a decidere chi fosse il vincitore quindi non siamo riusciti a proprio realizzarla quindi per ora diamo la carta ok fra qualche giorno arriva il bronzo esatto quindi devi accontentarti per ora di questo ovviamente poi tutti gli altri avranno anche la loro testimonianza e la loro certificazione e niente dicci qualcosa magari possiamo dire anche qual è il motivo per cui alla fine abbiamo premiato Enrico probabilmente perché il suo è quello è l'episodio che è riuscito ad avere l'equilibrio maggiore e più che ha reso il podcast molto più ascoltabile tra divulgazione e racconto quindi c'è questa capacità che parte molto dalla scrittura di raccontare e spiegare anche aspetti molto tecnici però in modo dando degli agganci sia narrativi che poi sonori che arrivano che alternano spesso aiutano a tenere la concentrazione e poi penso anche proprio per la ponderazione della riflessione sulle intelligenze artificiali e su come se ne parla che credo è stata molto apprezzata da tutti tutte grazie io sono molto emozionato quindi palpetterò un pochino però e non lo dico per ovviamente dire una cosa un po' retorica a me ma lo dicevo già prima una delle cose che più è piaciuta di questo percorso è stato il poter vedere come altre persone pensavano i loro oggetti e poi vederli realizzati quindi sono molto contento ovviamente di questo riconoscimento però una delle cose che mi porto veramente a casa è stata i prodotti che hanno realizzato altri che secondo me erano veramente di valore e lo dico molto onestamente anche la voglia di copiarne un po' alcuni quindi spero di potervi copiare in futuro almeno un pochino grazie grazie a voi devo dire che effettivamente c'era un po' l'imbarazzo della scelta se devo dire qualcosa di personale a proposito di come ho vissuto i podcast che sono riuscito ad ascoltare tutti fino alla fine per esempio quello di Jacopo De Luca secondo me aveva una era magistrale dal punto di vista sonoro tecnico e anche la narrazione molto coinvolgente probabilmente come diceva prima Benjamin è prevalsa lo storytelling sul contenuto scientifico che però comunque si è innestato molto bene questa idea del canto degli uccelli è stata un'idea molto bella e devo dire che siamo rimasti molto molto colpiti dalla qualità sia narrativa che sonora di questo podcast io mi sono poi spaventato tantissimo ascoltare lo space weather di quello che può succedere quando queste tempeste solari dovessero ripresentarsi cioè quello di Maria Chiara Falco che ho trovato molto molto informativo interessante ma anche quello sui cristalli scoprire che il sale è un cristallo per esempio molti altri che lo so ma qui siamo livelli proprio di analfabetismo scientifico che mi hanno fatto sì che abbia apprezzato sulla struttura cristallina qui c'è la chimica nostra e di quanto insomma questo Nobel abbia portato alla cultura scientifica così come bellissimo quello sulle tavole parietali che mi ricordo ancora quelle che c'erano appese nelle mie scuole elementari cioè fare una cosa su una cosa visiva con sonoro o è un colpo di genio o è un suicidio programmato però secondo me in realtà ci si è riusciti bene anche proprio a raccontarlo e poi quello dell'evidence based medicine attraverso appunto la vita di David Sack è stata una bella idea perché di suo l'evidence based medicine è una bella botta quindi se non la si anima raccontando la storia di una persona e direi che ci siete che ci sei riuscita Daniela molto bene quindi veramente sei belle storie tra cui poi alla fine per il convergere di questi parametri appunto la Giulia ha voluto segnalare in particolare queste ma tutte le abbiamo pubblicate tutte stanno per essere come? Sono state sentite soprattutto Sergio che ha tenuto i conti sono state sentite centinaia di volte non siamo certo ancora ai livelli né di scientific né dei podcast commerciali però le abbiamo cedute e come dire rilasciate sui vari media come Spotify Spreaker eccetera e quindi stanno continuando ancora oggi ad essere ascoltate con sicuramente ed era questo anche poi l'obiettivo finale di Scienze Rete quello di non solo farci leggere ma farci ascoltare e acquisire nuovi pubblici e questo in parte è un esperimento anche riuscito quindi questo è molto importante bene siamo in un discreto ritardo prima di dare la parola ai nostri compagni di viaggio meglio gli ospiti che stanno facendo delle esperienze simile alle nostre volevo vedere se era ancora in collegamento Eva Benelli che insieme a Chiara di Lucente che invece grazie Enrico grazie è ancora qui presente ci fa un po' il punto di un tema che ci preme molto che preme molto a Zadig che preme molto a Scienze in Rete che è quello del linguaggio inclusivo che in qualche modo fa parte visto che sempre di voci si parla delle voci della scienza e quindi facciamo una breve punto sulle riflessioni fatte a proposito del linguaggio inclusivo poi passiamo alla parola appunto le altre esperienze di podcasting e simili per poi finire questa prima tornata della mattina mangiarci il pranzo al sacco ai giardini e tornare per una ripresa pomeridiana nelle prime ore quindi Eva ci senti? Siete Eva Benelli che è una socio di Zadig che fa parte dell'Arendazione di Scienze in Rete che si collega da remoto eccola ciao ciao buona mattina a tutti mi scuso per non essere lì sono molto invidiosa di perdermi il pranzo al sacco ma devo andare a prendere un aereo quindi sarò anche abbastanza rapida in quello che cominciamo a dirvi sul percorso che Zadig sta facendo appunto di riflessione su questo ampio complicato discorso del linguaggio inclusivo noi lo facciamo anche perché Zadig è diventata dalla fine dell'anno scorso società benefit che vuol dire che ci permettiamo il lusso di fare delle attività di ricerca di approfondimento di confronto culturale insomma quello che chi più ne ha più ne metta anche al di là diciamo di una logica appunto classica professionale ci piace pensare certamente di avere poi delle ricadute professionali ma di poter fare appunto una serie di ragionamenti insieme su temi che comunque stanno dentro come diceva anche Luca prima nel discorso comunque dell'impatto della scienza sulla società della lettura sociale della scienza insomma se vogliamo appunto usare questo gioco di parole quando pensavo quello che avrei detto oggi mi veniva in mente un episodio che ho sentito alla radio sono una grande ascoltatrice di radio in cui una cooperante che lavorava in un campo di rifugiati in un paese del Medio Oriente e c'era questo gruppo di ragazzine che voleva imparare italiano e allora lei una delle prime cose che ha detto a loro è ma sai sapete in Italia quando si saluta si dice ciao come stai e loro va bene si sono imparate questa cosa qualche anno più tardi in un altro campo di rifugiati in un altro paese del Medio Oriente con un altro contesto questa cooperante incontra un'altra ragazzina che le dice ma sei italiana ciao come stai allora questa cosa mi aveva molto colpito perché mi sembra insomma uno dei modi per far emergere la potenza del linguaggio e il quanto il linguaggio è vivo si muove se ne va in giro per conto suo all'interno ovviamente delle relazioni delle persone quindi quando noi abbiamo cominciato appunto abbiamo messo tra gli obiettivi delle attività Benefit di Zadig nel 2022 questa riflessione sul linguaggio inclusivo abbiamo cominciato a ragionare e volevamo come dire evitare di stare all'interno di quella discussione che oramai si trova ovunque uso l'ascevano o uso l'ascevano dico sempre colleghi e colleghe dico ministra non dico ministra volevamo invece fare un approfondimento una riflessione intanto che cosa significa inclusivo e dall'altra parte quantomeno aggiornare le nostre conoscenze sul linguaggio è nato così un gruppo di lavoro un posto principale da persone che mi fa molto piacere abbiamo anche nel gruppo di lavoro una persona trans da maschio a femmina e mi sono assicurata che questa sia la modalità corretta attualmente più accolta appunto di definirla e però appunto l'idea a cui siamo arrivati è che se parliamo di linguaggio inclusivo non dobbiamo non ci interessa essere legati solo appunto a un discorso strettamente di genere vogliamo fare una riflessione che sia appunto di inclusione per tutte le diversità per tutte le situazioni in cui anche appunto persone che in qualche modo sono assolutamente diciamo nella maggioranza omologate alla maggioranza però può capitare a ciascuno di noi che anche solo in alcuni momenti della vita ci si senta appunto non incluso o comunque anche se magari non discriminato non riconosciuto ora questo discorso che ci sta coinvolgendo molto che ci piace molto appunto condurre insieme è proprio il fatto che se dobbiamo in qualche modo poi vogliamo anche arrivare a insomma delle indicazioni pratiche su come poi gestirlo questo linguaggio inclusivo però ci sembra che la cosa importante sia arrivarci per un percorso che appunto è di riflessione e che è finalizzata principalmente al riconoscimento cioè una delle cose che insomma penso che anche Sciano sarà assolutamente d'accordo con quel loro lavoro appunto sulle scienziate al femminile uno dei problemi di sofferenza che c'è appunto dietro il movimento che spinge sul linguaggio inclusivo è il mancato riconoscimento se non sei nominato non esisti e questo è un aspetto cruciale è l'aspetto su cui credo è importante arrivare a una maturazione che è più di approccio più di consolidamento di un modo di vedere le cose che non appunto poi la soluzione pratica come come vai se userai l'asterisco piuttosto che altre formule perché pensiamo ce lo siamo detti appunto nelle riunioni del nostro gruppo di lavoro che il discorso fondamentale è proprio quello dell'approccio che deve essere inclusivo poi la pratica l'aspetto tecnico troveremo delle soluzioni sappiamo che l'italiano non è una lingua che rispetto ad altre più flessibili e che contemplano il neutro per dirne una quindi è più difficile però pensiamo che ci possano essere se si è ben metabolizzato il discorso di voler essere inclusivi pensiamo che poi si possa arrivare a trovare appunto delle formule e delle soluzioni di nuovo voglio fare una citazione ora la viviamo come una conquista il fatto che appunto per esempio in un convegno come questo si aprono i saluti dicendo appunto buongiorno a tutte le giornaliste e i giornalisti presenti cosa espressione che è inclusiva rispetto a quello che si faceva anche solo 5-6 anni fa ma esclude ancora le persone non binarie e invece una soluzione facile in questo caso potrebbe essere buongiorno buona mattina a tutte le persone in ascolto che è appunto una soluzione che parte proprio dal fatto che ci siamo resi conto che stavamo escludendo qualcuno stavamo evitando di riconoscere l'esistenza di qualcuno io mi fermerei anche qui l'altra parte dell'intervento la farà Chiara Dilucente che fa parte del nostro gruppo di lavoro e che vuole appunto proporre invece come ho fatto io appunto cross generali una riflessione più pratica o comunque la sua esperienza di giornalista appunto che si misura con questo tipo di esigenze di giornalista scientifica che si misura con questo tipo di esigenze e aggiungo solo che l'obiettivo è quello di avere pronto per l'autunno un documento di Zadig che vuole essere condiviso prima all'interno del gruppo nostro in generale di tutte le persone che fanno riferimento a Zadig e che magari anche sarà dotato di una cassettina degli attrezzi appunto con qualche indicazione qualche proposta di come appunto mettere poi in pratica l'approccio inclusivo Chiara? Sì Non riesco a fermarmi comunque magari intervengo dopo e comunque intanto vi saluto perché non sono certa di potermi fermare fino alla fine grazie ciao Grazie mille a Eva per questa introduzione su questo gruppo di lavoro appunto di Zadig in cui io credo molto e appunto come anticipava Eva il mio intervento sarà principalmente un intervento come sono stati anche in maniera simile quelli delle persone che mi hanno preceduta su un'esperienza un'esperienza personale e professionale perché io non sono una linguista non sono una sociolinguista non sono un'accademica di studi di genere sono una biotecnologa che poi si è formata in comunicazione della scienza e che quindi ogni giorno lavorando con la comunicazione della scienza tocco con mano quanto comunque siano importanti le parole quando si comunica la scienza in realtà quando si comunica in generale però ecco la comunicazione della scienza è il mio ambito quindi mi sento di ribadirlo perché la comunicazione nonostante non abbia solo una componente verbale chiaramente ha un peso significativo da un punto di vista delle parole che si dicono e quando mi viene in mente un esempio da fare da questo punto di vista di quanto le parole abbiano un impatto anche su aspetti che poi trascendono solo quelli verbali ma che hanno un certo impatto sulla realtà per esempio è capitato e purtroppo capita tuttora e me ne sono occupata in qualche articolo dell'uso che viene fatto delle parole per descrivere delle persone con determinate malattie o condizioni mediche in cui poi l'uso di queste parole viene utilizzato per perpetrare stereotipi stigmatizzanti e di fatto discriminazioni quindi anche chi appunto si occupa di comunicazione della scienza sa quanto siano importanti le parole quindi all'interno di questo gruppo di lavoro di Zedig abbiamo iniziato a fare questa riflessione sull'aspetto più inclusivo delle parole perché quando si parla di linguaggio inclusivo appunto come diceva Eva principalmente si pensa a un linguaggio che sia inclusivo da un punto di vista del genere anche perché diciamo di linguaggio inclusivo si è iniziato a parlare delle proposte per rendere la lingua italiana più inclusiva si è iniziato proprio a parlare negli ambienti LGBTQ+, e transfeministi quindi diciamo più di diciamo di un'inclusività e di un'inclusione che andasse più verso il genere in particolare infatti il linguaggio inclusivo si propone sia attraverso modi che già ci offre la lingua italiana come per esempio i nomi professionali declinati al femminile come grammatica vuole o invece altre proposte che invece trascendono dalla grammatica classica della lingua italiana e mi perdonino i linguisti se uso i termini impropri appunto per parlare dell'importanza delle parole si propone di superare il binarismo di genere e quello anche che viene detto il maschile sovraesteso ovvero l'uso del maschile sia al singolare che al plurale inteso per per riferirsi o una persona di cui non si conosce il genere o altrimenti a gruppi di persone misti in realtà appunto come diceva Eva l'inclusione non è solo quella di genere ma abbraccia tante differenze tant'è che in questi ambiti soprattutto a partire dagli scritti di Fabrizio Acampora che è uno scrittore un blogger un docente universitario e autistico e dico autistico perché appunto lui si definisce tale e non persona con autismo eccetera eccetera lui parla di convivenza delle differenze proprio perché si vuole addirittura andare oltre e superare il concetto che noi persone normali tra virgolette che non ha assolutamente senso come concetto vogliamo includere delle differenze ma in realtà perché la società è estremamente eterogenea le persone sono estremamente eterogenee e quindi è bene proporsi un linguaggio che sia il più rispettoso possibile riguardo appunto queste differenze infatti appunto non entro nel merito di quali sono le proposte di per sé del linguaggio inclusivo sono diverse sono eterogenee e appunto vanno dall'uso dei nomi professionali al femminile al dibattito sull'uso o no della scheva però c'è da dire che questo è comunque un ambito in cui probabilmente e anche qui diciamo questa è una mia osservazione personale che è sulla delle mie competenze ma probabilmente perché entra in gioco una riflessione anche identitaria nel momento in cui si nomina una persona o se stessi entrano in gioco delle polarizzazioni e quindi si innescano dei dibattiti spesso online che già sappiamo che è un luogo in cui si fa fatica ad avere dei dibattiti costruttivi nonostante io diciamo ci credo molto che sia possibile invece avere dei dibattiti costruttivi in cui si prendono assolutamente delle posizioni e diciamo ci si rinchiude un po' nelle proprie convinzioni una delle una delle critiche che viene mossa principalmente a queste proposte del linguaggio inclusivo è che siano scelte decise dall'alto e imposte in realtà quando quando si parla di linguaggio inclusivo è molto importante quello che pensano gli interlocutori cioè le istanze del linguaggio inclusivo sono istanze partite da categorie di persone che chiedevano di essere rappresentate e appunto il linguaggio inclusivo si basa su questo si basa sull'inclusione sul dialogo e sull'ascolto e è difficile trovare persone o comunque io finora non ne ho trovate persone che impongono in maniera prescrittiva l'utilizzo di determinate formule perifrasi o desinenze piuttosto che altro quindi diciamo concludo il mio intervento ritornando alla comunicazione della scienza da dove ero partita nel senso che una delle prime cose che si imparano perlomeno questa è stata la mia esperienza comunicando la scienza è la difficoltà e la sfida di imparare a comunicare la complessità che è una complessità che di solito diciamo quando si tratta di comunicazione della scienza si intende la complessità del mondo che ci circonda e della scienza di per sé però questa complessità tocca tutti gli aspetti del mondo che ci circonda compresa la complessità della società viviamo in un mondo complesso in una società complessa e quindi possiamo metterci in ascolto di di questa complessità del mondo e quello che abbiamo fatto noi che stiamo facendo noi con questo gruppo di lavoro lo voglio riassumere con le parole che ha utilizzato una persona che appunto fa parte di questo gruppo di lavoro che ha definito questo lavoro di riflessione come un azzardo sperimentale azzardo perché il nostro lavoro potrebbe essere una goccia nell'oceano che si disperde o una goccia nell'oceano che si unisce ad altre gocce e crea qualcosa di concreto che però poi magari si infrange e quindi diciamo è l'azione sinergica di qualcosa che poi può non portare a nulla questo non lo sappiamo o magari no sperimentale perché abbiamo parlato di appunto comunicazione della scienza e di scienza diffusamente nel corso di questa mattina perché il nostro lavoro è proprio quello di partire dallo studio di quello che sappiamo e di quello che non sappiamo di fare delle prove di sperimentare nuovi sistemi per comprendere il mondo pur ricordando la complessità che ci circonda grazie grazie mi sembra molto utile riflettere nelle voci anche sulla lingua cosa che appunto scienze in rete fa da tempo e questo sicuramente è un tema su cui già proprio oggi o ieri anzi volevo girarlo a Eva è uscito un articolo sulla Shwa sul domani sul quotidiano ogni giorno ne escono e ovviamente che sono tutte cose che generano attrito resistenza critiche ma anche riflessioni che spingono per una visione un'accoglienza un po' più così equa delle varie posizioni vari generi le varie situazioni di vita che ci sono e che si riflettono inevitabilmente nella vita di tutti i giorni Eva volevi aggiungere una cosa che appunto si ricollega sia al discorso che ha fatto Chiara ma anche a quello che stai facendo tu ora ed è che noi abbiamo comunque in questa mattinata riflettuto tanto comunque rapportato tanti esempi ed esperienze di modi di fare la comunicazione della scienza che sono la divulgazione ma che può essere anche il giornalismo può essere il trasferimento di contenuti con modalità via via diverse innovative eccetera la dimensione che comunque si è affacciata negli ultimi anni e che oggettivamente è la più difficile ma che non è più ignorabile è la dimensione dell'ascolto che per esempio appunto è stata anche tanto invocata nel discorso della gestione della pandemia ora su questo non è che abbiamo ricette o risposte però il fatto di quantomeno rendersi conto che l'ascolto dei vari interlocutori soprattutto in una complessità diventa un elemento cruciale proprio per come dire poi arrivare a insomma a delle cose a dei modi condivisi di affrontare la complessità ecco mi sembra la sfida più grande dei prossimi anni e in questo oppure questo piccolo lavoro che facciamo sul linguaggio inclusivo insomma un po' la pretesa di avere questo approccio basta grazie Eva grazie ora andiamo avanti con l'esperienza a confronto sono delle brevi testimonianze quindi chiamo Carlotta Carlotta Yarak che ci racconta di Mad Advance che è già stata citata prima da Sharon qui seguiranno Physicast con Gianluca Licausi e le interviste possibili agli alberi di Milano di Mami Azuma saranno un po' dei flash insomma delle segnalazioni che vi vogliamo fare perché ci sembrano aspetti che sono sinergici con la nostra sperimentazione appunto continua che facciamo su Scienze in Rete già qualche spoiler allora bene io uso questo il microfono buongiorno a tutti allora io sarò short and sweet come dicono gli anglosazzoni siamo già in ritardo e forse almeno per quanto mi riguarda in pubblicemia e allora la divulgazione scientifica al femminile ovvero la nostra esperienza di Mad Advances e oggi vi racconterò molto brevemente chi siamo cosa facciamo e dove andiamo e come descriverci meglio se non con i nostri bei faccioni qui vedete Sharon Spizzichino che avete conosciuto prima che è una biologa strutturale che sta facendo adesso un postdoc a Roma alla Sapienza Nicole Pavoncello che è una neurobiologa attualmente dottoranda a Haifa in Israele al Technion Shirley Gena che è con lei che ci ha messo insieme ha formato questo gruppo ed è postdoc al Bambin Gesù a Roma anche lei biologa poi abbiamo Giorgia che è anche lei biologa ma è passata al mondo dell'azienda insieme a Alessia Campagnano l'ultima su a destra e poi io che sono ricercatrice al Mario Negri in epidemiologia bene e che cosa facciamo facciamo essenzialmente un progetto editoriale quindi ci occupiamo essenzialmente di scrittura di contenuti per lo più scritti anche se siamo adesso grazie a queste esperienze speriamo di sbarcare nel mondo dei podcast ma abbiamo avuto anche delle esperienze video e quelle che sono le nostre rubriche sono quelle che vi mostriamo qua ci occupiamo molto di donne nella scienza appunto per utilizzare le storie delle scienziate passate ma anche presenti come escamotage narrativo per divulgare la scienza e le scoperte alla base delle loro ricerche pillole invece più semplici in qualche modo per raggiungere il pubblico generalista che magari non è esperto di scienza ma che riusciamo in vari modi a intercettare e poi appunto Mada Magazine che è come siamo nate per cui più articoli più di stampo giornalistico e poi Mada Focus è una rubrica diciamo abbastanza recente dove cerchiamo di spiegare il perché la scienza è importante da un punto di vista di sanità pubblica e qui involge un ruolo molto importante della mia formazione ed il perché la scienza non è da ricercare solo nei laboratori e solo in qualche tipo di passione e di amore incondizionato ma anche delle applicazioni pratiche che per alcune branche della scienza magari è più immediato capire e per altre invece è più ostico questa visto che noi ci teniamo molto alla nostra grafica ed era per questo anche che era importante secondo noi farvi vedere attraverso delle slide come cerchiamo di fare divulgazione questo è un po' quello che è il nostro feed Instagram o comunque quelle che sono le nostre le nostre diapositive perché siamo molto appunto sui social donne della scienza pillole più generali per cui per esempio come funziona il sistema immunitario ma anche per esempio come vi dicevo l'importanza della scienza qui vi abbiamo messo l'ultimo dei nostri ma da focus che sono le conseguenze dal punto di vista di sanità pubblica di quella che è stata la sentenza negli Stati Uniti circa la porto ma appunto molto altro per cui per quanto riguarda video qui c'è una nostra rubrica che è madagli importanza dove cerchiamo di intervistare dei ricercatori attuali che ci possano dire cosa fanno quotidianamente e perché la loro ricerca è importante e poi anche TikTok che può sembrare strano ma almeno per la nostra percezione e la nostra esperienza è proprio il modo perfetto per arrivare a chi non va su internet a cercare di scienza non va a cercarsi autonomamente un podcast ma gli può capitare per sbaglio il nostro contenuto e la maggior parte delle volte capita per sbaglio a chi non ci segue e quindi magari in qualche modo riuscire ad arrivare al pubblico generalista in questo modo ma facciamo molto altro quindi non siamo solo un progetto editoriale qui vedete alcune delle nostre recenti interventi online il più delle volte perché siamo nate nel 2020 quindi per forza di cose i primi mesi sono state essenzialmente da remoto da persone che ci hanno intervistato a invece la partecipazione a dei progetti didattici molto importanti secondo noi il cosa fare da grandi che vedete qui è una delle slide di un percorso che abbiamo fatto assieme alla regione Piemonte e ad Agorà del Sapere su appunto spiegare il metodo scientifico ai ragazzi delle elementari e delle medie spiegare cosa fa davvero uno scienziato e perché appunto è importante l'attività di ricerca e poi di donne di didattica abbiamo parlato molto anche l'anno scorso in occasione di Stem in the City proprio qua a Milano e fuori dal web siamo state invitate recentemente io sono stata invitata recentemente a parlare proprio di empowerment femminile e invece a lato della mia ricerca di epidemiologia al CICAP Festival a Padova ma appunto la nostra attività è anche un'attività diciamo sociale per cui siamo qui abbiamo alcune foto della donazione di sangue dell'Avis dell'anno scorso abbiamo anche collaborato molto con Ayer che è per raccolte fondi per la ricerca sul cancro e poi sempre Sharon e Shirley in alto a destra anche se piccoline hanno fatto molta divulgazione anche in Rai grazie a degli interventi per la banda dei fuoriclasse e dove arriviamo? Questa è la nostra ultima slide il perché lo facciamo è stato detto anche da persone più illustri di noi prima è anche dovuto al fatto che secondo noi il buon ricercatore è anche quello che sa comunicare bene che cosa fa e perché è importante quello che fa io oggi potevo portarvi i dati su engagement e altre cifre i numeri del perché secondo noi quello che stiamo facendo funziona però abbiamo pensato che alcuni dei commenti che ci vengono che ci arrivano sono sicuramente più di impatto e ci fanno comunque pensare che quello che stiamo facendo ha un effettivo ruolo e che stiamo facendo anche noi il nostro piccolo in questo ambiente basta grazie ho visto una vostra bellissima spiegazione di cos'è una meta-analisi anche in pochissime slide veramente molto ben fatta e complimenti per quello che state facendo ci colleghiamo adesso online con Gianluca Licausi che fa parte della fondazione di Physicas che come si diceva prima è diretta coordinata insomma dal professor Faccini quindi fa capo alla sapienza ed è proprio un'esperienza di podcast che riguardano la fisica e quindi ci faceva piacere dare notizia sicuramente molti di voi già la conoscono e dare la parola appunto a chi ci sta lavorando Gianluca Licausi ci senti? Sì buongiorno allora provo a condividere lo schermo che ho preparato un 3-4 slide per aiutarmi per aiutare la comprensione allora sono Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dall'inizio dell'esperienza di Physicas tra i fondatori insieme appunto a Riccardo Fraccini e vi parlerò appunto di questo podcast che diciamo ormai da dieci anni spiega la fisica alla gente immagino che alcuni di voi già lo conosceranno è un podcast in cui ricercatori noi ricercatori dell'Istituto Nazionale Fisica e Nucleare dell'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'Università spieghiamo la fisica con il linguaggio di tutti i giorni senza matematica in modo semplice cerchiamo di spiegare i concetti della fisica la nostra pagina web è ospitata da Radioscienza a questo indirizzo qui vedete diciamo la home page alla data attuale e il format di Physicas è una diciamo sono dei brani audio che vanno diciamo dai 15 ai 25 minuti prevalentemente con un format di intervista in cui un'intervistatrice ci diciamo intervista appunto il ricercatore oppure dialogo a volte anche tra noi ricercatori o tra noi e con gli intervistatrice insieme con un sottofondo così musicale di accompagnamento per più gradevole ascolto quello che introducendoli soprattutto diciamo o direttamente o parlandone attraverso i fenomeni della natura o le vite degli scienziati o le tecnologie o le scoperte più recenti e la particolarità diciamo di quel che facciamo la particolarità di Fisicas rispetto alle altre iniziative è che diciamo noi cerchiamo proprio di spiegare piuttosto che soltanto di raccontare questi concetti e ovviamente questo come come già avete detto per le altre realtà richiede un certo sforzo di diciamo di preparazione per utilizzare per riuscire a fare un'esposizione che sia semplice e che soprattutto utilizzi il linguaggio comune e la percezione intuitiva delle cose che ha l'acqua e ovviamente le analogie con il quotidiano sono fondamentali in questo ma è fondamentale per noi per riuscire a far questo basarci su un testo quindi diciamo noi crediamo che una spiegazione diciamo corretta ed efficace di alcuni specialmente di alcuni concetti della fisica non possa essere fatta a braccio e quindi diciamo prepariamo un testo questo testo dopo diciamo la nostra revisione scientifica diciamo subisce un'ulteriore revisione un'ulteriore modifica attraverso un'interazione con dei lettori che non sono esperti di fisica non sono dei fisici e che quindi ci riescono a far capire dove sono i punti del discorso in cui l'ascoltatore potrebbe avere dei dubbi e quindi noi poi interveniamo per il testo finale interveniamo con un'interazione con questi lettori finché la comprensione non è garantita e siamo nati appunto 10 anni fa siamo a 79 puntate più o meno i nostri indicatori ci dicono che abbiamo 20.000 ascolti al mese su tutto il range delle puntate che abbiamo fatto perché è nata fisica è nata appunto dall'idea iniziale di fare un podcast per fornire spunti di riflessione che stimolassero la mentalità scientifica in una società che come la nostra è un po' povera di questo e volevamo farlo in un modo che riuscisse a innescare un po' una scintilla nell'ascoltatore una scintilla che lo facesse meravigliare e pensare e ora ovviamente sia all'inizio sia ancora di più durante questi 10 anni si sono sviluppati moltissime altre realtà ci sono ovviamente molte realtà di comunicazione appunto molte delle quali sono state presentate in questo workshop e in questo contesto diciamo fisica si rivolge in realtà più che altro a un pubblico che diciamo è già incuriosito dalla scienza già conosce già conosciuto le cose della scienza attraverso tutte queste altre realtà che gli hanno raccontato ed esposto e illustrato i vari aspetti della scienza della fisica in particolare ma vuole saperne di più vuole sapere meglio come funzionano effettivamente le cose vuole capire meglio i concetti che ci stanno dietro ma non vuole però diciamo immergersi nella matematica a prendere un piccolo di testo per far questo quindi cerchiamo diciamo il nostro target soprattutto diciamo è questo e è un livello che va molto bene anche come approfondimento nell'insegnamento della fisica nelle scuole di secondo grado dove effettivamente viene parecchio usato e secondo noi diciamo è anche come target diciamo anche per tutte quelle professioni che implicitamente fanno uso della fisica nel proprio lavoro immaginiamo per esempio la medicina con i vari apparecchi medici ma anche i semplici concetti di idraulica che possono esserci nella medicina del corpo umano e spesso appunto queste persone professionisti che usano implicitamente la fisica sono curiosi poi di sapere un po' di più di sapere effettivamente come stanno le cose e come si possono comprendere a un livello più profondo quello che diciamo la nostra esperienza ci ha insegnato e ci ha dimostrato è che effettivamente si può spiegare in modo semplice qualsiasi cosa l'importante come dicevano le attrici prima di me l'importante è effettivamente utilizzare le parole giuste e questo appunto è anche il motivo per cui non facciamo abbraccio alle nostre puntate faccio così un esempio proprio un esempio semplice molto diffuso si usa spesso quando si parla di relatività si usa parlare usare il termine curvatura dello spazio per parlare appunto di quella che tecnicamente è la curvatura dello spazio cioè la parola tecnica matematica per indicarla è effettivamente curvatura ma curvatura nel linguaggio comune vuol dire una cosa diversa da quello che vuol dire nel linguaggio matematico già solo se in un discorso che parla della relatività usiamo distorsione invece di curvatura abbiamo visto che evitiamo che l'ascoltatore si figuri diciamo delle immagini che poi sbagliate che poi dopo dobbiamo andare diciamo più difficile poi dopo diciamo corregge quindi diciamo ecco utilizzando questi questi principi siamo riusciti a parlare un po' di tutto della fisica classica della fisica moderna dell'attività quantistica perché la matematica funziona il trasporto quantistico che abbiamo spiegato tramite un'analogia con diciamo con i disegni illusori con le illusioni ottiche che ci sta molto riesce a spiegare molto ma anche sport biografie degli scienziati e così via per ascoltare fisica diciamo si può ascoltare fisica in vari modi dal sito internet da spotify facebook google podcast e così via e diciamo ultimamente anche nel sito di scienze per tutti degli mfn le nostre puntate le nostre 79 puntate vengono inviate una volta a settimana e quindi possiamo poter seguirle anche qui e in questo caso diciamo su questo sito è possibile per la prima volta anche scaricare i testi delle nostre puntate che vengono appunto resi disponibili una puntata alla volta e che possono essere riutilizzati come anche appunto in generale le nostre puntate possono essere utilizzati quindi i testi sono già ben pensati e vi invitiamo se avete bisogno di fare un lugare di spiegare un particolare concetto della fisica potete tranquillamente far capo a questi testi che sono insomma già ben pensati e ben efficaci e niente a questo punto buon ascolto per chi ancora non conoscesse Physicast e grazie per questo intervento di questa tua descrizione racconto di fisica a questo punto facciamo la pausa intanto ricominciamo con la coda in realtà della mattinata le interviste possibili agli alberi di Milano di Mami Azuma del Museo di Storia Naturale quindi nostra ospite proprio di questo incontro ci racconta questa iniziativa curiosa e interessante benissimo buongiorno a tutti sono responsabile della sezione di botanica del Museo di Storia Naturale e anche noi qui in museo abbiamo qualcosa da raccontare in termini di ricerca scientifica questa ricerca viene effettuata in diversi modi e diverse occasioni ci possono essere delle ricerche tramite le tesi di laurea degli studenti delle università oppure ci possono essere anche delle ricerche di ampio respiro e anche internazionale ricerche ornitologiche nelle Dalak oppure ricerche paleontologiche che riguardano esemplari presenti anche in altri territori lontano dal nostro come Marocco tutto questo però ci riporta anche sul nostro territorio e in questo per esempio la sezione di botanica con il collega Gabriele Calasso ha condotto e sta conducendo da diversi anni delle ricerche proprio di floristica sul territorio milanese e lombardo molto curiose sono quelle ricerche che riguardano per esempio le piante che si trovano lungo i binari della ferrovia oppure quelle che si trovano sui marciapiedi perciò le cosiddette piante da marciapiede poco prima della pandemia anche noi ci siamo domandati se c'erano altre modalità per poter presentare le nostre ricerche siamo in grado di parlare a un pubblico di specialisti perciò con lavori altamente specializzati ma siamo anche in grado tutti noi di parlare a chiunque di voi e anche ai ragazzi perciò sappiamo anche utilizzare un linguaggio che sia alla portata di tutti e la possibilità quella che un po' ci toccava marginalmente era quella per esempio dei podcast allora noi abbiamo molto da dire ma non abbiamo gli strumenti per poter realizzare dei podcast sicuramente qui all'interno del museo no però il caso ha voluto che alcuni colleghi avessero partecipato ad una registrazione di podcast in uno studio del comune di Milano perciò all'interno della pubblica amministrazione abbiamo trovato un settore che si occupa proprio di registrazioni audio video loro si occupano principalmente delle occasioni ufficiali quelle di Palazzo Reale quelle di Palazzo Marino sono in giro con gli assessori quando registrano degli interventi e così via però abbiamo scoperto che avvertendoli con un certo anticipo possono anche esserci di aiuto e questa occasione è stata proprio quella delle interviste possibili agli alberi di Milano questa è un'idea che è stata trovata o comunque realizzata e ampliata da Donatella Stergar che è una collega che è responsabile del Museo Botanico Aurelia Ios che è in via Margaria vicino all'ospedale di Niguarda e lei si ricordava qui un po' torniamo anche alle origini di quelle che possono essere il podcast che è la radio negli anni tra il 1974 e 75 era stata realizzata una serie di trasmissioni che erano proprio le interviste impossibili che erano trasmesse su Radio 2 e allora proprio su questa scia loro facevano delle interviste con personaggi molto importanti perché per esempio Italo Calvino intervistava l'uomo di Neandertal per esempio oppure Alberto Arbasino invece Nerone perciò c'erano degli scrittori o comunque anche Camilleri che adesso non ricordo chi abbia intervistato però c'era tutto un gruppo di intellettuali e scrittori che hanno scelto avevano scelto un personaggio storico che è esistito o non esistito con il quale intavolare una chiacchierata e proprio su questa idea Donatella Stergar ha coinvolto la sezione di botanica del museo prima Gabriele Galasso e poi io per intervistare le piante di Milano perciò uno degli esempi è questo l'intervista possibile di Milano alla Catalpa dei Giardini della Guastalla un albero storico così è stato anche per la Quercia del Montale nella quale veniva scelta una pianta che avesse una storia dal punto di vista o di ricordo anche delle persone dei cittadini oppure che avesse proprio avuto un ruolo nella storia di Milano che potesse dialogare con un passante il passante poteva essere il nonno con il nipote poteva essere una signora magari che si sedeva spesso lì vicino a quella pianta e così via perciò è riuscita a trovare una serie di una quindicina di piante che sono state messe a confronto o che potessero raccontare la storia in questo modo qual è stata la nostra riflessione dopo questa serie di interviste possibili agli alberi un po' quello che è stato detto adesso la lunghezza per esempio del podcast all'inizio noi non siamo dei professionisti della chiacchierata in podcast perciò avremmo avuto bisogno di un workshop per poter modulare la nostra voce per parlare in maniera più disinvolta per mantenere i tempi e l'interesse dell'ascoltatore perciò i nostri podcast sono un po' rustici da un certo punto di vista anche se le registrazioni per esempio sono di ottima qualità essendo stati aiutati dai colleghi di questo settore audio video abbiamo scoperto poi che alcune di queste interviste possibili prima erano dei dialoghi fra due persone cioè lette o comunque raccontate da due persone come chiunque di noi poi è stato utilizzato invece l'aiuto di alcuni lettori professionisti perciò c'era un testo scientifico storico però letto da altri e ci siamo resi conto che anche io sono un po' come Luca il podcast non è proprio il massimo del mio interesse proprio perché faccio fatica a seguirli abbiamo scoperto per esempio che 10-11 minuti di un podcast in quel modo era pesante perciò in questo momento stiamo cercando altri modi per poter alleggerire il podcast fare in modo che sia più facile nell'ascolto e poi questa scelta dell'albero monumentale e dell'essere umano che passa e che racconta era un po' troppo ripetitivo il prossimo podcast che realizzeremo sarà invece quello che riguarderà il parco Montanelli e io darò la voce alle Ginko Vilova che sono intorno all'asilo Mariuccia o all'asilo del casino del caffè credo che si chiami e invece il collega Cristiano Galasso che è un paleontologo parlerà invece del Saltrovenator qua fuori questo modello che c'è qui e questo per far dialogare la Ginko Veloba che viene considerata come pianta fossile e questo dinosauro in realtà non si sono mai incontrati e questo è importante perché per molti di noi non è facile capire quello che è l'ampiezza delle ere geologiche allora sempre Dal Sasso ci diceva per esempio che siamo più vicini noi Homo sapiens a Saltrovenator piuttosto che Saltrovenator con T-Rex e questo è interessante perciò quando parliamo di piante fossili ma fossili quanto sono la coabitazione la copresenza nostra e di sia esseri vegetali che animali va ovviamente spiegata e capita meglio proprio in termini di proporzioni temporali detto questo vi faccio vedere come arrivare ai nostri podcast perché i nostri podcast sono su un sito del comune perciò forse non facilmente raggiungibili perché nessuno sa che ci sono ma sono a disposizione di tutti di tutti non sono in un sito specializzato o di specialisti perciò questa è una sottopagina della home page del museo nella home page del museo troverete una box dove ci sarà per saperne di più se cliccate lì arrivate a questa pagina che parla dei tre serie di podcast ascolta i podcast e cliccando su ascolta i podcast arriveremo qui questa è la pagina del comune di milano web tv radio dove ci sono registrati e sono presenti non solo i nostri podcast ma anche altri podcast di interesse ambientale perciò qui troverete quelli sul verde di milano e poi verde parchi di milano e poi troverete anche tutta la serie delle interviste possibili buon ascolto grazie 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 sì in effetti ricordavo che c'era questa serie delle interviste impossibili fatte dagli scrittori perché è una bella formula per avvicinare insomma personaggi esistenti o no attraverso questo questo mezzo e sicuramente poi io ne ho ascoltati un paio in effetti di queste delle interviste possibili agli alberi che ho subito segnalato quelli del bosco in città che pure si dilettano ogni tanto di queste cose e ci piaceva insomma segnalare anche questa attività come vi dicevo Silvio Garattini è stato portato a Roma da una emergenza perché doveva fare questa riunione in AIFA ad altronde ha solo 94 anni quindi è ovvio che si muova come un come un grillo da una parte all'altra ancora della penisola però ha subito realizzato per non venire meno a questo impegno un breve video con i messaggi che voleva lanciare che ci teneva particolarmente e noi abbiamo molto piacere di lanciare questi messaggi che ci ha inviato con questo video che ora facciamo partire sono veramente spiacente di non poter essere con voi saluto tutti i presenti purtroppo devo essere a Roma per una riunione importante che richiede assolutamente che sia presente ho ritenuto opportuno dire alcune cose proprio perché volevo in qualche modo essere con voi in questa giornata così importante per il futuro della nostra scienza è noto che la ricerca in Italia non è molto sostenuta dal governo che la considera una spesa piuttosto che un investimento abbiamo pochi ricercatori la metà della media europea spendiamo poco in termini globali circa 22 miliardi all'anno meno per esempio della Francia e oltretutto abbiamo anche grande difficoltà nel poter realizzare la ricerca per via delle enormi regole burocratiche che paralizzano molte delle nostre attività in particolare ciò si può riferire alla situazione della sperimentazione animale una sperimentazione che è necessaria per la conoscenza prima di tutto cioè per sapere come è fatto l'organismo vivente quali funzioni quali metabolismo quali tipi di patologie eccetera eccetera non solo ma è molto importante anche per realizzare modelli di malattie su cui testare quali sono poi i prodotti chimici che possono diventare farmaci cioè che possono avere indurre dei benefici agli ammalati gli oppositori pensano che non ci sia bisogno della sperimentazione animale ma dovrebbero dimostrarlo in realtà anche i ricercatori utilizzano in molti casi delle cellule che si coltivano in vitro che possono dare molte informazioni ma un conto è usare le cellule in vitro un conto è un organismo vivente con tutta la sua complessità e poi ci sono molti tipi di risposte che non si possono chiedere alle cellule in vitro se studiamo farmaci antivomito farmaci antimemoria farmaci che agiscano sulla funzione motoria certamente abbiamo bisogno di di un essere vivente piccolo o grande che sia e poi non vi è dubbio che dal punto di vista della tollerabilità di un farmaco non possiamo andare a provare una sostanza chimica nell'uomo senza avere ragionevoli evidenze che sia una sostanza ben tollerata e che non induca dei gravi danni come per esempio effetti cancerogeni o effetti sulla riproduzione questo tipo di ricerche è oggi molto difficile da compiere in Italia rispetto a quello che succede in altri paesi pensate che anche solo per utilizzare un topo occorre fare tutta una serie di attività cominciando dal compilare un questionario di 50 voci bisogna dare delle indicazioni molto precise su tutto quello che si vuole fare sul topo con un protocollo molto dettagliato bisogna a questo protocollo aggiungere anche un altro protocollo che indichi alle persone che non sono addette ai lavori perché si utilizza un animale e per quali ragioni e poi tutta questa documentazione deve passare attraverso una serie di comitati il comitato per il benessere animale e il comitato etico animale poi l'istituto superiore di sanità il ministero della sanità e alla fine se tutto va bene dopo sei mesi quattro sei mesi a seconda dei casi si può avere l'autorizzazione a utilizzare gli animali questo nel caso in cui non vi siano obiezioni e nel quel caso si deve utilizzare dell'altro tempo con le nuove regole poi addirittura a metà degli studi bisogna dare delle informazioni su qual è stato l'impatto sulla salute degli animali ora non c'è dubbio che tutti noi che ci occupiamo di ricerca siamo interessati al benessere animale anche solo perché se l'animale soffre i nostri risultati non sono più attendibili quindi i primi interessati a fare in modo che non ci siano situazioni che interferiscono sull'esperimento che vogliamo fare siamo proprio noi ricercatori e molti dei vantaggi sono stati realizzati in termini di riduzione del numero degli animali attraverso tecnologie che sono state sviluppate dai ricercatori quindi siamo noi i primi interessati però dobbiamo in qualche modo protestare perché la situazione attuale non ci permette di collaborare quando dobbiamo collaborare per un progetto a livello internazionale dobbiamo dire sì noi siamo lieti di partecipare a questo studio però cominciamo fra sei mesi non possiamo cominciare subito e questo è quello che invece non avviene in altri paesi dove i tempi sono molto più rapidi e dove fondamentalmente ci si basa sul silenzio a senso perché in realtà è impossibile che ci sia qualcuno che è in grado di giudicare tutto quello che si può fare attraverso la sperimentazione animale in tutti i campi che riguardano per esempio le scienze della vita il silenzio a senso dovrebbe essere la via più logica perché si dovrebbe soltanto stabilire se il tipo di ricerca che si può fare è ragionevole è punta a una utilità o se invece è qualcosa di stravagante su cui bisogna poi chiedere delle informazioni quindi io penso che dovremmo mobilitare i ricercatori in Italia le società scientifiche fare un grande blocco per ottenere anche da noi un cambiamento della legge e arrivare a una situazione in cui ci sia il silenzio a senso in un tempo ragionevole mettiamo che un mese ma insomma alla fine si possa partire rapidamente anche perché non si può aspettare fra il risultato di un esperimento e il successivo non si possono aspettare certamente sei mesi in attesa che ci sia l'autorizzazione dipende molto da noi se noi ricercatori non ci uniamo certamente continueremo ad avere queste forme di handicap nei confronti alla ricerca che poi si traduce anche nella scarsa competitività che abbiamo a livello nazionale nelle collaborazioni per esempio per i fondi europei vi ringrazio per l'attenzione e spero che si possa fare qualcosa in modo da rimediare questa situazione che veramente penalizza la ricerca italiana grazie Massimilio Garattini ci spiace che non sia potuto stare qui con noi ma era un messaggio che volevamo trasmettere voglio anche segnalare il sito Research for Life che peraltro al quale collaboriamo anche proprio come Zadighe Scienze in Rete che porta avanti queste ragioni queste analisi fa proprio il punto sulla situazione della sperimentazione italiana e anche le forme alternative che sono gli stessi ricercatori della ricerca preclinica che sono i primi interessati a sviluppare anche per il banale fatto che gli animali da esperimento hanno un costo anche non indifferente e quindi c'è tutto l'interesse a non sprecarlo e se pensiamo tutti gli usi e abusi che vengono fatti degli animali certamente quello della sperimentazione animale non può essere equiparato a tutte queste altre come dire forme laddove invece si sta diffondendo una sensibilità ma soprattutto una militanza molto attiva che come sapete benissimo dai casi di cronaca tende a criminalizzare qualsiasi cosa faccia vagamente uso della sperimentazione animale salvo poi avvalersi di vaccini di altri farmaci altri preparati che se ne sono appunto avvantaggiati quindi è una situazione di ipocrisia e di assoluta ignoranza che su cui giustamente Silvio Garattini torna e ritorna questo apre un po' il dibattito questa parte questa parte dell'incontro che abbiamo voluto anzi Federico anche lei se vuoi venire qua anche tu dedicare a scienze politica questo è un tipico esempio di rapporto fra scienze politica e un altro esempio di scienze politica è proprio l'esigenza che la politica e i decisori si avvalgano come succede in quasi tutti i paesi del mondo di una consulenza scientifica equilibrata e che come meglio rende la parola inglese un science advice che orienti e che aiuti che sia di supporto alle decisioni politiche pur non come dire esaurendosi queste decisioni politiche sicuramente in quello che può dire lo scienziato ma tenendone conto nel modo più chiaro e trasparente possibile siamo quindi qui con alla mia sinistra Federico Anghelè di The Good Lobby che si occupa anche di questi temi come poi capiremo e con Alessandro Allegra che invece è collegato c'è sì dietro di me eccomi Luca mi sentite buongiorno Allegra che non so più da Bruxelles da dove si collega per raccontarci brevemente intanto che cos'è il science advice e anche il senso di questa iniziativa che è Scienze in Parlamento che abbiamo proprio noi di Scienze in Rete insieme ad altri amici tra cui da ricordare sicuramente anche Pietro Greco abbiamo lanciato appena prima della pandemia quindi do subito la parola ad Alessandro Allegra che è uno studioso di questi temi che ha fatto il dottorato all'University College ma che lavora anche come science advisor come ci racconterà prego Alessandro grazie Luca buongiorno a tutti sì una riflessione sul ruolo della scienza nella politica nelle politiche pubbliche nelle decisioni pubbliche e su come istituzionalizzare questo dialogo tra scienza e politica scienza e istituzioni se pensiamo ai modi in cui la scienza interagisce con il mondo della politica possiamo pensare a due lati della medaglia uno è quello della scienza in quanto processo processo che richiede fondi richiede personale richiede strutture spesso appunto finanziate pubblicamente e dunque dipendenti dalle decisioni di carattere politico decisioni che non riguardano soltanto il finanziamento alla ricerca che ovviamente sappiamo in Italia essere un tema delicato ma anche come Luca ricordava per esempio i temi sulla sperimentazione animale sui limiti di quali aree su quali aree si può fare ricerche e questo ovviamente è un dominio importante in cui la scienza la società e il governo interagiscono per diciamo organizzare l'attività scientifica d'altra parte la scienza come corpo di conoscenza come conoscenza per l'appunto ha un ruolo nell'informare le decisioni in qualunque area della vita pubblica se pensiamo dai temi energetici i temi della sanità i temi ambientali i trasporti qualunque area di attività governativa ha necessariamente bisogno di un input di carattere tecnico scientifico in inglese si fa la distinzione tra politics and policy quindi tra politica e politiche o politiche pubbliche come si dice in italiano ovviamente questa distinzione non è perfetta ma dà un po' con l'idea che mentre la politica è il dominio se vogliamo della negoziazione delle differenze valoriali che vanno riconciliate per prendere decisioni le politiche pubbliche riguardano più l'implementazione di queste decisioni l'esecuzione sebbene i due domini siano complementari non possono essere separati e ovviamente la scienza ha un ruolo molto importante in entrambi se vogliamo i lati di questo processo ma non è l'unico elemento è impossibile pensare di disegnare una politica ambientale senza considerare lo stato della conoscenza del mondo fornitoci dalla scienza allo stesso modo la scienza da sola non ci può determinare la direzione di viaggio possiamo fare un paragone con una mappa una mappa ci può dire come arrivare in un posto ma non ci può dire qual è il posto che vogliamo raggiungere questa è una decisione basata sulle preferenze sui valori è in una democrazia dove è normale che ci siano preferenze diverse a volte divergenti esistono meccanismi per decidere collettivamente in che direzione andare ovviamente è importante sapere quali sono le conseguenze di prendere una decisione piuttosto che un'altra e anche qui la conoscenza scientifica ha un ruolo molto importante pensiamo ai modelli che abbiamo visto sono stati diciamo portati all'attenzione negli ultimi anni i modelli permettono se non di prevedere il futuro quanto meno di avere un'idea di quali siano le possibili conseguenze di alcuni scenari e quindi permettere una scelta basata sulle preferenze e valori ma informata da una conoscenza dei fatti ed è qui che entra in gioco il concetto della consulenza scientifica o scientific advice per l'appunto in inglese il scientific advice la consulenza scientifica non è il ruolo degli scienziati nel dettare la direzione delle politiche pubbliche ma piuttosto nel supportare decisioni politici per fare delle scelte informate questa consulenza scientifica in pratica si può declinare in molti modi esistono molti tipi di strutture istituzionali in base ovviamente ai vari livelli di governance a cui facciamo riferimento esistono strutture a livello europeo dove per l'appunto lavoro io presso la commissione europea esistono strutture a livello del Parlamento europeo strutture a livello dei governi nazionali delle organizzazioni internazionali se pensiamo all'IPCC e l'International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite tutti questi sono meccanismi per apportare un input scientifico in maniera quanto più strutturata spesso multidisciplinare e ovviamente con delle garanzie di imparzialità portare questo tipo di consulenza all'interno dei processi decisionali in una maniera che sia ovviamente utile rilevante per i decisori e all'interno dei tempi diciamo operativi perché ovviamente sebbene nel mondo accademico esista una gran quantità di informazioni di grande qualità scientifica queste sono prodotte attraverso dei meccanismi di controllo qualità dei meccanismi di comunicazione attraverso le riviste e delle tempistiche che non sempre incontrano le necessità dei decisori i quali debbono agire sulla base di queste conoscenze e quindi solitamente quello che diciamo in questo campo è che un singolo paper un singolo scienziato non hanno mai la risposta perché il mondo è molto più complesso delle nostre discipline scientifiche che per loro natura tendono a controllare tutto e focalizzarsi su un unico variabile o insomma un numero piccolo di variabili per poter elucidare magari dei meccanismi causali a quel livello ma questo approccio che è molto utile per generare conoscenze non è necessariamente l'approccio migliore per informare le decisioni e dunque questi meccanismi di consulenza scientifica cercano di fare un lavoro di mediazione di sintesi delle conoscenze scientifiche generate in vari campi disciplinari in vari contesti per informare le decisioni tutto questo ci porta alla domanda di come viene fatto questo in Italia ovviamente l'esempio forse in questo momento più visibile o comunque che lo è stato negli ultimi anni è quello di organismi come il comitato tecnico scientifico che ha fatto un lavoro di consulenza durante il covid ma a livello settoriale esistono tanti meccanismi che permettono di portare questo input scientifico all'interno di attività di governo la nostra campagna scienza in parlamento che abbiamo lanciato all'inizio del 2019 prende spunto per l'appunto dal ruolo del parlamento nel dibattito politico il parlamento come forum di discussione come arena del dibattito politico che in una democrazia è un elemento fondamentale ma che purtroppo spesso almeno nella nostra esperienza non si ritrova a essere informato in maniera scientificamente accurata e quindi la domanda nasce come i parlamentari e il parlamento come istituzione consultano gli scienziati per informare le loro decisioni e purtroppo spesso questo avviene in maniera molto frammentata e ad hoc il sistema delle interrogazioni parlamentari per esempio prevede la chiamata di singoli esperti ma questo viene fatto in maniera molto discrezionale e molto frammentata in altri paesi esistono degli uffici di consulenza scientifica parlamentare pensiamo per esempio al Parlamento europeo che ha un ufficio chiamato STOA Science Technology Options Assessment il Parlamento britannico ha un ufficio di consulenza scientifica interno che operando con modelli diversi producono una serie di briefing note e documenti di sintesi per fornire una base scientifica per informare le discussioni dei parlamentari sui temi del giorno nel Parlamento italiano esistono ovviamente i servizi studi ma questi tendono ad avere un carattolo più di expertise economico giuridica in parte riflettendo il ruolo diverso del Parlamento italiano rispetto per esempio al Parlamento britannico in quanto il sistema di governo e di ripartizione dei ruoli tra governo e Parlamento è diverso ma comunque c'è una 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 lacuna se vogliamo a livello istituzionale a livello del Parlamento italiano sull'utilizzo di input scientifici da qui nasce appunto la nostra proposta scienza in Parlamento lanciata nel 2019 come petizione per proporre la creazione di un ufficio scientifico parlamentare in Italia che possa diciamo coadiuvare i parlamentari dei scienzi politici nel loro ruolo senza sostituirsi a loro ma piuttosto fornendo una sintesi di qualità e informata sulla base della quale poter prendere le decisioni questa nostra campagna ha avuto grande interesse sia da parte del mondo scientifico che dal mondo politico ovviamente con l'avvento del covid sebbene la tematica si sia rivelata forse ancora più saliente di quanto non lo fosse in passato molte cose sono fermate e quindi non è stato possibile andare avanti con la proposta specifica di creare un progetto pilota in Parlamento per il quale c'era un certo interesse ma sicuramente ha permesso di alimentare la discussione sul ruolo della scienza nella politica in generale ma soprattutto in Italia Italia è un paese dove appunto il ruolo della scienza nel dibattito pubblico in generale nel dibattito politico spesso soffre a causa di varie tensioni preesistenti in altri ambiti che si riflettono anche sulle tematiche scientifiche e qui magari appunto posso passare la parola a Luca e Federico su come appunto questo lavoro di sensibilizzazione al ruolo della scienza nella politica e della consulenza scientifica in particolare nella politica possa essere importante per favorire un governo più informato e infine come fine ultimo una democrazia più robusta perché in questo contesto la scienza non è infine in se stesso ma è uno degli elementi fondanti di un governo democratico nel mondo contemporaneo grazie 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 Alessandro per questa introduzione al tema proprio di scientific advice che ci dà il destro per parlare appunto con Federico Anghelè con il quale stiamo riavviando questa campagna anche grazie alla collaborazione con The Good Lobby quindi gli chiederei subito sia che cos'è The Good Lobby perché mi sembra giusto spiegarlo sia come così intendiamo muoverci per riemergere dalla lunga parentesi pandemica e ridare fiato a questa campagna di scienze in Parlamento magari anche perché no in prossimità delle prossime elezioni che ormai non manca tanto siamo già in campagna elettorale come si può vedere e quindi non so quanto ci darà retta però potrebbe anche essere il momento giusto Federico sì grazie mi sentite grazie grazie Luca e Alessandro sì The Good Lobby è un'organizzazione non governativa paneuropea basata a Bruxelles io dirigo l'ufficio italiano che è nato nel 2019 noi fondamentalmente anche con questo nome provocatorio ci occupiamo di aiutare la società civile i punti di vista che faticano ad emergere nel dibattito e ad aiutarli nel dibattito pubblico e ad aiutarli a contribuire quello che diceva poco fa Alessandro a contribuire a fare in modo che una pluralità di punti di vista spesso quelli che hanno più difficoltà ma non che siano meno importanti e rilevanti a trovare ascolto nei luoghi in cui vengono prese le decisioni contribuire che cosa? contribuire alla qualità poi delle decisioni stesse alla qualità della nostra democrazia noi abbiamo un programma di incubazione di campagne iniziative dal basso quindi portate avanti da cittadini da organizzazioni della società civile e ci occupiamo appunto di aiutare tra le altre cose queste iniziative ne parlavo prima con Luca che adesso abbiamo contribuito forse se ne avrete sentito parlare di questa campagna iniziativa sul benessere psicologico e sul bonus psicologo abbiamo cercato di aiutare appunto questi gruppi frammentati e informali a creare una coalizione per cui la settimana scorsa c'è stata una manifestazione a Roma per cercare di rilanciare quella che poi è stata diciamo una concessione di questi fondi per di 20 milioni di euro per rendere ovviamente quel contributo più significativo ma soprattutto strutturale e abbiamo collaborato con Fridays for Future abbiamo collaborato stiamo lavorando con una campagna appunto perché le tematiche sono trasversali che si occupa del voto ai fuori sede e per cercare di fare in modo che i circa 4 milioni di cittadini fuori sede in Italia abbiano la possibilità di votare da remoto come peraltro avviene uno studio che abbiamo realizzato noi che poi è stato anche portato avanti dal Ministero delle Riforme e ha confermato che l'Italia assieme a Malta e Cipolo è l'unico paese a non avere appunto una legge che permetta di votare da remoto questo per inquadrare il tema del fatto che ci sono delle campagne e delle iniziative giuste sacrossante che hanno molta difficoltà ad organizzarsi a strutturarsi ma che sono rappresentative di interessi molteplici direi che in questo caso al di là del fatto che appunto tutti voi vi occupiate di scienza e quindi siate in qualche modo direttamente consapevoli dell'importanza ma tutti noi come cittadini abbiamo avremmo il desiderio l'aspirazione che le scelte dei nostri decisori siano informate siano consapevoli siano frutto dell'ascolto di una molteplicità di attori e quindi puntino alla qualità come diceva appunto Alessandro ad oggi la situazione almeno del Parlamento per quanto riguarda le tematiche scientifiche è sicuramente molto deficitaria deficitaria da almeno due punti di vista anzi direi da tre punti di vista ovviamente perché oggi ci troviamo in una situazione in cui con la complessità delle questioni scientifiche tecnologiche che i decisori pubblici devono affrontare spesso a fronte della mancanza di apparati tecnici all'interno delle forze politiche spesso i politici i parlamentari non hanno un supporto appunto all'interno delle forze politiche che permetta loro di formulare delle proposte consapevoli dall'altra parte e ovviamente non possiamo neanche aspettarci che un parlamentare sia in grado di conoscere qualsiasi tema quindi ha bisogno comunque di struttura supporto dall'altra parte come diceva Alessandro il Parlamento italiano è dotato di uffici studio ma questi uffici studio riflettono da una parte appunto una forse cultura italiana che è di natura prevalentemente giuridica almeno la cultura delle politiche pubbliche che è prevalentemente giuridica per cui a me che mi interessa di tematiche legate al diritto e al rule of law gli studi del Parlamento italiano risultano molto utili però non ho mai visto nessuno studio dedicato a tematiche scientifiche il terzo aspetto è quello delle audizioni parlamentari le audizioni parlamentari sono un strumento molto importante se vogliamo anche di partecipazione politica attraverso i quali i parlamentari hanno la possibilità di acquisire pareri e informazioni da parte di esperti il problema è che queste audizioni parlamentari sono estremamente discrezionali sono estremamente discrezionali pensate che appunto si chiamano ancora oggi audizioni informali perché il meccanismo nonostante esistano da oramai decenni è che non sono mai state formalizzate quindi esistono delle audizioni formali che sono quelli di organi istituzionali e le audizioni degli stakeholder esterni degli esperti esterni sono appunto frutto di una mancanza di regole che cosa determina questa mancanza di regole determina quella discrezionalità a cui faceva riferimento Alessandro e purtroppo noi abbiamo l'anno scorso realizzato proprio uno studio sulle audizioni parlamentari ovviamente anche rafforzano delle posizioni che sono magari prossime a quelle del presidente della commissione che vuole invitare degli esperti che rafforzino già la sua posizione non è una fotografia dei punti di vista delle competenze in campo ovviamente c'è chi lo fa in maniera seria non dico che questo sia il 100% la rappresentazione di come funzionano le audizioni parlamentari però si approssima appunto al rischio ultimo punto è quello dell'assenza di una legge che regolamenti il lobbying perché sarebbe importante perché una legge che regolamenti il lobbying non dovrebbe solo essere una legge sulla trasparenza dei processi decisionali ma anche sulla partecipazione ai processi decisionali e quindi sull'invito superando le assimmetrie informative che oggi ci sono a una pluralità di attori a partecipare appunto a portare il loro punto di vista affinché il decisore pubblico abbia un quadro quanto più allargato e complesso di una realtà che oggettivamente è complessa senza un superamento di queste assimmetrie informative i punti di vista più purtroppo mi viene da dire in Italia che hanno che vantano delle relazioni con la politica più strette hanno spesso maggior possibilità di farsi ascoltare purtroppo a scapito magari delle organizzazioni della società civile che non hanno delle strutture alle spalle per fare un'attività puntuale di lobbying ma anche di tantissimi punti di vista innovativi all'avanguardia penso a tanti settori come quello dell'energia per cui magari le grandi aziende che portano che hanno dei vantaggi competitivi perché vantano decine di anni di frequentazione con le istituzioni sono in grado di farsi ascoltare i punti di vista ripeto più innovativi ma più innovativi non perché lo dica io ma perché contribuirebbero davvero ad avere delle politiche pubbliche di qualità migliore e più aggiornate quindi un servizio appunto scientifico permetterebbe ai decisori pubblici che ripeto non necessariamente devono avere delle competenze di base sui temi su cui si cimentano permetterebbe di avere quantomeno delle competenze di base un aggiornamento sul dibattito scientifico che quindi sia neutrale e che permetta anche loro di a quel punto individuare gli esperti punti di vista necessari per riuscire ad avere una visione più aggiornata rispetto a come poi una politica pubblica dovrebbe essere dovrebbe essere assunta quindi consideriamo appunto questo è un progetto che davvero ha una portata sistemica abbiamo appunto vissuto viviamo delle emergenze continuiamo a vivere delle emergenze che a maggior ragione ci fanno capire quanto informazioni puntuali aggiornate l'ascolto dei vari stakeholder sarebbe urgente beh purtroppo appunto ad oggi non è ancora andata così ma cercheremo attraverso una campagna ad hoc in cui aiuteremo gli amici di Scienza in Parlamento di cercare appunto su come riuscire a ragionare per tenere vivo il tema nei prossimi mesi in vista anche della campagna elettorale grazie prima di parlare di questo volevo dire se Alessandro tu stai andando Alessandro si Luca mi dispiace purtroppo vi devo lasciare volevo ringraziarvi nuovamente e ovviamente resto disponibile per discutere ulteriormente in maniera asincrona in futuro va bene allora ti salutiamo e continuiamo un po' quello che ci hai detto abbiamo un po' di elementi per andare un pochino avanti e poi passiamo alle altre cose grazie ciao ciao Alessandro quindi riprendendo quello che ha detto anche Federico noi adesso abbiamo questo programma cioè loro hanno la possibilità cioè come The Good Lobby di fare una sorta di incubazione come si suol dire quindi di formare qualcuno di noi con noi intendo Scienze in Rete anche Gruppo 2003 per la ricerca che ha ovviamente sostenuto questa quest'idea di spingere sulla sulla consulenza scientifica per il mondo della politica anzi se poi Maria Pia vuoi intervenire su questo sarebbe utilissimo e lo facciamo con una una formazione che Federico e gli altri ci faranno un po' che inizia domani non so infatti mi devo preparare proprio per poter andare in modo un pochino più consapevole e non così un po' più ingenuo puro a Roma nel Parlamento ai politici a raccontare queste cose cercando di avere quel giusto grado di convinzione ed efficacia per cercare di far passare questa cosa che è nata a questo punto tre anni fa e quindi questo è sicuramente un aiuto molto importante che ci danno e diciamo che è una sorta di lobbismo per cercare di mettere assegno e cercare di far germinare quest'idea di ufficio di informazione scientifica e tecnologica che molti paesi hanno tutti i parlamenti hanno tranne il nostro e che è giusto che abbiano una cosa che Alessandro non ha fatto in tempo a dire ma ha detto qualche giorno fa a Padova in un'altra riunione in cui eravamo presenti entrambi è che è anche abbastanza misleading l'idea di una evidence based policy cioè non si pretende che gli scienziati guidino la politica perché la politica ha altri valori che sono assolutamente riducibili alla scienza la scienza dà i fatti dà i limiti dà anche il perimetro di posizioni che quasi sempre su argomenti complessi possono essere anche conflittuali perché se tutti le persone ragionevole possono come dire dare il loro consenso al fatto che il cambiamento climatico sia di origine antropica ma le soluzioni che per arrivare a una decarbonizzazione possono essere le più diverse c'è chi difende il nucleare chi vuole arrivarci solo con le rinnovabili litigi furibondi devo dire che non è che gli scienziati in questo come dire siano un esempio preclaro di composizione a loro volta di posizioni che possono essere a loro volta ideologiche quindi è tutto piuttosto complesso questo ma questo come lo si risolve lo si risolve non mettendo gli scienziati che sono scienziati in tutti i sensi operativi a capo di una commissione nel Parlamento ma dando vita appunto a questa figura del science advisor che non è che ha una base di scienza magari ha fatto anche ricercatore ma che adesso fa un'altra cosa cioè ha sia la cultura scientifica sia la cultura politico-istituzionale sia quella capacità di comunicazione che gli consente di mediare di raccontare di fornire prove o prove anche mappare i conflitti discorde eccetera ma per dare un panorama poi sarà il decisore che si prenda la responsabilità di legiferare di prendere le proprie decisioni quindi questo direi che è un po' il punto che Scienze in Parlamento vuole portare avanti si ragionava sul fatto se questo è il momento giusto le elezioni non lo so nel senso che sono lì che stanno tutti anche perché c'è un sistema elettorale a proposito del fatto che Giuliano diceva io non conosco tanto bene come la biologia marina magari che ne so come si fanno gli emendamenti o i sistemi elettorali questo sistema elettorale è molto molto più complesso della fisica quantistica cioè è una roba veramente difficile cioè è mefistofelico nel riuscire a dare a chi riuscirà a fare delle come dire delle unioni la maggioranza assoluta pur non essendo un maggioritario ma dando un premio che può arrivare al 38% se riuscirà in modo come dire omogeneo su tutto il territorio ad arrivare alla maggioranza quindi come dire c'è molta matematica anche nella politica se lo devo dire questo quindi è molto importante concepire così un science advice che in Italia è un po' è un po' agli inizi non so se c'è qualcuno che vuole ecco Maria Pia eh certo ti ho evocato gelato il limone no no arriva 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 ma allora guarda io credo che noi italiani dobbiamo farci un po' le ossa su questo soprattutto noi scienziati quindi lo dico anche in maniera autocritica nel senso che da noi c'è un po' questa attitudine che quando sei chiamato ad esprimere una posizione comunque un pochettino mi spiace dirlo ma la realtà cerchi di approfittare della situazione no cioè nel senso di portare a casa qualche cosa da questo scusate se lo dico proprio in maniera molto molto aperta invece non deve essere così negli altri paesi sono molto più abituati di noi perché negli altri paesi questo diciamo movimento di poter fungere da come dire referente accreditato nei confronti della politica è un qualcosa che già succede da tantissimi anni e come si è realizzato si è realizzato proprio diffondendo la terza missione no cioè il ruolo che il rapporto continuo che le istituzioni hanno col territorio e quindi anche vagliare in maniera critica tutto quello che viene dall'accademia dagli enti di ricerca non in funzione di quello che è il tuo progetto di ricerca ma in funzione di quello che è utile per il territorio di quello che è utile per la comunità utile per per il paese ora negli altri paesi soprattutto quegli anglosassoni hanno questa tradizione della civil servant come la chiamano loro no cioè quindi la persona l'esperto che viene chiamato ad esprimere un suo parere assolutamente privo di conflitto di interesse anche se è ancora uno scienziato ricercatore attivo assolutamente disgiunto da qualunque meccanismo così di ritorno personale ecco noi a questo spiace dirlo ma non siamo molto abituati e dobbiamo iniziare a farlo ma dal proprio dalle cose piccole dal basso per esempio quando nelle Atene e nelle università quasi tutti hanno un fondo interno per la ricerca di Ateneo e cominciare a inculcare anche nei docenti che quando si giudica un progetto quando si guarda ad un'ipotesi si considerano tutte le possibili verità lo si deve fare veramente in maniera indipendente dal fatto che quello è l'allievo del tuo antagonista cioè noi siamo ancora spiace dirlo ma siamo molto prigionieri ancora di questo meccanismo vuoi per la carenza di finanziamenti che abbiamo avuto finora per cui quando capitano queste occasioni ci sembra veramente anche giusto usufruirne ma non a livello personale per intascarsi qualcosa ma a livello personale per portare avanti la tua opinione quello che dicevi anche tu prima che questa tendenza di favorire della presenza in Parlamento di opinion leaders che sposino già l'idea che si è fatto il presidente della commissione no questo noi lo favoriamo lo favoriamo proprio per una nostra attitudine siamo rimasti molto indietro da questo punto di vista mentre invece negli altri paesi quando scatta questo meccanismo ti chiedono un'opinione tutto il resto scompare tu dai un'opinione e se tu ritieni che l'opinione è corretta e anche andare contro quello che stai facendo la dai e ecco finché noi non riusciamo veramente a superare un po' questo provincialismo no e a veramente a rendere quello che diciamo autorevole ecco noi stessi non saremo un punto di riferimento affidabile per i politici cioè io ho visto ho fatto un tentativo ho fatto un bando all'interno della mia università un bando interno con un finanziamento dell'Ateneo e ho voluto apposta utilizzare come referi i docenti senior dell'Ateneo perché spiegando che bisognava prendersi cioè farlo come servizio questo e come un servizio obiettivo no che quindi se tu guardi il curriculum dell'allievo del tuo vicino di casa col quale fai anche delle ricerche come dire avete dei punti di vista diversi deve prevalere il senso di responsabilità non è semplice non è semplice perché noi siamo stati anche molto abituati in tutto noi italiani anche storicamente no ma e poi nella ricerca in modo particolare ad arrangiarci perché non avevamo risorse perché qualunque occasione che arriva pensi di volerla è molto difficile staccarsi da questa mentalità se noi riusciamo a farlo allora diventeremo anche un pochino sta succedendo perché abbiamo visto anche nelle varie commissioni che sono state fatte per la ripresa del paese per la pandemia nei vari comitati ci sono state delle persone estremamente autorevoli che sono state incaricate di dare delle opinioni e che l'hanno fatto in maniera corretta non tutti ma alcuni cominciano a farlo e questo noi dobbiamo divulgarlo cioè questo deve essere un argomento di cui si parla di superare il proprio piccolo interesse d'orto e di riuscire a dare un parere veramente libero basato soltanto sulla credibilità dei fatti sì 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 oltretutto questo discorso del conflitto di interessi e della trasparenza che devono essere anche implementati in qualche modo fanno proprio parte di quello che voi fate nelle vostre varie anche antipatiche analisi di vari ministri che si incontrano più con gli uni che con gli altri che hanno fatto saltare i nervi a qualcuno ma sicuramente è utile perché in questo modo a un certo punto si riesce un pochino a solo e soltanto se cambia anche tanto la mia voce guarda la sentano di là se cambia anche il discorso di come siamo comunicatori e divulgatori perché è il contesto che ha permesso tutto questo cioè io che ho vissuto i tempi dell'università un po' datata ovviamente tutto era così cioè noi non potevamo entrare in università come ricercatori se non eravamo figli piuttosto che parenti piuttosto che io ho bazzicato persone che mi hanno raccontato come andavano i concorsi per cui però il problema è che le persone che stanno intorno al sistema che non sono preparate e quindi il primo compito è vero di formare un comitato a fronte di che ha una trasparenza eccetera ma preparare le persone ad essere cittadini consapevoli e a fare barriera rispetto a questo sistema perché se tanto questo sistema lo accetti ecco siamo come al solito in ritardo quindi io volevo fare l'appello di scienze in parlamento che chiunque fosse interessato può sicuramente riprendere magari anche associarsi a questo processo di formazione che ci porterà non so bene adesso vediamo a far cosa ma sicuramente a affinare il messaggio cercare di renderlo più persuasivo e chiamerei Chiara Sabelli magari resta qua Chiara Sabelli che peraltro si nasconde ma fa parte anche lei di scienze in parlamento e anche Jacopo Mengarelli che peraltro ha fatto un pezzo di le voci della scienza che ha delle cose interessanti da dire anche su questo tema della difficoltà di comporre posizioni diverse ma intanto inizia tu no Chiara Sabelli è una giornalista scientifica fa una bellissima newsletter per scienze in rete con notizie articoli che vertono molto anche sui dati su argomenti come l'intelligenza artificiale ed altro ancora e visto che comunque non voglio per forza trovare delle connessioni tra un argomento o l'altro però il mondo della science policy advice delle decisioni eccetera si nutre anche di dati ecco lei la persona giusta perché lei studia i dati mi racconta ed è appunto quella che noi mandiamo avanti quando si tratta di parlare di queste cose e quindi ci tenevo che anche lei raccontasse questo pezzo importante peraltro di scienze in rete fondamentale e delle voci della scienza con con qualche aneddoto qualche cosa di anatomia come avevo scritto su queste data storie il collegamento in realtà io l'ho trovato mentre parlavate perché abbiamo parlato di prendere decisioni informate in realtà il modo in cui abbiamo cercato di fare entrare i dati nel progetto le voci della scienza non è stato diciamo semplicemente raccontare prendere dei dati visualizzarli spiegarli o renderli accessibili ma sono andata a rileggere il progetto ieri sera c'era scritto a crescere la cultura statistica e dell'incertezza e poi chiaramente l'avevo scritto così l'avevo scritto io poi c'è una parte che non cito perché non l'abbiamo fatta sempre l'avevo scritta io però quella parte lì non la racconto e chiaramente le decisioni a cui abbiamo voluto dare diciamo dei che abbiamo voluto rendere un po' più informate dando degli strumenti quantitativi riguardavano la pandemia perché era quella che semplicemente ci garantiva la maggiore attenzione da parte delle persone continua a essere uno degli argomenti scientifici su cui anche un pubblico che normalmente non frequenta la scienza si informa e quindi è in questo senso che noi abbiamo interpretato data story e tu mi hai dato questo titolo l'anatomia di una data story che era una cosa easy e sono andata a cercare anatomia vuol dire analisi minuziosa e approfondita quindi in 5 minuti non ce la faremo però diciamo prima di arrivare forse quindi questo era il collegamento con quello che stavamo dicendo quindi abbiamo fatto tre storie forse tre diciamo tre articoli scientifici tre articoli diciamo di giornalismo scientifico che contenevano dei dati ma più che dei dati appunto parlavano di statistica uno era tutti quanti più o meno quando c'era Omicron versione quella buona quella iniziale di gennaio uno era su come interpretare i risultati dei test antigensi io non so se personalmente avevo un bias contro questi test antigensi ma in quel momento ho avuto una rivelazione c'era il periodo delle file fuori dalle farmacie dei tamponi introvabili e quindi abbiamo costruito questa era in realtà abbiamo raccontato il teorema di Bayes che è una cosa poco come dire poco fancy però è quello che serve per cercare di soppesare il risultato che leggiamo sul test con le nostre conoscenze prima di fare il test quindi quanto è diffuso il virus in quel momento e se io sono stata o ho una informazione prima di fare il test particolare perché per esempio so di essere stata a contatto con qualcuno che ha il virus e quindi ho una probabilità che si dice a priori quindi prima di fare la misura in questo caso maggiore della circolazione che c'è in quel momento insieme a tutti gli epidemiologi che sono amici di scienze in rete la stima era 7% la prevalenza nonostante chiaramente i casi fossero più bassi ma c'erano tutti più asintomatici chi non si testava e in quel caso il test antigenico rapido fatto a casa era uno strumento affidabile cioè un risultato positivo era un risultato che era da prendere sul serio e questo perché diciamo prendere decisioni informate perché ci sono stati casi anche nelle nostre conoscenze e famiglie di persone che per aspettare il risultato di quello che era considerato il gold standard ancora è scritto così dappertutto il test molecolare aspettavano di fare il test e nel frattempo non si isolavano dal resto della famiglia magari la contagiavano invece se avessero fatto questo test antigenico che c'era in tutte le farmacie avrebbero potuto magari limitare il contagio almeno a livello familiare e questo era diciamo la nostra interpretazione di che cosa fossero la statistica più che altro e l'altro aspetto che secondo me è stato interessante in realtà non era così intenzionale però invece è stato cosa ci no c'è stato tutto abbiamo parlato a lungo del comitato tecnico scientifico e sappiamo che la produzione scientifica è aumentata tantissimo quantitativamente non lo so quanti articoli abbiamo scritto ma c'è stata anche una pirata cioè fisici che si sono messi a fare studi di epidemiologia matematica o comunque con la teoria delle reti quindi tantissima produzione scientifica quanta ne abbiamo usato ne abbiamo usato di questa conoscenza e gli spunti che abbiamo avuto sono stati due uno è stato sulla ventilazione e la purificazione dell'aria perché a gennaio c'era stato qualcuno che diceva non riapriamo le scuole perché c'era l'ondata quella spaventosa di carmini numerici e alla fine le scuole le abbiamo aperte ma sui giornali intervistavano questi presidi che dicevano io ho messo in sicurezza il mio istituto perché ho comprato un purificatore d'aria e ti dicevano il modello magari ti facevano vedere la foto quindi siamo andati a ricostruire a cercare le specifiche tecniche di questi oggetti che erano a prezzi abbordabili perché chiaramente dovevano rientrare nel budget non straordinario cioè non c'era niente di strutturale in queste iniziative ma con i fondi interni della scuola e abbiamo preso un modello di come funziona la circolazione dell'aria in una stanza e stime diciamo modelli di rischio di valutazione del rischio per capire se c'è una persona infetta qual è il rischio che alla fine di due ore di conversazione con mascherina senza mascherina ce ne siano altri due altri tre altri quattro c'era un modello che aveva messo appunto un gruppo dell'università di Cassino ed era in qualche modo reso accessibile c'era un po' gli Excel illegibile quindi la scienza in questo caso si era aperta ma un po' in maniera maldestra quindi abbiamo contattato gli autori di questo modello che tra l'altro sono consulenti dell'organizzazione mondiale della sanità quindi persone autorevoli e ci siamo un po' fatti spiegare da loro come funzionava abbiamo preso le dimensioni di un'aula l'occupazione media di un'aula scuole medie scuole elementari avevamo fatto degli esempi per capire se gli investimenti di questi presidi erano ragionevoli oppure no e non lo erano erano purificatori la cui portata non era sufficiente ad assicurare diciamo un abbassamento del rischio significativo e l'altra cosa che avevamo fatto la terza storia invece riguardava la mortalità che è stato un filone che poi abbiamo coltivato a lungo perché su quante persone sono morte durante soprattutto il primo e il secondo il primo anno c'è stato un po' questo meccanismo che è l'eccesso di mortalità cioè le persone che sono morte in quest'anno se la pandemia non ci fosse stata quante persone in più sono morte rispetto a un uguale anno senza pandemia quindi un mondo un esperimento che non possiamo fare era un po' usata come una classifica per dire per capire quali paesi avevano gestito bene o meno bene la pandemia e abbiamo trovato diciamo l'indizio era stato che un giovane statistico italiano che però lavora in Germania aveva detto guardate attenzione che le stime degli uffici di statistica non tengono in considerazione il fatto che la popolazione sta invecchiando noi abbiamo fatto un calcolo un po' a spanne diciamo non troppo sofisticato e se consideriamo che la popolazione sta invecchiando nel 2020 anche senza la pandemia ci saremmo aspettati più morti e quindi in realtà l'eccesso di mortalità è minore allora siamo andati a cercare se per l'Italia potesse valere un discorso simile e lo abbiamo trovato in un articolo che però si concentrava su degli aspetti un po' più tecnici che faceva una stima di questo eccesso di mortalità che era tra l'altro fatto da un gruppo di italiani in Inghilterra e abbiamo dovuto un po' scovare questa cosa nei dati perché la rivista per cui pubblicavano imponeva di condividere i loro dati in maniera aperta ma aperta vuol dire tante cose cioè c'è un file con un'estensione complicatissima tu devi parlare con loro devi capire qual è poi la colonna giusta e così via l'articolo non si concentrava su questo aspetto quindi noi abbiamo dovuto prendere questi dati e fare dei calcoli per visualizzare poi l'andamento della loro mortalità stimata che in effetti considerando l'invecchiamento della popolazione è più basso di quello che è stimato dall'ISTAT e l'ISTAT segue questo approccio diciamo modellizza zero cioè non fa modello prende semplicemente la media della mortalità degli anni precedenti e dice questo è quello che ci saremmo aspettati anche per dei 5 anni precedenti quindi 2015-2019 e quello ci saremmo aspettare lo stesso non so se questo è quello che abbiamo ottenuto facendo quest'analisi quindi il rosso sono i morti attribuiti a Covid perché sono un'altra cosa sono quello con cui ci confrontiamo il verde sono i morti stimati in eccesso nel 2020 da questo modello diciamo sviluppato da questi statistici italiani in Inghilterra italiani sto dicendo italiani ma in realtà c'è il primo autore è un postdoc greco e la linea arancione e quella barra grande a proposito di incertezza quell'ombra azzurra e l'incertezza sulla stima mica piccola perché l'estremo inferiore è a 25.000 morti in più e l'Istat stima l'estremo superiore quindi 100.000 morti quindi la correzione qui era grande e poi da lì è nata l'idea di fare una conversazione online coinvolgendo tutte le persone che avevano fatto queste stime è venuto fuori che tra di loro si stavano un po' confrontando e che questo numero qui che è basato che diciamo ci sono tante stime in giro sulla mortalità compresa una stima dell'Economist che fa uso di dati molto diversi usa un approccio molto diciamo tecnologico usa delle reti neurali mette dentro dati di tutti i tipi e arriva un numero anche lì un numero che per molti è considerato in eccesso rispetto esatto però abbiamo scoperto che l'organizzazione del mondiale della sanità ha fatto una stima che poi è ritrattato che un gruppo quello che si occupa del global burden of disease ha fatto una stima pubblicata su una massima rivista medica cannata e ritrattata e quindi che in qualche modo abbiamo visto all'opera il processo di autocorrezione della scienza che funziona alla fine al di là di tutto cioè in quel caso l'articolo era pubblicato e arrivato su rivista però la complessità sia dei dati da usare che dei modelli utilizzati aveva un po' diciamo inceppato il meccanismo e noi in qualche modo siamo stati un po' testimoni piccola parte protagonisti di questa vicenda mi fermo qui perché so che siamo in ritardo bene no ma molto interessante cioè io quando scrivo un articolo scrivo un articolo la Chiara calcola smonta i database degli altri li rimetti insieme dice hanno sbagliato tutti e poi scrive l'articolo anche lei quello è data giornalismo effettivamente o quantomeno eh beh insomma però devo dire è che abbiamo abbiamo fatto dei lavori cioè che hanno fatto non so ma gli stati abbiamo fatto dei lavori interessati proprio nell'analizzare nell'analizzare questi set di dati posso fare un'autogritica solo diciamo forse nelle nostre data story manca la parte story cioè la parte di racconto perché quella richiede noi abbiamo siamo rimasti più tecnici ci sono tanti esempi invece in cui poi dai dati emergono dei fenomeni e poi tu li sai anche raccontare perché hai il tempo di intervistare delle storie dei puntini di questa nuvola di puntina però lì servono diciamo beh hai fatto anche una cosa per Nature Italy in cui hai se ben capito fatto vedere come l'analisi la mappatura del rischio in Italia non esista o non sia no diciamo quello non è io dati purtroppo non li ho visti perché non sono aperti i dati però in quel caso quello è stato un lavoro di diciamo di investigazione intanto di intervista delle persone però i dati non ci sono certo non ci sono ancora no i dati sono un punto fondamentale per queste decisioni come si può immaginare per le politiche e devo dire che qui qui si apre si aprono come ha mostrato la pandemia dei grossi interrogativi come un altro grosso problema e qui per questo che ho chiamato anche Jacopo che peraltro è un musicista l'autore delle sigle dei nostri podcast ha fatto anche lui dei podcast tra cui uno molto bello sulla musica ma ha fatto anche questa rubrica che è quella che ci fa dannare di più che si chiama vero falso il cui intento era quella di non dire una cosa è vera e l'altra è falsa ma paradossalmente anche se il titolo potrebbe suggerire il contrario cosa che ha capito nessuno credo ma insomma cioè che non c'è un vero o un falso ma ci sono delle posizioni in qualche modo difendibili diverse su molti argomenti ai quali tipicamente la scienza si applica l'ultimo che forse non è ancora stato pubblicato è sui termovalorizzatori che ti hanno pubblicato ieri e quindi abbiamo un pochino ci siamo un pochino scontrati con la difficoltà di mettere a confronto degli scienziati e degli ricercatori su temi controversi che abbiamo risolto non facendoli interagire però la domanda è perché si chiamano vero o falso sì un po' l'idea era quella di diciamo esplorare dei temi abbastanza complessi abbastanza controversi tra l'altro non solo complessi come ecco intervistando due persone facendo le stesse domande identiche all'una e all'altra separatamente non soltanto perché è abbastanza difficile trovare un orario in cui sono tutti disponibili ma l'idea iniziale era quella di evitare che si influenzassero la vicenda rispondendo alle domande questo ha prodotto tre per ora tre vero falsi ognuno ognuno dei quali ha un po' la sua caratteristica per esempio il primo è quello sul nucleare che probabilmente come già dicevi tu Luca prima è uno dei temi forse un po' dibattuti controversi ha generato delle risposte che non sono simmetriche non sono confrontabili del tutto l'una con l'altra tra i due interlocutori ma che in realtà non sono anche completamente in contraddizione l'una con l'altra cioè nonostante uno che è Nicola Armaroli fosse notoriamente contrario all'impiantare costruire un nuovo centrale nucleare in Italia e l'altro che adesso non mi ricordo chi fosse De Paoli mi sembra professore di economia ambientale alla Bocconi fosse favorevole però in realtà quello che viene fuori è un'analisi abbastanza obiettiva su quali sono i pro e i contro non del tutto incoerenti tra di loro qualcosa sì ma il risultato finale è un qualcosa che va oltre la singola intervista e quindi che annulla un po' anche quelli che possono essere gli interessi in gioco del singolo intervistato del insomma del virare le risposte per far andare la verità verso quello che uno pensa e così via il contro è la mail che non diciamo la che abbiamo ricevuta di ieri che dice che avrebbe preferito parlare e confrontarsi direttamente con l'altro perché a suo avviso avrebbe sparato parecchie cose inzatte quindi sì c'è un po' questa doppia c'è questa ambivalenza in questa rubrica di difficile realizzazione peraltro in effetti l'idea poteva anche essere quella o era all'inizio quella di fare contemporanei questi due video paralleli che rispondono alla stessa domanda e nel modo più fantasiosi sentire quello che diceva il pubblico far domande poi far reintervenire loro solo che diventava una cosa però teoricamente abbiamo fatto una cosa a metà cioè dal secondo vero falso abbiamo inserito delle domande prima e le stesse identiche dopo il video senza sapere se effettivamente la gente l'abbia fatta prima davvero e dopo davvero però probabilmente è così probabilmente sono stati abbastanza bravi anche perché il numero di persone che ha fatto le domande dopo sono la metà di quelle che erano fatte prima quindi forse si sono anche stancati dopo aver visto l'intervista di rispondere alle domande potrebbe essere effettivamente così che hanno risposto davvero prima e davvero dopo sto parlando soprattutto per quanto riguarda il vero falso appunto sull'agricoltura di precisione e biologica che anche qui è qualcosa che effettivamente si può mettere una contro l'altra è un po' complicata la faccenda quello che si vede è una differenza ah ecco domande fatte sono le stesse domande fatte ai due intervistati si vede una differenza iniziale tra le due agricolture effettivamente ma non era quello che ci interessava quello che ci interessava è se tra prima e dopo si fosse registrato un cambio d'opinione c'è una piccola qualcosa è cambiato poco però qualcosa si forse insomma organizzandola meglio e assicurandosi che davvero le fanno prima e dopo davvero sono le stesse persone che le fanno prima e dopo no però però è vero che adesso ci lavoreremo ancora quello che veramente stupisce mi fa dormire la notte più o meno è che i grandi le grandi sfide che abbiamo davanti come la transizione energetica ecologica ma sia energetica essenzialmente almeno per questo pezzo io non saprei chi ha ragione rispetto a chi dice tutto rinnovabili oppure forte mix energetico perché ogni volta che li mettiamo insieme li confrontiamo ognuno ci dice la sua ci porta i suoi dati tutto è molto difficile arrivare a una decisione mi rendo conto che è molto difficile anche politicamente arrivare a una decisione probabilmente la risposta è che tutte e due le vie sono possibili ma una costa molto di più molto più inefficace molto più lunga l'altra sarebbe molto più efficace quella del nucleare ovviamente perché sparerebbe una quantità di produzione energetica enorme in uno spazio molto ristretto ma con altre criticità che pure devono essere valutate in questo tipo di processo sì di fronte a le due ipotesi ti direbbe prendo il sistema misto perché il sistema misto è comunque quello arriveremo a un sistema misto perché comunque è quello che ti dà anche da un punto di vista delle probabilità e dell'evoluzione che quei singoli singoli progetti potranno avere più possibilità se non funziona una cosa è subito come pick up l'altra ecco però questo vedi è importante perché magari chi ha la mentalità del politico dell'economista riesce a cogliere questo ma noi come scienziati dobbiamo dare le giuste la giusta visione dello stato dell'altro e poi in ogni caso ci si è messa la guerra a far casino perché tutto quello che si diceva prima adesso accendono le centrali a carbone e quindi sono diciamo una wishing list una lista dei desideri devo dire che nel mio piccolo io a gennaio ho ordinato i pannelli solari da mettere sul tetto di casa mia a Milano non li ho ancora visti ho firmato contratti ho fatto tutto quello che potevo fare ma e questo ci fa capire dopo di che tu telefoni e dici ma allora e dice il signore la supply chain e vabbè mangeremo la supply chain cosa devo dire infatti c'è quell'ulteriore complicazione quindi chiunque c'è un discorso di un sistema complesso come quello che stiamo vivendo tanto per cominciare se io dovessi dare ad un politico una una c'è un dato scientifico tanto per parlare di dati gli direi attenzione bisogna anche considerare appunto delle situazioni in cui succede qualcosa la guerra dovrebbe essere presa in considerazione in un sistema complesso quindi non puoi pensare di chi sta pensando di risolvere il problema con un'unica via è proprio ma adesso faremo anche perché è tardi faremo un esperimento di di su un argomento che è la nutrizione perché siamo molto in ritardo sulla nutrizione con Mauro Serafini che ha capitanato un gruppo di lavoro del gruppo 2003 proprio sul tema dell'immunonutrizione ciao ciao Mappi ci sentiamo grazie e andiamo verso la conclusione con questi ultimi due interventi nutrizione e biodiversità perché sono due argomenti che peraltro ci riportano più o meno a questi temi che riguardano anche le decisioni eccetera quindi chiederei subito a Mauro e a Camilla che lo adesso se poi noi ci spostiamo grazie e facciamo un cambio di tavolo anzi guarda mi sposto qua a lato tu ti metti qua e Mauro si mette lì ecco ecco perché sono in bassa ci spostiamo ancora in più ci spostiamo ecco allora abbiamo fatto questo primo dossier che sarà il primo spero di una lunga serie ma per ora non ne vedo comunque speriamo di dossier del gruppo 2003 che sono nati un po' proprio con l'idea di fare questo quello che dovrebbe fare un scienze in parlamento cioè o meglio un position paper chiamiamolo come vogliamo che faccia un po' il punto per esempio su un tema molto importante di quanto e come la nutrizione possa orientare il benessere delle persone è ancora un po' difficilino rispetto come dire al modello che potremmo far leggere ad alcuni ministri o parlamentari però insomma ci stiamo avvicinando e quindi sono contento di avere fra noi appunto Mauro Serafini dell'Università di Teramo scienziato del gruppo 2003 ha recitato su questi temi della nutrizione con Camillo Orlandini che ha curato redazionalmente il dossier che quindi può dialogare con lui un po' per loquire purtroppo siamo un po' in ritardo dobbiamo essere un po' sintetici ma sicuramente abbiamo tempo per fare un po' il punto ecco va bene io vorrei iniziare questo intervento in linea un po' con la storia dei dati di cui stiamo parlando prima appunto con un dato secondo report dell'OMS Europa pubblicato quest'anno in realtà a maggio 2022 abbiamo un problema perché il 59% degli adulti europei è sovrappeso o affetto da obesità e l'obesità significa tante cose il sovrappeso significano tante cose e quindi prima di entrare un po' nel caldo diciamo dei temi vorrei partire proprio da questo dal fatto che abbiamo un problema e che cosa significa poi in termini di salute questo dato assolutamente quello che dici è corretto ma soprattutto lo analizzerei nell'ottica degli ultimi 50 anni dove c'è proprio un trend d'aumento chiaro che non è solo un problema delle nazioni diciamo industriali ma è molto più ampio e che è associato proprio all'aumento di tutte le patologie degenerative per cui diabete malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro il discorso dell'obesità è calzante e importante perché è una condizione che diventa un fattore di rischio aumenta enormemente il rischio per tutte le altre patologie perché l'obesità è una condizione dove non è che abbiamo solo un problema di eccesso di peso associato a quell'eccesso di peso abbiamo sempre un'alterazione dei parametri metabolici per cui le famose LDL HDL trigliceridi e così via non solo uno stress ossiativo e uno stress infiammatorio che è poi quel discorso che vedremo dopo legato al sistema immunitario e molto spesso anche alterazioni a livello insulinemiche quindi la mancata regolazione della glicemia e anche cardiovascolare per cui capite che è proprio un cluster di fattori di rischio per cui essere diciamo dal sovrappeso all'obesità di vario grado aumenta enormemente il rischio per ogni patologia degenerativa ecco secondo me l'alimentazione è un tema che si inserisce perfettamente nel discorso di oggi perché se da una parte è fondamentale parlarne perché ha un impatto sulla nostra salute appunto le conseguenze dell'obesità dall'altra parte comunicare le corrette pratiche di una sana alimentazione sembra banale ma in realtà è molto complicato perché tocca tanti aspetti e soprattutto in realtà ci sono delle linee guida la FAO il Ministero della Salute la comunità scientifica è abbastanza d'accordo su quello che bisognerebbe mangiare come bisognerebbe mangiarlo e tutto il resto eppure il problema persiste eppure c'è un gap c'è una distanza tra quella che è poi la teoria e quelle che sono le evidenze quindi bisognerebbe chiedersi da dove deriva questa incongruenza perché c'è questa incongruenza assolutamente questo è proprio il problema cioè nel senso che le linee guida sono abbastanza immutabili nel corso proprio degli 50 anni dove c'è stato l'aumento dell'obesità e sono basate comunque su dati abbastanza solidi e credo che la maggior parte delle persone comunque sappia di che cosa stiamo parlando il problema vero come evidenziato da moltissimi dal report di Lancet di due anni fa ma soprattutto da vari studi tra cui le linee guida americane che sono andate un po' a vedere l'aderenza della popolazione a quelli che sono i dettami delle linee guida il consumo di frutta verdura prodotti processati ma soprattutto prodotti origini animale e ci dicono in maniera chiara evidente che la maggior parte della popolazione non segue le raccomandazioni e nulla segue nella direzione sbagliata cioè nel senso che il consumo di frutta verdura legumi eccetera eccetera cioè tutti quegli alimenti che dovrebbero far bene che fanno bene è assolutamente molto molto minore rispetto alle raccomandazioni al contrario invece mangiamo molto di più di tutto quello che in eccesso ci fa male per cui se lei va a fare la spesa tutti quegli alimenti che lei sta dicendo adesso vedrà che hanno avuto avranno condizione climatica la guerra tutto quello che vuole degli aumenti stratosferici qual è la risposta vostra per questo perché sul piano teorico tutto quello che dite va benissimo però ancora lo dobbiamo dire quello che dobbiamo dire no perché io non ce la facevo più se io vado a comprare un chilo di ciliegia le pago 10 euro quando magari non lo so non è il mio caso non me ne frega niente una persona dice no spendo 10 euro ne spendo 2 per avere delle merendine perché non posso permettermi di fare quello allora mi sembra che il problema in questo momento sia ben altro comunque non sono d'accordo con lei però il problema c'è mi faccia rispondere mi dia lo spazio per rispondere è proprio questo quello di cui parleremo nello specifico nel suo io le posso rispondere relativamente a quello che faccio io nel senso che nel mio quartiere io ho tre mercati se lei dice le ciliegie a 10 euro poi non entro nel merito non sono un economista non entro nel merito dell'aumento dei prezzi che riguarda tutto in questo momento qualsiasi cosa c'è un discorso sia culturale che economico il culturale è proprio l'oggetto di questo dossier l'economico è dato dal fatto sono d'accordo con lei che le ciliegie possono costare 10 euro al chilo e allora io mangio magari una pesca ma compro delle pesche non costano 10 euro al chilo a meno che lei non va a fare nel mio no le dico io vado a fare la spesa al mercato siamo a prezzi assolutamente abbordabili per la frutta la verdura i legumi mi posso inserire a riguardo in realtà recentemente ora non mi ricordo esattamente quale istituzione se la commissione europea o l'MS vogliono proprio stanno proponendo delle risposte diciamo a questo problema dal punto di vista delle politiche fiscali quindi la loro idea è quella di proporre ai vari governi poi a seconda delle possibilità quello di andare a penalizzare per quanto riguarda la tassazione alimenti che sono sbilanciati o dannosi e invece aiutare il consumo di alimenti che sono sani quindi con devoucher o comunque altre politiche ora non so se questo sarà una soluzione però per dire come risposta alla sua osservazione però permettimi non è questo il problema il confronto merendino-cilieggia non si pone lì è un discorso di educazione alimentare non ci deve essere il confronto alimento processato tipo che ne so Bustel non mi abbiano contro quelli che producono Bustel e mela i due non vanno proprio in opposizione io vado per quell'altro alimento che è quello frutta verdura legumi eccetera eccetera poi il discorso del prezzo è tutto da valutare in base alle zone agli stipendi eccetera eccetera ma non si può fare un confronto del genere proprio quello non è proprio da considerare deve esserci un'educazione alimentare ma cosa non ha funzionato finora queste raccomandazioni scusate scusate facciamo facciamo finiamo però perché sennò diventa dibattito dopo dopo sì cerco ci arriveremo se ci fate siamo d'accordo il il dicevamo dicevamo il non seguire le raccomandazioni però è un grosso problema indipendentemente adesso da questi e da queste domande che avete fatto voi la maggior parte della gente non le segue perché probabilmente perché le vede in maniera un po' come dire repressiva perché si associano le raccomandazioni alla dieta classica o forse c'è anche un po' magari di non voglia di volerle seguire perché poi il cibo è mille altre cose è sicuramente piacere troviamo piacere mangiare altre cose piuttosto che un peperone magari per la maggior parte di noi oppure c'è a causa della mancata conoscenza magari dei possibili problemi che si possono avere in futuro ci si pensa quando ormai è troppo tardi e lì chiaramente quello è un po' il problema il focus del dossier sull'immunonutrizione vuole riflettere per un aspetto focale come quello del sistema immunitario proprio sull'importanza di iniziare a ragionare fermo restando la focalità delle raccomandazioni ma avendo constatato che le seguono in pochi su consigli suggerimenti alternativi alle raccomandazioni che possano essere in qualche modo seguiti in maniera in maniera un po' più semplice da parte della popolazione con l'obiettivo di ridurre tutta l'alterazione infiammatoria che è associata allo stato obesigeno e alle patologie correlate in realtà il dossier con Mauro abbiamo fatto per quanto riguarda l'alimentazione abbiamo fatto due tipi di divulgazione se vogliamo uno più diretta verso la popolazione e abbiamo registrato insieme un podcast in cui parlavamo proprio dei contenuti del dossier focalizzandoci su i suggerimenti pratici dall'altra parte il dossier raccoglie un po' la sfida di cui parlavamo prima sul science advice perché è indirizzato a decision makers policy makers quindi dare un contesto solido scientificamente comprensibile e appunto dei suggerimenti pratici come diceva Mauro che possono essere facilmente adottabili e questi suggerimenti nascono proprio da la disciplina dell'immunonutrizione di che cosa parliamo quando parliamo di immunonutrizione brevemente diciamo parliamo chiaramente dell'impatto che ha l'alimentazione quindi il cibo sul sistema immunitario che nello specifico andiamo a descrivere proprio tutto quello che è il focus praticamente il campo di battaglia vero e proprio cioè l'atto del mangiare ogni volta che noi mangiamo e chiaramente questo dipende dalla nostra condizione da che cosa e da quanto mangiamo il nostro sistema immunitario reagisce attraverso quello che viene definito stress post-prandiale infiammatorio per cui produce una serie di sostanze radicali libri citochine che hanno proprio caratterizzano questa risposta post-prandiale è un fenomeno transiente e fisiologico che dura dalle 6 alle 8 ore poi tutto torna alla normalità il problema qual è? il problema è che capite benissimo che se noi mangiamo tre volte al giorno e mangiamo magari male tanto questa condizione comincia a diventare praticamente intorno comincia a durare a rimanere fissa per circa 24 ore e giorno dopo giorno diventa una situazione cronica e non a caso l'infiammazione cronica è il fattore di rischio comune a tutte queste patologie e l'obesità perché abbiamo il paradosso che un sistema come il sistema della reazione infiammatoria che è una reazione chiaramente favorevole e positiva per il nostro organismo ci dà un messaggio che non riesce a cioè sta combattendo una battaglia che non riesce a vincere per cui rimane costantemente in uno stato infiammatorio e man mano che questa situazione va avanti questa reazione post-prandiale diventa sempre peggiore per farvi un esempio se voi avete il diabete e mangiate lo stesso pasto diamo lo stesso pasto a una persona a normo peso a una diabetica la risposta infiammatoria al diabetico sarà enormemente più alta per cui capite che diventa proprio una reazione a catena per cui è focale riuscire a ridurre questa risposta infiammatoria ora a questo punto facciamo un po' di io la chiamo divulgazione dura e ti chiedo a questo punto condividiamo questi suggerimenti di cui parliamo nel dossier in maniera chiaramente più dettagliata però quali sono? allora noi abbiamo focalizzato un po' il tutto su tre aspetti il primo e questo sono studi nostri studi anche di altri gruppi di ricerca è quello proprio di associare ogni volta che mangiamo un alimento d'origine vegetale sia frutta verdura legumi il famoso bicchiere di vino è chiaro come quei composti che sono all'interno di questi alimenti e in un discorso diverso dall'assorbimento è proprio un discorso di interazione durante il processo digestivo grazie alla loro azione antiossidante antinfiammatoria riescono in maniera chiara e netta a ridurre questa reazione infiammatoria ossidativa per cui questo è un suggerimento semplicissimo si può seguire senza nessun problema ma questo non vuol dire che uno deve mangiare 4.000 calorie in un pasto dice tanto fa alla fine mangio un mandarino e passa tutto no chiaramente no perché se no io non ho detto questo dico solo che bisogna comunque avere un occhio di riguardo in quello che si mangia però al fine di ridurre questa infiammazione è opportuno associare sempre un alimento di origine vegetale l'altro aspetto focale è legato a quel discorso che vi dicevo prima del mantenere bassa questa condizione infiammatoria e quindi anche tutta l'alterazione metabolica perché le due sono collegate per cui è chiaro che è fondamentale andare sempre a fare un discorso di valutazione dei parametri metabolici o immunitari perché questo ci dà una risposta molto chiara perché è evidente che nel momento in cui noi abbiamo ipertensione triceri alti colesterolo alto basse HDL eccetera noi è altamente probabile che siamo in uno stato infiammatorio per cui dobbiamo evitare quel momento dove il nostro sistema comincia a reagire in maniera estrema per cui quell'infiammazione diventerà sempre più alta il terzo punto il terzo punto importante e anche quello è un aspetto nuovo è la crononutrizione cioè l'importanza dell'orario dei pasti noi teoricamente come siamo abituati dovremmo essere abituati a un'alternanza giorno-notte ma anche per mangiare cosa che ormai non succede più perché noi ormai siamo abituati possiamo mangiare alle 2 di notte alle 3 alle 4 alle 5 di mattina sempre questa è è un'abitudine che comunque è cambiata moltissimo negli ultimi 20 anni e allora questo però ha un impatto importante perché se noi mangiamo lo stesso pasto diciamo facciamo un esempio come studi che sono stati fatti alle 18 o alle 21 la risposta glicemica ma anche infiammatoria è enormemente più alta la sera rispetto se noi mangiamo alle 18 non solo ci sono studi nostri anche qui sui centenari e anche altri che ci dicono in maniera chiara come questo sia un aspetto importante e questo è un aspetto su cui noi possiamo in qualche modo dire la nostra nel senso che prestare attenzione e cercare di mangiare un po' prima la sera perché questo ha un impatto veramente importante nella riduzione di questo stress post-prandiale perché ci evita quei famosi picchi infiammatori che a gioco lungo ci possono creare il problema soprattutto se associati a una condizione di eccesso corporeo sì per esperienza personale molto brevemente penso quando ho letto le linee guida del ministero a volte uno si sente un po' sovraffatto perché ci sono veramente molte cose che deve tenere a mente che deve considerare i latticini le uova la carne poca carne gli affettati quindi e devo dire però che io abito a Roma l'idea di mangiare alle 19 la sera alle 19 la sera esatto mi ha un po' angosciato anche quello però l'idea è che come io personalmente l'ho trovato l'ho trovato utile e l'idea è che poi sia utile per tutti è proprio il fatto di tirare fuori dei suggerimenti che siano non così pesanti mentalmente ecco perché alla fine anticipare di un'ora la cena per me terribile però magari per molti una cosa tranquilla e associare sempre la zucchina non lo so il fagiolino al pasto almeno io personalmente lo trovo un buon compromesso quando uno non riesce a raggiungere il gold standard che sono appunto le linee guida e la comunicazione è in questo caso è fondamentale perché se non arriviamo tutto bello però poi rimane rimane inutile sì assolutamente sì è importante comunicarlo e poi soprattutto appunto in un'ottima comunicazione credo che sia anche importante ripensare un po' anche i luoghi dove fare un discorso del genere quindi sicuramente arrivare a tutte le fasce sociali e di reddito della popolazione ma anche ripensare e sfruttare magari tante occasioni che abbiamo in Italia ogni estate ma non solo siamo pieni di sagre di qualsiasi tipologia legata al cibo quello è un momento e un luogo dove si può e si dovrebbe fare comunicazione in questo senso alimentare e non considerarlo solo un luogo dove magari andiamo a provare i piaceri enogastronomici no? però in maniera chiaramente molto semplice molto diretta con dei laboratori con delle dei piccoli seminari o magari dei podcast quello che sia cercare di lanciare dei messaggi in quel contesto perché sicuramente lì riusciamo ad arrivare magari a una parte della popolazione che magari normalmente non è interessata a seguire certi discorsi consiglio seminare la sagra nel prossimo progetto sagra in rete sagra in rete sarà il nostro prossimo progetto io poi alla sagra del cinghiale è una concorrenza un po' è una concorrenza un po' difficile ma insomma ci si può provare però si pone il problema della comunicazione sicuramente anche nel nel mangiare e a questo punto grazie grazie a voi Mauro Serafini e Camilla Orlandini e chiamo per l'ultima puntata della cosa Laura Scillitani e Anna Romano sulla biodiversità poi a parte mi parli della dieta chitogenica perché vedo molti che sono molto fissati con la dieta chitogenica o con la moda del digiuno intermittente quasi tutti che io quelli che conosco fanno il digiuno intermittente allora finalmente ci vediamo beh allora finiamo con la biodiversità che peraltro è un altro capitolo di quelli che vogliamo toccare assolutamente di cui ho comunque ampiamente parlato c'è una forte componente ambientale in scienze in rete e anche in le voci della scienza Laura Scillitani ecologa zoologa muse parco nazionale d'abruzzo tantissime cose e collaboratrice di scienze in rete insieme a Anna Romano che è colonna redazionale di scienze in rete fondamentale quindi ci racconteranno un po' adesso di quest'altro tema che del rischio oltre che di dimenticare le buone regole dell'alimentazione anche la biodiversità anche nel menu diciamo della transizione ecologica dove in effetti si parla molto di energia ma molto poco di questi altri temi troppo poco troppo poco se ne parla poco e in realtà forse primo problema prima si era parlato di politiche informate di passare davvero il contenuto scientifico e il dubbio è ma noi sappiamo davvero o meglio in generale si sa cos'è davvero la biodiversità perché deve essere un concetto che noi probabilmente associamo molto spesso al numero di specie per esempio in un dato territorio però in realtà c'è anche qualcos'altro ed è quello che determina poi l'importanza il valore della biodiversità stessa sì allora è esattamente così biodiversità è diventato un termine abusato utilizzato praticamente un po' per tutto e che però viene un po' anche scoperto di quello che poi è il suo reale significato e anche di qual è la sua implicazione per le nostre vite perché comunque faccio la domanda la giro a questo pubblico qualcuno mi vuol dire non vale lui che mi sa che è un zoologo qualcuno mi vuol dire che cos'è la biodiversità qualcuno saprebbe dirlo siamo in un pubblico abbastanza o se la sente di dirlo o se la sente è la diversità della vita intesa appunto non solo come ricchezza di specie ma come anche abbondanza ha diciamo due componenti per essere molto molto semplici diciamo perché in realtà esistono io mi occupo di appunto di ecologia e una prima parentesi che volevo fare è che uno dei problemi dell'ecologia della biologia della zoologia in generale è che è un po' una cenerentola delle scienze questo poi si collegherà anche a perché la biodiversità viene ignorata nel senso che anche quando mi sono laureata tanti anni fa in biologia comunque era un filone considerato meno scientifico di tutti quello che si ti occuperò di natura in realtà io stessa quando sono finita a fare ecologia ho detto santi lui ma quanta matematica c'è qua dentro è uno dei filoni dove in realtà fai tantissima matematica l'ecologia e dove fai tanta modellistica tanti programmi e tante cose quindi anche per la biodiversità in realtà esistono moltissimi modelli moltissimi indici che la stimano però quello che fondamentalmente è importante dire è che si basa non solo sul numero sulla diversità di specie animali vegetali che compongono un determinato ecosistema ma anche sull'abbondanza relativa quella che viene chiamata in inglese evenness cioè quanto vengono se sono diciamo più o meno bilanciate quindi il numero di specie ma anche come sono ripartite all'interno di questo sistema e poi esistono biodiversità a livello livello esistono biodiversità a livello genetico poi esiste una biodiversità a livello di ecosistemi può essere la biodiversità fra i diversi biomi come sono fra di loro composti quindi vuol dire tante cose quello che è certo è che diceva l'inventore di questa parola biodiversità Edward Wilson che è stato un importantissimo mermecologo e biologo che è morto purtroppo questo anno e l'inventore in un libro divulgativo che si chiamava la diversità della vita quello che sicuramente è certo è che ha un valore non solo diciamo scientifico ma anche culturale per noi perché noi ci siamo evoluti all'interno di ecosistemi che avevano un funzionamento in una certa maniera e per garantire questo funzionamento i cosiddetti servizi ecosistemici perché ci serve sempre dare un fine a un qualcosa per proteggerlo perché la proteggo la biodiversità perché mi serve ok sì ci serve perché se gli ecosistemi non funzionano non ci forniscono i servizi ecosistemici da cui la nostra stessa esistenza dipende e in più noi possiamo anche dire se appunto quando parliamo di tanti tipi di biodiversità e quando parliamo per esempio quando teniamo in considerazione la biodiversità genetica di fatto noi stiamo parlando di serbatoi di quelli di un potenziale adattamento futuro esatto che questo è anche la ragione per cui noi nel senso per cui si ritengono così importanti quelli che sono gli hotspot di biodiversità sappiamo che non è equamente distribuita su tutto il pianeta ci sono delle fasce delle aree in cui è più concentrata che diventano particolarmente importanti da tutelare ecco su un articolo che sta per uscire parlo proprio di un articolo che è stato appena pubblicato su Science dove questi ricercatori è un team internazionale però uno dei ricercatori è italiano della Sapienza Università di Roma in cui sono andati proprio a identificare quali hanno messo insieme varie cose che sono necessarie per proteggere la biodiversità uno sono gli hotspot le key biodiversity area così chiamate cioè aree chiave per la conservazione della biodiversità ma poi ci sono anche le aree protette e gli ecosistemi integri dal punto di vista funzionale cioè appunto ecosistemi che hanno una quota di biodiversità sufficiente per garantirne il funzionamento e mettendo insieme tutto questo hanno visto che per esempio se noi vogliamo proteggere la biodiversità fermare il drammatico calo ricordiamo che gli ultimi report di assessment di valutazione della perdita di biodiversità identifica in un milione di spese che sono a rischio di istinzione attuale questo per l'Ibbes e la convention of biological diversity che è la convenzione della Nazione Unita che lavora su la biodiversità aveva per il 2020 la decade della biodiversità 20 target gli AIC target che erano per proprio una tutela della natura dell'ambiente che sono stati praticamente tutti falliti e anche insomma sono goal non raggiunti una serie di cose di questo tipo e loro individuano che circa il 44% della terra dovrebbe essere soggetta a qualche forma di tutela il che non vuol dire necessariamente che devi fare un'area protetta dove nessuno può più entrare ma vuol dire anche cambiare uno stile di vita all'interno o renderlo compatibile con quello che può voler dire mantenere la biodiversità ci sono degli esempi di questi cambiamenti di stili di vita che non siano troppo otopistici possiamo citare in realtà sì ci sono degli esempi sono per esempio tutte le volte che si è riusciti a integrare nella gestione del territorio i cosiddetti popoli nativi ci sono diversi esempi in Latino America ma anche in Nord America e quindi laddove si dà una diciamo una cotutela delle risorse e quindi tutte le volte che hanno stato affrontato in questa maniera la gestione del territorio è stato vincente ma una reale cotutela un reale dialogo con le persone e un reale affidamento di incarichi circa questo ma cose che fra l'altro succedevano anche in Italia perché quando qualche anno fa ero stata per lavoro sulle Dolomiti e c'è tutta una zona che si chiama Regole ad Ampezzo dove mi spiegavano che loro si alternavano nella gestione del territorio montano e chiaramente alternandosi tu se io e te dividiamo una cosa forse capiamo veramente che questo è un bene comune perché forse questo è uno dei problemi principali della protezione dell'ambiente non capire che è un bene comune altro esempio sicuramente sono i buoni propositi che speriamo diventino una volta tanto perché appunto aprivo dicendo che la strategia per la biodiversità del 2020 è stata miseramente fallita proprio la scorsa settimana è stata firmata una proposta di legge da parte dell'Unione Europea che è il recovery restoration law è una proposta che speriamo diventi effettivamente concreta che mira ad andare oltre quello che è già stato fatto l'Unione Europea è stata molto proattiva nella difesa della biodiversità perché comunque ha creato la rete natura 2000 però quando si vanno a fare i bilanci o la direttiva habitat che molti non sanno neanche che cos'è però è una direttiva dell'Unione Europea che identifica specie habitat che sono di rilevanza per l'Europa e per i quali gli stati membri si impegnano ad adottare delle misure di tutela ogni sei anni gli stati membri devono fornire delle valutazioni fatte con dei metodi standardizzati per ognuno degli stati quello che si vede e che è stato pubblicato si trova sul sito di Iskra quello per l'Italia relativo al 2018 e quello che si vede è che in realtà ci sono tutte queste protezioni c'è la direttiva habitat ci sono la creazione di tutta una serie di siti di protezione la tutela effettiva in Italia e in Europa è un'altra cosa e non si raggiunge quindi questa restoration law si ispira proprio per arrivare invece a tutelare questo e per esempio a cambiare i sistemi agricoli perché uno degli ambienti delle cause maggiori di perdita di biodiversità sono proprio la produzione agricola per esempio che in realtà non vuol dire per forza andare al biologico vuol dire diversificare il territorio ci sono tutta una serie di cose che non abbiamo tempo di trattare però diciamo che la direzione adesso dell'Unione Europea sarà quella di diminuire i pesticidi poi c'è il programma From Farm to Fork che mira proprio ad andare a legare di più una sostenibilità ambientale con la produzione agricola e anche questo avere significa avere cura del territorio mantenere la biodiversità pur mantenendo un sistema produttivo ma va cambiato ok e se volessimo fare una panorama cioè cercare di capire a livello italiano adesso abbiamo citato tanto l'Unione Europea e ovviamente l'uno è legato all'altro ci mancherebbe però a voler cercare di dare un occhio un po' più stretto sull'Italia che comunque si sa che è nota per avere tante specie endemiche quindi insomma in termini di biodiversità non è non è da poco l'Italia è uno dei paesi in Europa più ricco in assoluto in biodiversità e adesso noi possiamo dire come stiamo messi rispetto all'Europa e soprattutto cosa stiamo facendo per tutelare la biodiversità perché tu hai iniziato praticamente dicendo che è quasi una cenerentola in realtà è spesso un po' abbandonata allora sì diciamo che non siamo messi malissimo per alcuni aspetti nel senso noi abbiamo una grandissima ricchezza di specie perché abbiamo una conformazione proprio della nostra penisola che è particolare quindi permette di avere tanti endemismi cioè animali o piante che si trovano solo da noi la realtà delle cose è che abbiamo circa l'11% del territorio protetto non sempre però è il 19% che è occupato dalle reti Natura 2000 quindi da queste reti europee non sempre ha una tutela quando si parla di parchi sì però non sempre la tutela poi è effettiva o comunque sorvegliata o garantita all'interno di questi siti soprattutto quelli che appunto poi non hanno magari un ente di gestione come possono essere le aree protette le aree protette esistono ma non possiamo garantire di conservare la biodiversità delle piccole isole ci vuole una connessione fra ecosistemi ci vuole un sistema che vada oltre il tutelare il singolo pezzo di terra il singolo perimetro ma cercare di migliorare una connessione e invece noi se leggiamo tutti i rapporti di Ispra che vengono pubblicati e si trovano sul loro sito abbiamo un consumo del suolo continuo abbiamo una situazione molto compromessa soprattutto a livello di acque interne perché l'ecosistema che in assoluto è più danneggiato in Italia anche in Europa esatto i fiumi i laghi e conseguentemente sono danneggiati quelli sono danneggiati tutte le specie che ospitano e la situazione è abbastanza invariata per mammiferi peggiorata per anfibi erettili per esempio e per gli uccelli ci sono state alcune specie che hanno beneficiato in Italia ma per esempio proprio l'Unione Europea in altre forme di controllo che è il PSR il piano di sviluppo rurale chiede di misurare quello che viene chiamato Farmland Bird Index cioè sarebbe la diversità degli uccelli nei suoi ecosistemi agricoli proprio con le misure del Farmland Bird Index si è visto che in Italia per esempio è un po' varia la questione quindi soprattutto in pianura padana come ce lo possiamo aspettare abbiamo un calo verticale insomma delle specie nell'andamento negli anni e quindi una biodiversità che va a calare e questo è dovuto a una gestione del territorio che differenzia poco l'ambiente monoculture nessuna siepe nessun specchio d'acqua niente che possa diversificare il paesaggio e creare delle opportunità per queste specie di esistra questo si sommano i pesticidi certo ma una curiosità tu adesso hai detto che diciamo i due gruppi di animali in cui si sono osservati dei cali sono anfibi e rechili c'è una spiegazione per questo cioè in qualche modo risultano più vulnerabili a quelli che sono i fattori di impatto della biodiversità quindi adesso l'inquinamento a livello globale sono fra gli animali cioè diciamo in realtà vi è tutto impattato è una cosa che per esempio fa molta specie è pensare che un gruppo animale che sta calando in maniera drammatica non tutti perché poi è un po' come quando si parla di riscaldamento climatico e uno dice però quest'anno ha fatto freddo sì perché c'è delle variazioni quindi alcune specie declinano drammaticamente altre specie invece riescono ad adattarsi meglio quindi magari ne vedi anche di più però per esempio qualcosa che sta cambiando è nel numero degli insetti avresti mai detto che gli insetti sono così vulnerabili eppure sì gli insetti stiamo osservando un declino a livello globale in molte specie tra quelli in cui si osserva di più il declino probabilmente sicuramente in moltissime specie di insetti in moltissimi e anfibi erettili pure sono molto fragili gli anfibi sono colpiti sia appunto dal fatto che le acque interne sono in generale un ecosistema che viene molto sfruttato per i nostri scopi e anche da un'altra minaccia che in realtà è trasversale occupa un po' tutti gli aspetti delle biodiversità che è quella dell'introduzione di specie aliene invasive nel caso degli anfibi quello che è successo è che attraverso il trasporto di specie aliene quindi specie che sono trasportate in ambienti in cui non sarebbero mai arrivate spontaneamente ma dall'azione umana è arrivata in diverse parti del mondo questa malattia della pelle la fungo la criti di omicosi che spero di aver detto giusto perché la sbaglio sempre che sta impattando tantissime proprietà quindi scomparsa dell'habitat conversione all'agricoltura malattie portate attraverso il commercio di specie aliene è tutto un combino che è un cocktail esplosivo anche il discorso delle specie aliene che sono noteriamente una delle principali minacce a molte specie endemiche e tu dici arriva nuova specie quindi di fatto arricchisce la biodiversità sia dal punto di vista genetico sia dal punto di vista di specie e così via quando di fatto il rischio ovviamente è di andare ad appiattire quello che già hai di fatto è tutta una trasformazione anche su questo c'è un grosso problema di comunicazione come in tutto cioè quindi la biodiversità in generale viene un po' ignorata un po' una cenerentola perché mi parlavi di fondi ecco i fondi in Italia in generale sono veramente pochi per chi vuole lavorare nel campo della protezione alla natura dello studio della biodiversità è un ambiente io adesso mi occupo di mammiferi da sempre e quindi magari conosco meglio questo ambito ma in generale è molto difficile reperire i fondi molti fondi vengono proprio dall'Unione Europea in realtà su questo con il programma finanziario Life ma una studio pubblicato da poco stima che copre il 19% di quanto è necessario se vogliamo effettivamente tutelare la biodiversità niente bene mi sa che se no ci chiudono dentro facciamo la notte al museo però quindi è giusto sparare i lupi non mi ricordo ho visto tutti i messaggi che sono emersi sul spariamo lupo spariamo lupo cosa è successo hanno sparato di più il lupo dopo i vari inviti a sparare il lupo no il lupo è una specie protetta proprio dalla direttiva avvitata dalle leggi europee quello che sicuramente si può dire è un esempio di specie carismatica che assorbe un po' tutte le energie magari su o anche altre specie che sono un po' meno vincenti dal punto di vista di immagine ma che meritano assolutamente attenzione perché appunto il messaggio chiave è che la biodiversità e la perdita di biodiversità non è assolutamente secondaria ad altri problemi come il cambiamento climatico o l'inquinamento le cose sono tutte molto collegate fra di loro ma perché gli ecosistemi possano essere reattivi rispetto ai cambiamenti bisogna che funzionino e se non hanno le loro componenti non saranno in grado di farlo poi sicuramente l'evoluzione è fatta di continuo cambiamento quindi probabilmente ci saranno nuove specie che riusciranno a vivere in ambienti profondamente alterati non è detto che ci garantiscano però quell'ambiente in cui noi stessi siamo in grado di vivere certo bene grazie anche a Laura e ad Anna per questo insight nella biodiversità direi che abbiamo fatto un giro abbastanza ampio è strenuo perché insomma siamo alle 10 di mattina qui al museo abbiamo toccato tantissimi argomenti ho scritto conclusioni perché di solito si scrive conclusioni ma non è che ho delle conclusioni particolari da fare quindi siete fortunati che non è che ci mettiamo qui adesso a fare delle conclusioni se non come avete capito l'anima di scienze in rete è anche questa è dire le voci della scienza se ci sarà un futuro delle voci della scienza quello di toccare di lavorare molto sull'ambiente sulla politica sul rapporto scienza e politica su questi aspetti ai quali vi invitiamo a partecipare sia come autore autrici sia come insomma nella forma che vorrete anche per questo per questo questa sfida quella della transizione ecologica che ci vede molto impegnati da vari punti di vista anche per questa cosa di scienze in parlamento e anche per il futuro che scienze in rete spero abbia proprio per anche i podcast come nuova forma come nuova come forma di comunicazione che può diventare insomma un appuntamento periodico anche sul nostro anche sul nostro sito quindi vi ringrazio per la durabilità della vostra presenza la vostra attenzione e ci vedremo spero presto e ci sentiamo grazie a tutti e alla prossima e voglio ringraziare soprattutto la in fondo che fanno parte integrante della redazione Sergio Cima e Giuseppe Lucera e Paolo Recalcati che hanno reso possibile questo evento grazie grazie a tutti